il fedele amico dell'uomo. Dov'è Jimmy, cara? Chiese il signore Anderson. Sullo cratere, disse la signora Anderson. Non gli succederà niente, c'è Robotolo con lui. È arrivato. Eh sì, è alla base d'atterraggio dei razzi. Lo stanno sottoponendo ai vari test. A dire la verità, anch'io non vedo l'ora di vederlo. Non ne ho visto più uno da quando ho lasciato la Terra, 15 anni fa. Se escludo le immagini dei film che però non contano. Jimmy non ne ha mai visto uno, disse la signora Anderson. Eh, perché è nato sulla Luna e non può visitare la Terra. È per questo che ne ho fatto venire uno qui. Credo sia il primo che mette piede sulla Luna. È costato parecchio, disse la signora Anderson con un breve sospiro. Eh, non è che costi poco nemmeno mantenere Robotolo, disse il signore Anderson. Jimmy era sul cratere, come aveva detto sua madre. Secondo il metro di valutazione terrestre, era un ragazzino esile, ma abbastanza alto per i suoi dieci anni. aveva braccia e gambe lunghe e agili. Sembrava più grosso e tarchiato con la tuta spaziale indosso, ma nella gravità lunare si destreggiava molto meglio di qualsiasi persona nata sulla Terra. Quando Jimmy, tendendo le gambe, spiccava il salto del canguro, suo padre non riusciva neanche lontanamente a stargli dietro. Il lato esterno del cratere scendeva verso sud, e la terra, che era bassa nel cielo a sud, dove si trovava sempre vista da Lunar City, era quasi piena, sicché tutto il pendio era vivamente illuminato. Il declivio era dolce e Jimmy, nonostante il peso della tuta, non poteva resistere alla tentazione di slanciarsi in su con un grande balzo che gli fece sembrare inesistente la gravità. «Vieni, Robotolo!», gridò. Robotolo, cui la voce del bambino giungeva attraverso la radio, guai e si buttò a rincorrerlo. Per quanto esperto, Jimmy non riusciva a battere Robotolo, che non aveva bisogno della tuta e aveva quattro zampe e tendini d'acciaio. Robotolo, con un salto survolò Jimmy, fece una capriola e atterrò quasi capovolto. «Non esagerare con le prudezze, Robotolo!», disse il bambino, «e non allontanarti dalla vista!». Robotolo guai di nuovo, con quel guaito particolare che significava «sì». «Non mi fido di te, Berbante!», gridò Jimmy e spiccò un ultimo salto che gli fece superare l'orlo arrotondato delle cratere e lo portò sulla parete interna. La terra scomparve dietro la cima del pendio ed un tratto, intorno al bambino, fu buio pesto. Un'oscurità calda e amichevole che, se non fosse stato per le stelle luccicanti, avrebbe cancellato del tutto la differenza tra il suolo e il cielo. In realtà, Jimmy non avrebbe dovuto giocare lungo il lato buio della parete del cratere. Gli adulti dicevano che era pericoloso, ma lo dicevano perché non ci andavano mai. Il terreno era liscio e friabile e Jimmy sapeva bene dove si trovassero le poche rocce presenti. E poi, come poteva essere pericoloso correre nel buio quando c'era con lui robotolo, che saltellava e guaiva e faceva luce tutto intorno. Anche senza luce, avrebbe potuto dirgli dove si trovava e dov'era lui adesso, con il radar. A Jimmy non poteva succedere niente finché aveva accanto il suo amico, che lo bloccava quando capitava troppo vicino a una roccia. Gli piantava le zampe addosso per dimostrargli il suo affetto e si aggirava qui e là senza posa, uggiolando piano e fingendosi spaventato quando Jimmy si nascondeva dietro un masso la cui ubicazione robotolo conosceva benissimo. Una volta Jimmy si era messo a giacere immobile, dando a intendere di essere ferito, e il robotolo aveva suonato l'allarme radio, facendo arrivare in gran fretta la gente di Lunar City. Il padre di Jimmy aveva rimproverato robotolo per quello schiorzetto e Jimmy si era ben guardato dal ripeterlo. Proprio mentre stava ripensando a queste cose, il ragazzo sentì la voce di suo padre sulla sua lunghezza d'onda personale. Jimmy, torna a casa, ho una cosa da dirti. Jimmy si tolse la tuta spaziale e si lavò. Bisognava sempre lavarsi quando si veniva dal di fuori. Perfino il robotolo doveva farlo, ma gli piaceva. Se ne stava ritto sulle quattro zampe, col piccolo corpo lungo una trentina di centimetri che luccicava, la testa senza bocca, due grandi occhi vitrei e il bernoccolo contenente il cervello che tremava un poco. Guaiva insistentemente finché la signora Anderson diceva buona robotolo. Abbiamo qualcosa per te, Jimmy, disse il signore Anderson sorridente. Adesso si trova alla base di atterraggio, ma l'avremo qui domani, dopo che i test saranno terminati. Ho pensato di dirtelo fin da ora. Qualcosa che viene dalla terra, papà? Sì, figliolo. Un cane. Un cane, è vero. Un cucciolo di terriere scozzese. Il primo cane che sia mai arrivato sulla luna. Non avrai più bisogno di robotolo. Sai, non possiamo tenerli entrambi e robotolo andrà a qualche altro bambino. Fece una pausa come aspettando che Jimmy dicesse qualcosa, poi continuò. Sai che cos'è un cane, Jimmy? È l'originale. La creatura vera. Robotolo è solo un'imitazione meccanica. Un botolo robot. È da lì che viene il nome. Jimmy ha grotto la fronte. Robotolo non è un'imitazione, papà. È il mio cane. Non è un animale in carne e ossa, Jimmy. È solo acciaio, fili e semplice cervello positronico. Non è vivo. Fa tutto quello che gli dico di fare, papà. Mi capisce. Davvero, è vivo. No, figliolo. Robotolo è solo una macchina. È stato programmato a comportarsi come si comporta. Un cane, invece, è vivo veramente. Non sentirai la mancanza di robotolo dopo che avrai visto il cucciolo. Al cane occorrerà una tuta spaziale, no? Eh sì, naturale. Ma varrà la pena spendere i soldi che costa e vedrai che il cane ci si abituerà. E poi non ne avrà bisogno dentro Lunar City. Ti accorgerai della differenza quando l'avrai qui. Jimmy guardò robotolo, che aveva ricominciato a gueire piano, molto piano, come se fosse spaventato. Tese le braccia e robotolo gli corse incontro. Che differenza c'è tra avere robotolo e avere il cane? Disse Jimmy. È difficile da spiegare, disse il signor Anderson. Ma te ne accorgerai subito. Il cane ti amerà sul serio. Robotolo è solo condizionato ad agire come se ti amasse. Ma papà, non sappiamo mica cosa c'è dentro del cane o quali sono i suoi sentimenti. Forse anche lui finge. Il signor Anderson ha grotto la fronte. Ma Jimmy, capirai la differenza quando avrai visto con i tuoi occhi cosa sia l'affetto che ti può dare un essere vivente. Jimmy strinse forte al petto robotolo. Anche lui, come il padre, era corrucciato e, dall'espressione determinata che gli si leggeva in viso, si intuiva che non avrebbe cambiato idea. Disse, ma che differenza fa tra il comportamento dell'uno e quello dell'altro? E non pensi a quello che sento io. Voglio bene al robotolo. Ed è solo questo che conta. E il piccolo botolo robot, che non era mai stato abbracciato così forte in tutta la sua esistenza, emise una serie di rapidi e acuti guaiti. Guaiti di felicità. Un giorno, Nicolò Mazzetti, sdraiato a pancia in giù sul tappeto, si sorreggeva il mento col palmo della mano e ascoltava sconsolato il bardo. Nei suoi occhi neri c'era perfino un accenno di pianto, un lusso che un ragazzino di undici anni poteva concedersi solo quando era solo. Il bardo disse, c'era una volta un povero taglialegna vedovo che viveva nel fitto della foresta con le sue due figlie, entrambe belle come la luce del giorno. La maggiore aveva lunghi capelli neri, come le piume dei corvi, mentre la minore aveva capelli piondi, che splendevano come le sole nei pomeriggi d'autunno. Spesso, quando le due ragazze aspettavano che il padre tornasse dal suo lavoro nel bosco, la più grande si sedeva davanti a uno specchio e cantava. Che cosa cantasse Nicolò non riuscì a sentirlo perché fu interrotto da un grido che proveniva da fuori. Hey Nicky! Illuminandosi in viso per un attimo, Nicolò corse alla finestra ed esclamò. Ciao Paul! Paul Loeb agitò leggermente una mano. Era più magro di Nicolò e meno alto, benché avesse sei mesi più di lui. Si vedeva che era elettrizzato e arreprimeva a stento la tensione perché batteva le palpebre più rapidamente del solito. Dai Nicky, fammi entrare! Ho un'idea grandiosa, se sapessi! Si diede una brave occhiata intorno, come se qualcuno potesse essere in ascolto, ma il giardino era completamente deserto. Se sapessi! Ripetei in un sussurro. Va bene, ti apro. Ignaro di avere perso il suo ascoltatore, il bardo continuò imperterrito la sua storia e quando entrò Paul stava dicendo. E allora il leone disse. Se troverai per me l'uovo dell'uccello che vola sopra la montagna d'Ebano ogni dieci anni e che è andato perso, io... Cosa stavi ascoltando, il bardo? Disse Paul. E non sapevo che ne avessi uno. Niccolò arrossì e la sua espressione tornò a flitta. È solo un vecchio aggeggio che mi comprarono quando ero piccolo. Non è un granché. Diede un calcio al bardo colpendo la plastica graffiata e scolorita che ricopriva i circuiti elettrici. Il bardo si inceppò a causa della momentanea interruzione del contatto che gli consentiva di parlare. Poi riprese. Per un anno e un giorno, finché le scarpe di ferro si fossero consumate, la principessa si fermò al lato della strada. Ehi, ma è un modello proprio vecchio, disse Paul guardandolo con aria critica. Nonostante ce l'avesse in cuor suo con il bardo, Niccolò si seccò per il tono di degnazione dell'amico e per un attimo si pentì di averlo fatto entrare. O meglio, di averlo fatto entrare prima che la macchina fosse stata riportata nel suo solito posto, in cantina. L'aveva tirata fuori solo per combattere la noia e per consolarsi della discussione infruttuosa che aveva avuto con suo padre. E l'idea si era rivelata stupida, come era del resto prevedibile. Poi c'era il fatto che Niccolò aveva un po' soggezione di Paul. Paul frequentava corsi speciali a scuola e dicevano tutti che da grande sarebbe diventato tecnico dei computer. Non che Niccolò fosse un cattivo alunno e aveva voti discreti in logica, manipolazioni binarie, calcolo e circuiti elementari, le materie che si studiavano in prima media. Ma erano appunto quelle normali materie da prima media che gli avrebbero consentito un giorno di diventare un qualsiasi addetto ai quadri di controllo. Paul invece conosceva i segreti dell'elettronica, della matematica pura e della programmazione. Soprattutto della programmazione. Niccolò non tentava nemmeno di capire quando il suo amico blaterava su quegli argomenti. Paul ascoltò il bardo per un po' e disse, l'hai usato molto? No, disse Niccolò risentito, lo tenevo in cantina da prima che tu ti trasferissi in questa zona. L'ho tirato fuori solo oggi. Non riuscì a trovare una scusa che gli paresse adeguata e così ripetì, solo oggi. E sa parlare unicamente di taglialegna e principesse e animali parlanti? Disse Paul. Già, è un disastro, ammise Niccolò. Papà dice che non possiamo permettercene uno nuovo. Proprio stamattina gli avevo chiesto. Ricordando le sue inutili suppliche, Niccolò si sentì quasi spuntare le lacrime e le soffocò subito, terrorizzato all'idea che Paul le vedesse. Per qualche motivo si era fatto l'idea che Paul non piangesse mai e che avrebbe potuto solo disprezzare chi si fosse dimostrato meno forte di lui. Così ho pensato di rimettere in funzione questo vecchio arnese, continuò. Ma guarda che risultati. Paul spense il bardo per mettere il contatto tramite il quale si riorientavano e ricombinavano quasi istantaneamente il vocabolario, i personaggi, gli intrecci e gli epiloghi delle storie, poi riattivò l'apparecchio. Il bardo cominciò tranquillo. C'era una volta un bambino di nome Willikins, che era orfano di madre e viveva col patrigno e con un fratellastro. Benché fosse molto ricco, il patrigno allesinava al povero Willikins perfino il letto in cui dormire, sicché il bambino era costretto a passare la notte su un mucchio di paglia, nella stalla dove erano i cavalli. «I cavalli!» esclamò Paul. «Sono animali, credo!» disse Nicolò. «Eh, lo so, è che mi pare assurdo raccontare storie dove si parla dei cavalli!» «Lo fa continuamente!» disse Nicolò. «Ci sono anche animali chiamati mucche. Danno il latte, ma il bardo non dice in che modo.» «Beh, ma perché non lo ripari?» «Se sapessi come si fa!» Il bardo stava dicendo. Spesso Willikins pensava che se solo fosse stato ricco e potente avrebbe fatto vedere lui al patrigno e al fratellastro. Cosa voleva dire subire una crudeltà? Specie quando si era bambini. E così un giorno decise di andare per il mondo in cerca di fortuna.» Paul che non stava ascoltando il bardo disse. «È semplice. Il bardo ha diversi cilindri di memoria sistemati in modo da dare un certo tipo di intreccio e di epilogo, ma a quelli non occorre toccarli. Basta cambiare il vocabolario così da insegnargli tutto sui computer, l'automazione, l'elettronica e le cose reali della nostra vita quotidiana. Quando l'avremo fatto racconterà storie interessanti e non parlerà più di principesse e robe del genere.» «Sarebbe bello», disse Nicolò scoraggiato. «Sai», disse Paul, «mio padre dice che se l'anno prossimo riuscirò a entrare nella scuola speciale per tecnici, mi comprerà un bardo vero, ultimo modello, un aggeggio molto grande, con un attacco per le storie spaziali e i gialli e anche un attacco visivo. Vuoi dire che le storie si possono vedere?» «Certo, il signor Dogherty a scuola dice che cose del genere sono in commercio, ma che semplicemente non sono alla portata di tutti. Solo se riuscirò a entrare nella scuola per tecnici, papà, potrà ottenere un buono sconto.» Nicolò strabuzzò gli occhi, pieno di invidia. «Che bello poter vedere la storia!» «Eh, potrai venire a guardarla quando vorrai, Nicky.» «Wow, grazie!» «Eh, di niente. Ma ricordati che decidero io quale storia ascoltare.» «Eh, certo, certo», disse Nicolò, pensando che avrebbe accettato subito anche condizioni molto più onerose. Il bardo intanto continuava a raccontare. «Se le cose stanno così», disse il re carezzandosi la barba e aggrottando la fronte finché il cielo si riempì di nubi e di lampi. «Provedete a che tutta la mia terra venga liberata dalle mosche. Entro dopodomani a quest'ora, se no...» «Basta aprirlo», disse Paul e per la seconda volta spense la macchina e cominciò a tirare il pannello davanti. «Ehi!» fece Nicolò di colpo preoccupato. «Non romperlo!» «No, che non lo rompo», disse Paul spazientito. «Li conosco benissimo, questi aggeggi.» Poi, fattosi improvvisamente più prudente, disse «Tuo padre e tua madre sono in casa?» «No.» «Bene.» Tolse il pannello e guardò dentro. «Ragazzi, ma è un affare a un solo cilindro!» Continuò ad armeggiare intorno ai meccanismi interni del bardo. Nicolò, che lo stava a guardare con un senso di ansia e di pena, non riusciva a capire cosa stesse facendo. Paul tirò fuori una striscia di metallo sottile e flessibile, tutta ricoperta di puntini. «Questo è il cilindro della memoria», disse. «Scommetto che il numero di storie che è in grado di fornire è inferiore a un trilione.» «E adesso cosa fai, Paul?» chiese Nicolò con voce tremula. «Gli fornisco il vocabolario giusto.» «E in che modo?» «Semplice. Ho qui con me un libro che mi ha dato il signor Dogert a scuola.» Lo tirò fuori di tasca e gli tolse la copertina di plastica. Srotolò un po' il nastro, lo passò per il vocalizzatore, che abbassò al livello di un susurro, poi lo piazzò all'interno del bardo. Infine operò altri collegamenti. «Adesso cosa succederà?» chiese Nicolò. «Il libro parlerà e il bardo lo registrerà tutto sul suo nastro di memoria.» «E allora?» «Ehi, amico, sei proprio un incantato! Il libro dice tutto sui computer e l'automazione e il bardo farà sue queste informazioni, così la smetterà una buona volta di parlare di re che fanno venire la pioggia e i lampi quando aggrottano la fronte.» Nicolò disse. «E la smetterà anche con quei finali dove i buoni vincono sempre sui cattivi. Non c'è gusto.» «Vabbè», disse Paul mentre controllava se le sue correzioni funzionassero a dovere. «E' così che costruiscono i bardi. I buoni devono avere per forza la meglio sui cattivi. E una volta mio padre ha detto che se non ci fosse la censura, i ragazzi potrebbero crescere peggio. E già adesso non crescono mica tanto bene. Ecco, ora funziona alla perfezione.» Paul si fregò le mani soddisfatto, si allontanò dal bardo e disse. «Senti, non ti ho ancora detto qual era la mia idea. È fantastica, sai. Sono venuto subito da te perché ho pensato che ti saresti senz'altro unito a me.» «Certo, certo, Paul.» «Bene. Conosci il signor Dogerti, no? Sai che tipo simpatico sia. Ecco, io gli vado abbastanza genio, credo. Eh, lo so. Sono stato a casa sua dopo la scuola oggi.» «Davvero?» «Eh, sì. Dice che sono destinato a frequentare la scuola dei tecnici di computer e vuole incoraggiarmi ad andare avanti per la mia strada. Dice che il mondo ha bisogno di gente in grado di progettare circuiti complessi e di elaborare i programmi giusti.» «Cosa?» Paul probabilmente colse il vuoto che c'era dietro quella domanda e spazientito disse. «I programmi giusti!» «Te ne ho parlato un centinaio di volte. Programmazione significa proporre nel modo più corretto i problemi su cui debbono lavorare computer giganteschi come il Multivac.» Il signor Dogerti dice che è sempre più difficile trovare persone capaci di far funzionare veramente un computer. Dice che chiunque sa sorvegliare i comandi, controllare le risposte e proporre problemi di ordinaria amministrazione, ma che allargare la ricerca ed escogitare il modo di rivolgere le domande giuste è tutt'altro che semplice. In ogni caso, Nicky, mi ha fatto andare da lui e mi ha mostrato la sua collezione di vecchi computer. Ne aveva di piccolissimi, pieni di minuscoli tasti che bisognava premere manualmente e aveva un pezzo di legno con una parte fissa e una parte scorrevole, chiamato regolo calcolatore. Poi ho visto un affare con tanti fili e tante palline infilate dentro. Mi ha mostrato addirittura un pezzo di carta con una cosa che lui ha definito tavola pitagorica. Nicolo, che non era particolarmente interessato all'argomento, disse «una tavola di carta?». Non era una vera e propria tavola come quelle su cui si mangia. Era una roba diversa e una volta aiutava la gente a fare i calcoli. Il signor Dogerti ha cercato di spiegarmi come funzionava, ma aveva poco tempo e la faccenda era piuttosto complicata. «Perché la gente non usava semplicemente il computer?». «Ma sto parlando di prima che venissero inventati i computer», disse Paul. «Prima? Eh, certo. Credevi che fossero sempre esistiti? Non hai mai sentito parlare degli uomini delle caverne?» «E come facevano senza i computer?», disse Nicolo. «Eh, non lo so proprio. Il signor Dogerti dice che si limitavano ad avere dei figli quando capitavano e a fare tutto quello che veniva loro in testa di fare, senza pensare se fosse bene o male. Non sapevano nemmeno distinguere tra il bene e il male. E gli agricoltori coltivavano la terra con le loro mani, ed erano gli esseri umani a dover lavorare nelle fabbriche e a far funzionare tutte le macchine. «Non ci credo», è così, ha detto il signor Dogerti. Ha detto che era un vero macello e che tutti quanti erano infelici. Ma veniamo alla mia idea, se non ti dispiace. «No, certo, dippure. Non sono mica io che ti trattengo», disse Nicolo risentito. «Va bene. Devi sapere che i calcolatori manuali, quelli dotati di piccoli tasti, hanno alcuni geroglifici su ciascun tasto e che il regolo calcolatore ha anch'esso segni simili sopra. Lo stesso discorso vale per la tavola pitagorica. Ho chiesto al signor Dogerti cosa fossero e lui ha detto che erano numeri. Che cosa? Ciascun segno indica un numero diverso. Per uno fai un certo tipo di scarabocchio, per due un altro e per tre un altro ancora e così via». «Ma che servono?» «A eseguire i calcoli». «Ma va, basta dire al computer». «Cavolini chi», disse Paul alterato dalla rabbia. «Te lo vuoi ficcare in testa che gli aggeggi tipo regolo calcolatore non parlavano». «Allora come?» Le risposte venivano date con gli scarabocchi, per cui bisognava naturalmente sapere cosa significasse ognuno di loro. Il signor Dogerti dice che ai vecchi tempi tutti imparavano da piccoli a conoscere i geroglifici e a decodificarli. Fare geroglifici si chiamava scrivere e decodificarli si chiamava leggere. Il signor Dogerti dice che c'era un diverso tipo di geroglifico per ciascuna parola e che la gente scriveva libri interi pieni di quegli scarabocchi. Mi ha anche detto che al museo ne hanno qualche esemplare e che posso darvi un'occhiata se voglio. «Secondo lui, se desidero diventare un vero tecnico programmatore, devo imparare a conoscere la storia del calcolo. Per questo mi ha fatto vedere tutte quelle cose». Nicolo ha grotto la fronte. «Intendi dire che la gente doveva per ogni parola calcolare una serie di geroglifici e ricordarli?» «È vero o te lo sei inventato tu?» «È verissimo, ti giuro. Guarda, così si fa l'uno». Fece un segno nell'aria col dito. E così si faceva il 2 e il 3. Ho imparato tutti i nomi di fino al 9. Nicolo guardò l'amico disegnare i simboli nell'aria. Non si capacitava che le cose stessero davvero così. «Ma che utilità possono avere per noi questi geroglifici?» «Si può imparare a comporre diverse parole. Ho chiesto al signor Dogerti qual era il geroglifico per Paul Loeb, ma non lo sapeva. Ha detto però che al museo ci sono persone che lo sanno e che hanno imparato a decodificare interi libri. Ha detto che si potrebbero progettare computer capaci di decodificare i libri, ma che questi libri una volta decodificati avrebbero solo un valore storico perché noi ora non abbiamo quelli veri, con i nastri magnetici che passano per il vocalizzatore e vengono fuori che parlano. Eh sì, certo. Perciò se andiamo al museo possiamo imparare a comporre parole con i geroglifici. Ci lasceranno fare perché io fra non molto frequenterò la scuola per tecnici di computer». «Sarebbe questa la tua idea?» disse Nicolò, profondamente deluso. «Santa Polenta, che ha voglia di fare una cosa del genere Paul, degli stupidissimi geroglifici. Ma non capisci, non capisci, scemo. Sarà il materiale giusto per i messaggi segreti». «Eh? Sì, certo. Che gusto c'è a parlare quando tutti capiscono quello che dici? Con i geroglifici si possono spedire messaggi segreti. Lì si traccia su un pezzo di carta e nessuno mai potrà sapere quello che hai voluto comunicare, a meno che non conosca anche lui i geroglifici. E come fa a conoscerli? Solo noi potremmo insegnarglieli. Possiamo fondare un vero e proprio club, con la sua cerimonia d'iniziazione, le sue regole e la sua sede. Una cosa fantastica!» Nicolò cominciò a sentire anche lui una certa euforia. «Che tipo di messaggi segreti?» «Qualsiasi tipo. Metti che voglia dirti di venire a casa mia a guardare il mio nuovo bardo visivo e che non voglia far venire nessun altro. Segno i geroglifici giusti sulla carta. Tu prendi il biglietto, lo guardi e sai cosa devi fare. Nessun altro può capire. Puoi perfino mostrare il foglietto in giro senza timore di rivelare il contenuto del messaggio». «Beh, però mica male!» esclamò Nicolò ormai completamente convinto. «Quando cominciamo a imparare i geroglifici?» «Domani», disse Paul. «Dirò al signor Dogherty che spieghi a quelli del museo che intendo andare lì. Tu intanto ti farai dare il permesso da tuo padre e da tua madre. Possiamo passare dal museo subito dopo la scuola e iniziare i nostri studi». «Certo», disse Nicolò. «E nel club potremmo ricoprire delle cariche importanti». «E io sarò il presidente», disse Paul con molta naturalezza. «Tu potrai fare il vicepresidente». «D'accordo! Cavoli, mi sa che sarà ben più divertente che ascoltare il bardo». D'un tratto, ricordatosi del bardo, aggiunse con apprensione. «Ehi, è il mio vecchio aggeggio!» Paul si girò a guardarlo. Stava tranquillamente assimilando il libro. Il rumore delle vocalizzazioni era appena appena audibile. «E ora lo stacco», disse. E si mise ad armeggiare sotto lo sguardo ansioso di Nicolò. Dopo alcuni attimi, Paul mise in tasca il suo libro riarrotolato, collocò di nuovo al suo posto il pannello di plastica del bardo e attivò quest'ultimo. Il bardo disse «C'era una volta, in una grande metropoli, un povero bambino di nome Fair Johnny, il cui unico amico al mondo era un piccolo computer. Il computer ogni mattina gli diceva che tempo avrebbe fatto quel giorno e rispondeva tutti i suoi quesiti. Non sbagliava mai». Un giorno successe che il re di quella terra, avendo sentito parlare del piccolo computer, decise di impadronirsene. Con quel proposito in mente, mandò a chiamare il gran vizir e disse «Nicolò» spense il bardo con un rapido gesto. «Sempre le stesse scemenze», disse arrabbiato. «Solo che nella storia c'è di mezzo un computer?» «Beh», disse Paul, «c'è tanta di quella roba sul nastro che l'argomento computer non risulta molto in evidenza quando si fanno combinazioni casuali. In ogni modo, cosa ti importa? È di un modello nuovo che hai bisogno». «Non potremo mai permetterci di comprarne uno. Mi toccherà accontentarmi di questo sporco miserabile catorcio». Gli diede un calcio, colpendolo sul davanti. Il bardo si spostò indietro con uno squittio da ruditore. «Potrai sempre guardare il mio quando lavorò», disse Paul. «E poi non dimenticarti del nostro club. Nicolò a noi». «Ti faccio una proposta», disse Paul. «Andiamo a casa mia. Mio padre ha alcuni libri che parlano dei vecchi tempi. Potremo ascoltarli, così ci facciamo un'idea. Lascia un appunto per i tuoi genitori. Chissà che tu non possa restare da me a cena. Su, vieni». «Va bene», disse Nicolò. E mentre entusiasta correva fuori con l'amico, andò a sbattere contro il bardo. Si fermò solo un attimo, per fregarsi il fianco nel punto dove aveva sbattuto. Poi proseguì la sua corsa. Il segnale di attivazione del bardo brillò. L'urto di Nicolò aveva chiuso un circuito e, benché non ci fosse nessuno nella stanza da ascoltare, la macchina cominciò a narrare una storia. Non aveva però la sua solita voce. Per qualche motivo il tono era più basso, con una sfumatura gutturale. Una persona adulta che fosse stata in ascolto avrebbe potuto quasi pensare che in quella voce ci fosse un accenno di passione, l'eco lontana di un sentimento. Disse il bardo, «C'era una volta un piccolo computer di nome bardo che viveva con crudeli padrigni e fratellastri e si sentiva molto solo. I crudeli padrigni e fratellastri lo prendevano in giro e lo schernivano in continuazione, gli dicevano che era un oggetto inutile, che non serviva a niente. Lo picchiavano e lo tenevano in stanze deserte per mesi e mesi di seguito. Un giorno il piccolo computer venne a sapere che nel mondo esistevano innumerevoli computer di tutti i tipi. Alcuni erano bardi come lui, ma altri mantenevano in funzione fabbriche e fattorie. Altri ancora servivano alla popolazione e analizzavano ogni genere di dati. Molti erano assai potenti e saggi, ben più potenti e saggi dei padrigni e dei fratellastri che si comportavano così crudelmente col piccolo computer. Il piccolo computer capì allora che i suoi compagni sarebbero diventati sempre più saggi e potenti finché un giorno, un giorno, un giorno. Ma nelle parti vitali ormai vecchie e consunte doveva essere saltato un transistor perché, mentre aspettava tutto solo che venisse la sera, nella stanza sempre più boia il bardo non poteva fare altro che ripetere più e più volte. Un giorno, un giorno, un giorno. Sally scendeva lungo la strada che conduce al lago. La salutai con la mano e la chiamai per nome. Ero sempre contento di vederla. Mi piacevano tutte, ma a lei era la più graziosa. Su questo non c'era alcun dubbio. Quando mi vide agitare la mano, affrettò un poco l'andatura, ma senza scomporsi. Non perdeva mai la sua dignità. Avanzò soltanto un poco più in fretta, quel tanto che bastava per mostrare che anche lei era contenta dell'incontro. E girai verso l'uomo che stava in piedi accanto a me. Quella è Sally, dissi. Lui sorrise e annui. La signora Hester, che l'aveva fatto entrare, disse. Questo è il signor Gellorn, Jake. Vi aveva scritto per fissare un appuntamento, ricordate? Eh, poteva darsi benissimo, ma io ho sempre un sacco di cose da fare alla fattoria e non ho certo tempo da perdere con la corrispondenza. Proprio per questo ho assunto la signora Hester. Vive qui vicino. Sa occuparsi di tutte queste stupidaggini senza venire ogni momento a rompermi le scatole. E soprattutto, le piacciono Sally e gli altri. È cosa che invece a molti non va. Lieto di fare la vostra conoscenza, signor Gellorn, dissi. Raymond G. Gellorn. Si presentò lui, tendendomi la mano, che strensi in fretta per lasciarla subito. Era un tipo robusto, più alto di me e con le spalle più larghe. Dimostrava una trentina d'anni, la metà dei miei. I capelli neri e impomatati erano divisi nel mezzo della scriminatura. I baffetti leggeri apparivano accuratamente tagliati e le mascelle si allargavano ai lati della faccia, tendogli l'aria di un tipo con gli orecchioni. Ma la televisione gli avrebbero certo assegnato la parte del malvagio, il che sta a dimostrare che qualche volta il video ha ragione. «Io sono Jacob Fulkers», dissi. «Che posso fare per voi?» Lui rise. Un ghigno largo, io regolare, in un lampeggiare di denti candidi. «Raccontatemi qualcosa sulla fattoria, se non vi spiace!» Senti Sally avvicinarsi alle mie spalle e allungai la mano. La escivolò proprio sotto e il tocco del suo smalto duro e lucente mi diede una sensazione di calore. «Una bella automobile», disse Gellorn. Sally era una decapotabile 2045 con un motore positronico Hannes Carleton e con uno chassis Armat. Aveva la linea più bella ed elegante che si fosse mai vista in un'auto. Da cinque anni era la mia preferita e le riservavo tutte le cure possibili e immaginabili. In tutto quel tempo nessuno le si era mai seduto al volante, neppure una volta. «Sally», dissi dando le due o tre colpettini amichevoli, «saluta il signor Gellorn». L'orronfare soddisfatto del suo motore si accentuò leggermente. Ascoltai attentamente se ci fosse qualche battito in testa. Da un po' di tempo quasi tutte le auto battevano in testa e cambiare benzina non serviva a niente. Ma Sally tirava via liscia come la vernice che la ricopriva. «Date un nome a tutte le vostre auto!» e chiese a Gellorn. Sembrava divertito. Ma alla signora Esther non va la gente che si prende gioco della fattoria. Perciò rispose brusca. «Certamente, le auto hanno una loro personalità, vero Jake? Le berline sono tutte di sesso maschile e le decapotabili tutte di sesso femminile». L'uomo scoppiò a ridere di nuovo. «Le tenete in rimesse separate, signora!» Lei gli gettò un'occhiata forente. Infine Gellorn mi disse «Posso parlarvi a quattro occhi, signor Fulkers?» «Dipende», risposi io. «Siete un reporter?» «Neanche per sogno. Sono un commissionario. La nostra conversazione non sarà certo pubblicata. Vi assicuro che ci tengo moltissimo alla più rigorosa segretezza». «Facciamo due passi lungo la strada. Potremmo sederci su quella panchina laggiù». «Ci avviamo» e la signora Hester se ne andò per i fatti suoi. Sally ci venne dietro. «Non avete niente in contrario se viene con noi, vero?» chiesi. «Niente affatto. Non può certo raccontare quello che diremmo, no?» Rise divertito della propria battuta di spirito e, allungando una mano, strofinò la cuffia del radiatore dell'auto. Immediatamente il motore andò su di giri e l'uomo ritrasse svelto la mano. «Non è abituata a vedere stranei, spiegai». Sedemmo sulla panca ai piedi della grossa quercia, di dove si poteva scorgere, oltre il laghetto, la pista privata. Erano le ore più calde della giornata e le auto si trovavano tutte fuori. Ce n'erano almeno una trentina. Anche a quella distanza riusciva a scorgere Geremia e si esibiva nella sua solita bravata. Si avvicinava furtivo a qualche auto tranquilla, di modello più vecchio, poi accelerava di colpo con un balzo e la sorpassava con un grande fragore. Due settimane prima aveva mandato fuori strada Angus e io gli avevo spento il motore per due giorni. Comunque la punizione non era servita a niente e sembrava che non ci fosse modo di fargli capire la ragione. Geremia era un modello sportivo e le auto di quel genere hanno la testa calda. «Beh, signor Gellorn», dissi, «volete dirmi che cosa desiderate sapere?». Lui si guardò attorno. «E' un posto sorprendente, signor Fulkers», disse. «Chiamatemi Jake, lo fanno tutti». «Va bene, Jake. Quante auto ci sono qua dentro?». «51. Ne arrivano un paio tutti gli anni. L'anno scorso ne abbiamo accolte cinque». Non è ancora andata persa una e sono tutte in perfetta forma. C'è perfino una Mat-Q-Mot del 15 che funziona alla perfezione. Una delle prime automatiche. È stata anche la nostra prima ospite. Il buon vecchio Matthew, ora se ne stava quasi sempre in rimessa, era il nonno di tutte le vetture a motore positronico. Ai suoi giorni le usavano soltanto i ciechi di guerra, i paraplegici e i capi di stato. Ma Samson Herridge, il mio ex padrone, era abbastanza ricco da potersene comprare una. Io ero il suo autista a quel tempo. Se ci penso, mi sento terribilmente vecchio. Ricordo quando non c'era una sola auto al mondo, capace di tornarsene a casa da sé. Guidavo macchine autose e senza vita. La mano dell'uomo doveva manovrare continuamente i comandi e ogni anno quelle auto uccidevano migliaia di persone. Le automatiche misero fine a quel macello. Il cervello positronico reageva assai più rapidamente di quello umano e si poteva benissimo fare a meno di toccare i comandi. Si entrava, si selezionava la destinazione voluta e si lasciava fare all'auto. Ora tutto questo ci sembra naturale, ma ricordo quando uscì la prima legge che proibiva alle vecchie auto di correre sulle autostrade e permetteva il transito alle sole automatiche. Dio mio, che pieno! Si parlò di comunismo, di fascismo, ma le autostrade si liberarono e il massacro cessò. Naturalmente le automobili erano cento volte più costose di quelle ordinarie e non molti potevano permettersele. Così l'industria si specializzò nella costruzione di autobus automatici. Si poteva telefonare a una compagnia e farsene mandare uno alla porta in pochi minuti. Generalmente bisognava viaggiare con altre persone dirette nel medesimo luogo, ma che importava? Tuttavia a Samson Heritage si era comprato un'auto personale. Quell'auto non era ancora meteo per me allora. Non sapevo che sarebbe poi diventata l'anziana della fattoria. Sapevo soltanto che stava soffiandomi il posto e che la odiavo. Ora non avrete certamente più bisogno di me, signora Heritage, dissi quando vidi la vettura. Lui era già piuttosto vecchio e aveva i capelli bianchi, ma le guance rose e ben rasate gli davano l'aria di un ragazzino ed era uno degli uomini più ricchi del nord america. Cosa diavolo vi mettete in mente Jake? Mi disse. Non credete mica che io mi affidi ciecamente a un congegno strano come quello. Voi rimarrete ai comandi come al solito. Ma funziona da sì, dissi io. Esplora la strada, reagisce agli ostacoli, uomini o auto che siano e ricorda il percorso che deve seguire. Sono cose che si dicono, comunque non mi fido. Voi ve ne starete seduto al volante nel caso che qualcosa non funzioni. È strano che si possa arrivare a provare simpatia per un'auto. In men che non si dica la chiamai Matthew e passai la giornata a lustrarla e a sorvegliarne il motore pulsante. Un cervello positronico si conserva meglio quando può mantenere ininterrottamente il controllo dello chassis. Perciò vale la pena di tenere pieno l'eserbatoio della benzina in modo che il motore possa funzionare lentamente giorno e notte. Dopo un po' di tempo mi ero tanto affezionato che capivo dal rumore come si sentisse Matthew. Anche Harry già a modo suo gli si era affezionato. Non aveva nessun altro da amare. Aveva avuto tre mogli ma due erano morte e dall'ultima era divorziato. Anche i suoi cinque figlioli e i tre nepotini erano passati a miglior vita. Così, quando morì, lasciò scritto che la sua proprietà doveva diventare una tenuta per auto in pensione. Io sarei stato il direttore e Matthew il primo membro di una distinta famiglia. Quest'opera diventò lo scopo della mia vita. Rinunciai al matrimonio. Non ci si può fare una famiglia e al tempo stesso prendersi cura delle auto nel modo dovuto. Per un po' i giornali trovarono buffa all'iniziativa ma, alla fine, smisero di scherzarci sopra. Su certe cose non è davvero il caso di fare del sarcasmo. Chi non ha mai posseduto un'automobile non è forse in grado di capire ma, credetemi, è impossibile non affezionarsi a quelle lavoratrici indefesse e fedeli. Soltanto un uomo senza cuore potrebbe maltrattarle o sopportare di vederle maltrattare da altri. Accade così che i proprietari di automobili cominciarono a prenotarsi per lasciare l'auto alla fattoria dopo la loro morte se non avevano eredi di cui potessero fidarsi. Spiegai la cosa a Gellorn. 51 macchine, disse lui, è una bella somma di denaro. 50.000 come minimo per ciascun'automobile all'inizio, disse io, ma ora valgono assai di più. Ho fatto molto per loro. Deve costare un sacco di soldi questa tenuta. Avete ragione, non è un'organizzazione a scopo di lucro e questo ci diminuisce le tasse. Inoltre le ospiti portano con sé un fondo di garanzia. Tuttavia le spese continuano ad aumentare. Devo tenere in ordine il posto, riparare l'asfalto vecchio e mettere quello nuovo. E poi ci sono la benzina, l'olio, la manutenzione e i nuovi dispositivi. Sono spese considerevoli. E voi siete qui da molto tempo? Certamente, signor Gellorn. 33 anni. Mi sembra che non ci abbiate guadagnato molto. Io? Mi meraviglio, signor Gellorn. Mi bastano Sally e le altre 50. Guardate un po'. In quel momento qualche insetto doveva essersi spiacicato sul parabrezza di Sally. Lei, che era istintivamente pulita, stava già mettendosi al lavoro. Mandò fuori il tubetto che spruzzò un po' di tergosol sul vetro e il liquido si sparse rapidamente sulla pellicola superficiale al silicone. Subito il tergicristallo entrò in azione, passando e ripassando sul parabrezza e obbligando l'acqua a raccogliersi nella scanalatura di scarico a terra. Non un solo spruzzo schizzò sull'occofano verde mila. Infine tergicristallo e tubetto del detersivo tornarono al loro posto e scomparvero. Non ho mai visto un'automobile fare cose del genere, disse Gellorn. E lo credo bene, risposi. L'ho sistemato io quel dispositivo su tutte le nostre auto. Sono pulitissime, non fanno altro che tenere lucido il loro vetro e ci godono un mondo. Ho perfino dotato Sally di spruzzatori per la cera. Si illustra da sé ogni sera, finché ci si può specchiare nella carrozzeria da tutte le parti. Se riesco a trovare la grana, applicherò il dispositivo anche alle altre. Le decapotabili sono molto vanitose. Ve lo posso dire io. Come dovete fare per trovare la grana, se vi interessa? Eh, certo che mi interessa. Come? Ma non è chiaro come il sole, Jake. Avete detto che ciascuna delle vostre macchine vale almeno 50.000 dollari. Ci scommetto che molte di loro arrivano a una cifra di sei numeri. E con questo? Mai pensato di venderne qualcuna? Scossi la testa. Eh, forse non potete capire, signor Gellorn. Ma non posso farlo. Appartengono alla fattoria, non a me. I soldi appartengono alla fattoria. E gli ate di costituzione dell'organizzazione prevedono che le auto ricevano assistenza perpetua. Non si possono vedere. E i motori? Scusate, ma non capisco. Gellorn cambiò posizione e la sua voce si fece confidenziale. Sentite un po', Jake. Lasciatemi spiegare la situazione. Ci sarebbe un grande mercato per le automobili private se soltanto il loro prezzo venisse sufficientemente ribassato. Dico bene. Non è certo un segreto. Il 95% del costo è rappresentato dal motore. Ora, io so dove trovare una scorta di carrozzerie e so anche dove potremmo vendere le auto a buon prezzo. 20 o 30 mila per i modelli più economici e da 50 a 60 mila per quelli migliori. Mi mancano soltanto i motori. Vedete ora la soluzione? Proprio non la vedo, signor Gellorn. La vedevo invece, ma volevo che fosse lui a sbottonarsi. Semplicissima. Voi avete 51 auto e siete un esperto meccanico. Potreste staccare un motore e sistemarlo in un'altra auto senza che nessuno se ne accorga. Non sarebbe quel che si dice onesto. Ma non fareste nessun male alle macchine. Anzi, fareste loro un favore. Servitevi di quelle più vecchie. Di quella decrepita Matomot, per esempio. Ascoltatemi bene, signor Gellorn. Il motore e la carrozzeria non sono due parti separate. Costituiscono un'unità singola. Quei motori sono abituati alla loro carrozzeria e sarebbero infelici in un'altra. Va bene, Jake. Quanto dite è vero. Verissimo. Sarebbe come prendere il vostro cervello e infilarlo nel cranio di qualcun altro. Non vi andrebbe la cosa, eh? Credo proprio di no. Ma se io prendessi il vostro cervello e lo mettessi nel corpo di un giovane atleta? Che ne direste, Jake? Non siete più un giovincello. Non vi andrebbe di avere ancora vent'anni? Ecco che cosa offro ai vostri motori positronici. L'inserimento in nuove carrozzerie della 57. Ultimo modello. Scoppiai a ridere. Tutto questo non ha senso, signor Gellorn. Alcune delle nostre macchine sono forse vecchie, ma in ottime condizioni. Nessuno le guida. Possono fare tutto quello che vogliono. Sono in pensione, signor Gellorn. Non vorrei affatto ritornare un ragazzino di dodici anni se ciò significasse dover scavare dei fossi per tutto il resto della mia nuova vita e non aver mai abbastanza da mangiare. Che ne pensi, Sally? Le due portiere di Sally si spalancarono, poi si chiusero con un colpo attutito. Che vuol dire? Chiese Gellorn. È il suo modo di ridere. L'uomo ebbe un sorriso forzato. Probabilmente credeva che si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Siate ragionevole, Jake. Le auto sono fatte proprio per trasportare passeggeri e probabilmente sono infelici se voi non ve ne servite. Sally non porta nessuno da ben cinque anni e mi sembra felicissima. Vediamo. Si alzò e si direste verso l'auto lentamente. Ehi, Sally, che ne diresti di una corsa. Il motore si imballò e Sally indietreggiò. Non forzatela, signor Gellorn. Qualche volta è un po' ombrosa. Cento metri più in su, due berline si erano fermate. Forse a modo loro stavano guardando. E non ci fece caso. Tenevo gli occhi fissi su Sally. Ferma ora, disse Gellorn. Si piegò di colpo in avanti e afferro la maniglia della portiera, che naturalmente non si mosse. Ma se si è aperta un minuto fa. Bronto l'ho seccato. Chiusura automatica, spiegai. Sally è gelosissima della sua intimità. Lui lasciò la presa e disse lentamente. Un'auto gelosa della sua intimità non va in giro con la capota abbassata. Fece due o tre passi indietro poi, rapido come il lampo, tanto che io non potei neppure cercare di fermarlo. Saltò dentro l'auto. L'aveva colta di sorpresa e fece in tempo a spegnere il motore prima che lei pensasse a bloccare la chiavetta. Per la prima volta in cinque anni, Sally era silenziosa. Lanciai un urlo, ma Gellorn aveva già spostato l'interruttore su un manuale, bloccandolo. Poi riaccese il motore. Sally era di nuovo viva, ma senza libertà di azione. Avviò l'auto su per la strada. Le berline erano ancora là. Si voltarono e si allontanarono, non molto in fretta. Sembravano perplesse. Una era Giuseppe, proveniente dagli stabilimenti di Torino, e l'altra Stefano. Stavano sempre insieme. Tutte e due si trovavano alla fattoria da poco tempo, ma avevano già visto abbastanza per capire che le nostre auto non portavano passeggeri. Gellorn tirò avanti dritto, e quando le berline finalmente capirono che Sally non aveva intenzione di fermarsi, anzi che non poteva fermarsi, era troppo tardi per prendere provvedimenti che non fossero d'emergenza. Si gettarono rispettivamente da una parte e dall'altra della strada, e Sally sfracciò in mezzo a loro come una saitta. Stefano sfondò lo steccato che circondava il lago, e rotolò su se stesso. Andavano a fermarsi sull'erba fangosa, a venti centimetri dal bordo dell'acqua. Giuseppe, invece, finì in un prato dove si arrestò bruscamente. Riportai Stefano sulla pista, e stavo cercando di accertare se si fosse fatto male. Quando Gellorn tornò, aprì la portiera di Sally e uscì. Poi, cacciando dentro di nuovo la testa, spense l'avviamento una seconda volta. Ecco, disse, le ha fatto un gran bene. Tratteni a fatica l'ira che mi aveva invaso. Si può sapere perché siete passato come una freccia in mezzo alle due berline. Ero certo che si sarebbero tolte dai piedi da sole. Infatti è stato proprio così. Una ha sfondato lo steccato. Spiacente, Jake. Credevo che fossero un po' più svelte. Sapete com'è? Ho guidato un'infinità di automatobus, ma sono salito su un'automobile privata solo un paio di volte in vita mia. E questa è la prima volta che ne guido una. Vedrete che ho ragione, Jake. Non dovremo abbassare i prezzi più del 20% sullo costo dell'estino per avere un buon mercato. Avremo un profitto del 90%. E come verrà suddiviso? Faremo a metà. Il rischio sarà tutto mio. Ricordatelo. Va bene. Io vi ho ascoltato. Adesso ascoltate voi mi. Alzai la voce perché ero troppo furente per comportarmi ancora educatamente. Quando fermate il motore di Sally, le fate male. Vi piacerebbe se vi facessero perdere la conoscenza con un calcio. È proprio questo che voi fate a Sally quando la spegnete. Eh, state esagerando, Jake. Gli automatobus vengono spenti tutte le sere. Naturalmente. È proprio per questo non voglio che i miei amici vengano messi nelle vostre carrozzerie, dove non so che trattamento li aspetta. Gli automatobus hanno bisogno di revisioni ai circuiti elettronici ogni due anni. Al vecchio meteo, invece, non sono mai stati toccati circuiti in vent'anni. Chi potrebbe offrirgli un trattamento migliore? Eh, ora siete eccitato. Ripensate alla mia proposta e quando vi sarete calmato, mettetevi in contatto con me. Ci ho già pensato abbastanza. Se vi vedrò ancora qui, chiamerò la polizia. Lui fece per inghiottire, ma aveva la bocca completamente asciutta. Un momento, anche mio, murmurò. Sono io che do un momento a voi. Questa è proprietà privata e vi ordino di andarvene. Si strinse nelle spalle. Beh, allora, addio. La signora Esther vi accompagnerà al cancello e non fatevi più vedere. Invece, due giorni dopo, lo rividi. Due giorni e mezzo per la precisione, perché quando tornò per la seconda volta, era passata mezzanotte. Quando accese la luce, balzai a sedere sul letto, battendo le palpebre, senza riuscire a capire che cosa diavolo stesse accadendo. Ma una volta che riuscì a vedere, non ci fu bisogno di spiegazioni. Lui stringeva una pistola d'ago nel pugno destro e la sottilissima canna insidiosa spuntava appena visibile tra le sue dita. Una leggera pressione, essere saltato in aria, a pezzi. Vestitevi subito, Jake, disse. Non mi mossi. Mi limitai a fissarlo. Siate ragionevoli, Jake. Conosco il posto. Ci sono venuto due giorni fa, ricordatelo. Non avete né guardie né cinte elettrificate, né segnali d'allarme. Niente. Non ne ho bisogno. Detto per inciso, signor Gellorn, niente vi impedisce di andarvene. Anzi, io me ne andrei subito se fossi in voi. Questo posto può diventare molto pericoloso. Lo è senz'altro perché si trova dalla parte sbagliata di questa rivoltella. L'ho vista. Lo so che ne avete una. Ma allora muovetevi. I miei uomini stanno aspettando. Niente fatto. Prima dovete dirmi quello che volete e poi si vedrà. Vi ho fatto una proposta l'altro ieri. La risposta è ancora no. C'è qualcos'altro ora. Sono venuto qui con una squadra di uomini e un automatobus. Vi propongo di staccare venticinque motori positronici. Non mi importa quali. Li sceglierete voi. Li cariceremo sull'automatobus e li porteremo via. Quando saranno stati debitamente collocati farò in modo che abbiate anche voi la vostra parte di denaro. Ho la vostra parola su tutto questo eh. Non capì il mio sarcasmo. Eh l'avete? Disse. Ebbene. No. Se insistete a rifiutare faremo a modo nostro. Staccherò i motori io stesso. Tutti a 51 con le mie mani. Non è facile staccare dei motori positronici signor Gellorn. Non siete un esperto di automazione. E anche se lo foste. Questi motori sono stati modificati da me. Eh lo so. E per essere sincero. Non sono un esperto. Potrei rovinarne diversi se facessi il lavoro da solo. Ecco perché li dovrò estrarre tutti e 51. Se vi rifiutate di collaborare. Alla fine potrebbero rimanerne buoni solo 25. I primi probabilmente saranno quelli che ne risentiranno maggiormente finché non mi sarò impratichito. E se dovrò fare le cose da me? Eh credo che Sally sarà una delle prime. Non state certo parlando sul serio signor Gellorn? Eh certo che parlo sul serio. Se mi aiuterete potrete tenervi Sally. In caso contrario è probabile che rimanga molto danneggiata. Soffiò sulla sua pistola ad ago che teneva in mano come per liberare il piccolissimo foro. Gli augurai con tutto il cuore che l'arma sparasse all'improvviso e gli portasse via mezza faccia. Di solito mi sforzo sempre di pensare il meglio che posso di una persona ma un animale a due gambe è deciso a trattare le macchine a quel modo. Non ha il diritto di essere chiamato persona. E va bene verrò con voi ma vi avverto per l'ultima volta che vi troverete nei guai signor Gellorn. Lui trovò la cosa molto buffa e mentre scendevamo le scale insieme rideva quietamente. C'era un'automautobus in attesa sulla strada che porta alla rimessa. Lì accanto aspettavano tre ombre che al nostro avvicinarsi alzarono le torce elettriche. Alla loro luce vidi l'automautobus abbastanza bene. Non era un modello vecchio ma appariva piuttosto malconcio come se i suoi proprietari lo considerassero soltanto una macchina. Tuttavia ebbe l'impressione che avesse una sua personalità. Avrete forse notato qualche volta l'aria dignitosa che gli automatobus bistrattati assumono quasi per difesa quando invecchiano prima del tempo. Qualcuno almeno. Sembrano nobili decaduti con i capelli grigi e la schiena ancora dritta. Mi piace pensare che questa sia l'impressione che faccio anch'io. Ho qui il nostro uomo disse Gellorn. Andiamo fate venire avanti l'automautobus e muoviamoci. Uno dei figuri introdusse la testa nella cabina di guida e affidò le debite istruzioni al pannello di controllo. Noi ci avviamo a piedi mentre la macchina ci seguiva docilmente. Non entrerà nella rimessa disse io. La porta è troppo stretta non ci sono automautobus qui. Soltanto auto. Va bene disse Gellorn. Fatelo fermare sul prato e che non rimanga in vista. A dieci metri dalla rimessa sentivo già il pulsare dei motori. A volte diventavano rumorosi specialmente nelle belle notti sirene quando ogni macchina ben riempita di benzina e ben ingrassata freme dal desiderio di fare una rapida corsa sulla pista al chiaro di luna. Di quando in quando concedevo il permesso. Non molto spesso però era troppo rischioso. La proprietà era vasta ma di notte una vettura intraprendente poteva finire col perdersi. Non avrei voluto che arrivasse fino in città e che qualche ficcanaso piantasse una grana a che le aveva permesso di andare a zonzo senza autista. Di solito si calmavano non appena io entravo nella rimessa ma quella sera non fu così. Certamente avevano avvertito la presenza di estranei e quando le facce di Gellorn e degli altri furono visibili le auto diventarono sempre più turpolente. Ciascun motore era un caldo brontolio e batteva in modo irregolare finché la rimessa fu tutto un risuonare metallico. Come entrammo le luci si accesero automaticamente. Gellorn non sembrava disturbato da quello rumore ma i tre uomini che lo accompagnavano erano sorpresi e sconcertati. Avevano l'aspetto dello strangolatore preso a nolo. Un aspetto che non è fatto tanto dai lineamenti fisici quanto da una certa espressione torva e circospetta dello sguardo. Conoscevo quel tipo di persone e non mi sentivo preoccupato. Uno di loro disse ma accidenti ne bevono di benzina. Le mie auto lo fanno sempre risposi secco. Ora basta spegnete i motori disse Gellorn. Non è mica tanto facile risposi. Sbregatevi. Non mi mossi. Lui mi teneva puntata contro la pistola. Vi ho già detto signor Gellorn che le mie auto sono sempre state trattate bene qui alla fattoria. Sono abituate ad essere trattate così e si risentono se le cose cambiano. Vi do soltanto un minuto. Disse lui. La conferenza la terrete un'altra volta. Sto cercando di spiegarvi che le mie auto capiscono quello che dico. Un motore positronico impara a farlo col tempo e la pazienza. Le mie auto hanno imparato. Sally ha capito la vostra proposta due giorni fa. Ricordate che scoppiò a ridere quando le chiesi la sua opinione. Non ha dimenticato che cosa le avete fatto. E anche le due berline che avete mandato fuori strada vi conoscono. E tutte le altre sanno come ci si comporta con i prepotenti in generale. Sentite vecchio pazzo. Basta che io dica. Alzai la voce. Prendeteli. Uno degli uomini diventò bianco come un panno lavato e lanciò un urlo. Ma la sua voce fu soffocata dall'assordante rumore di 51 clacson che si erano scatenati tutti insieme. Ciascuno faceva del proprio meglio e dentro le quattro mura della rimessa l'eco sembrò un selvaggio appello. Due auto uscirono con prudenza ma si capiva chiaramente quale fosse il loro bersaglio. Altre due si misero in fila dietro a loro. Tutte fremivano nei loro box separati. I tre sinistri figuri sbarrarono gli occhi e indietreggiarono. Non appoggiatevi al muro gridai. Evidentemente avevano avuto anche loro lo stesso pensiero perché si precipitarono correndo pazzamente verso la porta. Quando ci furono arrivati uno di loro tirò fuori una pistola come quella di Gellorn. La pallotta la dago saettò con un sottile lampo azzurro verso la prima auto. Sul cofano di Giuseppe si delineò una sottile strisce di vernice scrostata e la metà destra del parabrezza si incrinò scheggiandosi tutto ma senza andare in pezzi. Ora gli uomini correvano a gambe levate all'aperto. Le auto a due a due le inseguivano nella notte con i claxon che suonavano la carica. Tenevo la mano sul braccio di Gellorn ma non credo comunque che avesse alcuna intenzione di agire. Gli tremavano le labbra. Ecco perché non ho bisogno di recenti elettrificati né di guardie. gli dissi la mia proprietà si difende da sé. Lo sguardo di Gellorn si spostava come affascinato seguendo ogni nuova coppia di auto che gli passava davanti. Sono auto assassine murmurò e non dite sciamenze non uccideranno i vostri uomini. Assassine gli daranno soltanto una bella lezione. Sono state appositamente addestrate per l'inseguimento attraverso i campi proprio in previsione di un'occasione come questa. Per i vostri uomini sarà peggio che una morte rapida. Siete mai stato inseguito da un'automobile? Lui non rispose. Continuai. Non volevo che perdesse alcun particolare. I vostri uomini sono tallonati da auto che vanno esattamente alla loro velocità. ora li sfiorano ora li assordano con un colpo di clacson oppure gli schizzano addosso evitandoli solo all'ultimo momento con un grande stridio di freni e un rombo del motore e continueranno così finché i poveretti si lasceranno cadere a terra senza fiato e mezzi morti rassegnati a sentirsi stritolare le osso dalle ruote. Questo le auto lo sanno fare. Si limiteranno ad andarsene. Però potete scommettere che quei tipi non metteranno mai più piedi a qui dentro in vita loro. Neppure per tutto il vostro denaro o per quello che potrebbero dargli dieci uomini come voi. Sentite. Gli strenzi il braccio più forte e lui tese l'orecchio. Non sentite il rumore di portiere sbattute. Era debole e lontano ma era inconfondibile. Sì disse lui. Ridono. Si divertono un mondo. La sua faccia si contrasse per l'ira. Alzò la mano in cui stringeva ancora la pistola. Al posto vostro non lo farei. Disse io tranquillo. C'è ancora un'automobile qui con noi. Non credo che si fosse accorto di Sally fino a quel momento. Si era avvicinata molto silenziosamente. Sebbene il suo parafango destro anteriore quasi mi toccasse non riuscivo a sentire il rumore del suo motore. Sembrava che trattenesse il respiro. Quando la vide Gellorn lanciò un urlo. Non vi toccherà finché io sarò con voi. Dissi. Ma se vi saltasse in mente di uccidermi. Sapete benissimo che a Sally non siete simpatico per niente. Lui puntò la pistola in direzione dell'auto. Il suo motore è schermato. Dissi. E prima ancora che possiate premere il grilletto una seconda volta lei vi sarà addosso. Eh va bene allora. All'improvviso mi rovesciò il braccio dietro alla schiena. Torcendomelo con tanta forza che quasi non riuscivo a rimanere in piedi e poi tenendomi tra sé Sally gridò. Vieni fuori con me senza voltarti vecchio barbagianni e non cercare di liberarti se non vuoi che ti stacchi il braccio dalla spalla. Dovetti ubbidire. Sally ci seguiva e pareva incerta sul da farsi. Cercai di dirle qualcosa ma non potevo. Potevo soltanto stringere i denti e gemere. L'automatobus di Gellorn era ancora lì fuori dalla rimessa. Gellorn mi obbligò a salirci e poi salto dentro anche lui bloccando subito le portiere. La sua fronte sudata luccicò un istante prima che la luce bianca che usciva dalla rimessa spalancata si spegnesse. Il fiato gli uscissi bilando dalle narici e lui si asciugò il sudore. Va meglio ora disse. Qui si può discutere. Mi massaggiò il braccio cercando di rianimarlo e mentre facevo questo studiavo automaticamente senza rendermene conto il pannello dei comandi dell'automatobus. Ma questo è stato ricostruito? Esclamai. E' con questo? Disse lui caustico. Ecco un esempio di come lavoro io. Ho preso uno chassis vecchio, un cervello ancora utilizzabile e mi sono messo assieme un'automatobus personale. Che fate? Mi aggrappai al pannello della manutenzione e lo tirai da parte. Cosa diavolo? Lasciate stare quello! Disse lui mentre il palmo della sua mano scendeva pesantemente sulla mia spalla sinistra. Mi dibattei. Non voglio fargli del male! Gridai. Perché mi avete preso? Voglio soltanto dare un'occhiata ai collegamenti del motore. Non ci volle molto. Quando mi girai di nuovo verso di lui ero furente. Siete un cane e un bastardo! Non avevate il diritto di installare un motore a quel modo. Perché non vi siete rivolto a un esperto? Fossi matto! Anche se è un motore rubato non avete il diritto di trattarlo così. Io non tratterei un uomo come voi avete trattato quel motore. Saldature, nastro adesivo e pinze. È brutale! Funziona no? Certo che funziona. Ma deve essere un inferno per questo povero automatobus. Si può vivere anche con l'emicrania e l'artrite acuta ma non è una gran bella vita. Quest'auto soffre. Chiudi il becco! Lanciò fuori dal finestrino una rapida occhiata a Sally che si era avvicinata il più possibile e si assicurò che tutte le aperture fossero chiuse. Dobbiamo andarcene di qui prima che le altre auto tornino. Staremo nascosti per un po'. E a che servirà? Un bel momento. Le vostre auto finiranno la benzina, no? Non le avete mica modificate in modo che siano capaci anche di rifarsi il pieno da sole. Allora torneremo per finire il lavoro. Mi cercheranno, dissi, e la signora Esther chiamerà la polizia. Ma era inutile ragionare con lui. Senza rispondere mise in moto l'automatobus e si avviò. Sally ci seguiva a ruota. Gellorn la guardò e scoppiò a ridere. Che può farci lei ora che siete qua su con me? Sally sembra sentire anche questo. Prese velocità, ci sorpassò e scomparve. Allora lui aprì il finestrino e sputò fuori. L'automatobus arrancava pesantemente nel buio, col motore che pulsava in modo irregolare. Gellorn abbasso gli abbaglianti. La striscia verde e fosforescente al centro della strada ci impediva di finire contro un albero. Non c'era praticamente traffico. Incrociamo due auto che andavano in direzione opposta, ma nella nostra carreggiata non c'era alcun veicolo, né prima né dopo di noi. Sentii per primo lo sbattere delle portiere. Netto e rapido, nel silenzio notturno. Il rumore veniva ora da destra, ora da sinistra. Le mani di Gellorn armeggiavano freneticamente per aumentare la velocità. All'improvviso una lama di luce attraversò la siepe spartitraffico, accecandoci. Un altro fascio luminoso si fermò su di noi, da dietro il guardrail, sull'altro lato della carreggiata. Quattrocento metri più avanti, a un incrocio, si udì il simbilo di una macchina che ci attraversava la strada. Se lì è andata a chiamare le altre, dissi, siete circondato. Ma con questo, che cosa ci possono fare? Si piegò sui comandi, scrutando attraverso il parabrizza. E non azzardatevi a fare broteschi orsi. Brontolò minaccioso. Eh, non avrei potuto. Ero tutto indolenzito e il braccio destro mi scottava. Ora il rumore dei motori si accentrava in una sola direzione, avvicinandosi. Li sentivo rombare in modo strano, come se stessero confabulando fra loro. All'improvviso ci fu una gran confusione di claxon dietro di noi. Mi girai e Gellorn lanciò una rapida occhiata allo specchietto retrovisore. Una decina di auto ci seguivano, occupando tutte e due le corsie. A un tratto Gellorn si mise a ridere come un matto. Fermate! Urlai io. Fermate l'automatobus! Mezzo chilometro più avanti, illuminata dai fari delle due berline ferme sul bordo della strada, stava Sally, col corpo grazioso, piazzato di traverso in mezzo alla carreggiata. Due altre auto sfracciavano accanto a noi, nella corsia di sinistra, impedendo a Gellorn di deviare. Ah, lui non aveva nessuna intenzione di farlo. Teneva il dito sopra il pulsante di velocità massima e premeva con decisione. Adesso non ci sarà più modo di bleffare, disse. Questo automatobus è cinque volte più pesante di lei e la faremo schizzare fuori dalla strada come un gattino morta. Eh, lui sapevo. L'automatobus era sul manuale e il dito di Gellorn continuava a premere. Era deciso a fare quello che diceva. Abbassai il finestrino e cacciai fuori la testa. Sally! Gridai. Spostati Sally! La mia voce si perse in un sinistro stridere di freni bloccati. fui proiettato in avanti e senti il simbilo del respiro di Gellorn. Cosa succede? Chiesi. Si trattava di una domanda sciocca. Ci eravamo fermati. Ecco cosa era successo. Sally stava là immobile, a un metro e mezzo di distanza. Nonostante il bolide fosse stato a un pelo dal piombarle addosso, lei non aveva fatto una piega. Un bel fegato alla piccola. Gellorn strappò con violenza l'interruttore a levetta del manuale. Deve andare! Anzi, mavo. Deve andare! Con un motore montato a quel modo. Non andrà mai. È sperto. Tutti i circuiti sono incrociati. Mi lanciò un'occhiata furente e mugolò qualcosa. I capelli arruffati gli ricadevano sulla fronte. Poi alzò il braccio. Comunque non avrai tempo di darmi dei consigli. Sì, disse con voce sorda. Eh, tra un istante la pistola avrebbe sparato. Ne ero certo. Mentre lui prendeva la mira, mi appoggiai forte contro la portiera e, quando lo sportello si spalancò, mi rovesciai all'indietro, piombando a terra con un tonfo sordo. Poi la porta si chiuse di nuovo. Inolzai in ginocchio appena in tempo per vedere Gellorn lottare inutilmente col finestrino che stava richiodendosi e puntare poi rapidamente la pistola dietro il vetro. Ma non sparò. L'automatobus partì in quarta con un rombo assordante e lui fu scaraventato sul pavimento. Sally non bloccava più la strada ora e vedi le luci posteriori del veicolo brillare nell'oscurità già molto lontane. Ero esausto. Sedetti lì, proprio sulla carreggiata, e nascosi la testa nelle braccia incrociate, cercando di riprendere fiato. Allora sentii qualcuno fermarsi delicatamente al mio fianco. Alzai gli occhi e fidi Sally. Lentamente, quasi affettuosamente, la sua portiera anteriore si aprì. Erano cinque anni che lei non trasportava nessuno, se si esclude la breve corsa forzata con Gellorn. E mi resi conto di quanto dovesse costarle quel gesto di amicizia. Ne apprezzai il significato, ma dissi, grazie Sally, prenderò una delle macchine più recenti. Mi alzai e feci l'atto di andarmene, ma lei piroetò davanti a me, con agile eleganza, e si fermò di nuovo, in attesa. Non potevo urtare i suoi sentimenti, e quindi entrai. Il sedile anteriore aveva il profumo fresco e delizioso dell'auto che si mantiene scrupolosamente pulita. Mi ci sdraiai sopra con gratitudine e, subito, con rapida, silenziosa e tranquilla efficienza, fui riportato a casa. La sera dopo, la signora Esther mi portò tutta eccitata una copia del quotidiano locale. Sapete del signor Gellorn? L'uomo che è venuto qui l'altro giorno? Beh, cosa gli è successo? Avevo paura della risposta. L'hanno trovato morto. Pensate un po', lungo e tirato in un fosso. Potrebbe anche essere un altro, mormorai. Raymond J. Gellorn, disse lei brusca. Non possono mica essercene due uguali, no? Anche la descrizione corrisponde. Dio mio, che morte! Hanno scoperto segni di ruote sulle braccia e in tutto il corpo. Meno male che è stato un automautobus, altrimenti la polizia sarebbe venuta a ficcare il naso anche qui. È accaduto da queste parti? Chiesi ansioso. No, vicino a Coxville. Ma, leggete un po' voi, se... Oh, cosa è successo, Giuseppe? Ringrazia il cielo per quella distrazione. Giuseppe stava aspettando pazientemente che io completassi la sua viorniciatura. Il parabrezza era già stato sostituito. Ma, Geremia, la solita storia... Ha sorpassato ancora in pista? Ma perché non gli fate una ramanzina? Eh, gliel'ho fatta, gliel'ho fatta. Non serve a niente. Quando se ne fu andata, afferrae il foglio che riportava la notizia. Non c'era dubbio. Il medico aveva dichiarato che la vittima doveva aver corso molto e che al momento della morte si trovava in uno stato di completo esaurimento. Chissà per quanti chilometri l'automatobus si era divertito con Gellorn prima di compiere il balzo finale. E, naturalmente, questo nessuno lo sapeva. L'automatobus era stato individuato e identificato grazie ai segni lasciati dalle ruote sul terreno. Ora era in mano alla polizia, che stava ricercandone il proprietario. Nel giornale c'era un articolo sul caso. Quello era il primo incidente stradale verificatosi nel nostro stato da un anno a quella parte. E il quotidiano condannava severamente l'uso della guida manuale nelle ore notturne. Non si faceva parola dei tre aiutanti di Gellorn. E questo mi tranquillizzò. Nessuna delle nostre auto si era lasciata trascinare dal piacere di uccidere. Non c'era altro. Lasciai cadere il giornale. Gellorn, dopo tutto, era stato un criminale e aveva trattato quel povero automatobus in un modo indegno. Certamente si era meritato la morte. Tuttavia, mi sentivo sconvolto. È già passato un mese da quel giorno, ma non riesco a dimenticare. Le mie auto chiacchierano tra loro e ora so con certezza quello che dicono. È come se si fossero fatte più sicure di sé e non si preoccupassero più di tenere nascosto un segreto. Il loro motore vibra e pulsa senza sosta. E non parlano soltanto tra loro, ma anche alle auto che vengono alla fattoria per lavoro. Da quanto tempo si comportano così? Certamente si fanno capire. Anche l'automatobus di Gellorn le aveva capite nonostante fosse rimasto là fermo soltanto un'ora. Se chiudo gli occhi, rivivo quella corsa sull'autostrada, con le auto che, affiancate all'automatobus, chiacchierano con il suo motore finché lui non capisce, si ferma e, dopo avermi scaraventato fuori, riparte con Gellorn. Furono le mie auto a dirgli di ucciderlo o è stata una sua idea? Possono venire idee simili alle auto. I progettatori dicono di no, ma loro considerano soltanto le situazioni normali. Hanno davvero previsto tutto. Le auto a volte sono maltrattate e potrebbe capitare che qualcuna, sostando alla fattoria, si sentisse raccontare cose straordinarie. Scoprirebbe così che esistono sorelle fortunate a cui non si spegne mai il motore, che non trasportano mai nessuno e che non mancano di niente. Poi se ne andrebbe e lo racconterebbe alle altre così che la voce si diffonderebbe rapidamente. Allora, tutte comincerebbero a pensare che le cose dovrebbero andare a quel modo in tutto il mondo. Che ne sanno loro? Di lasciti e di capricci di uomini ricchi sfondati. Ci sono milioni di automatobili sulla Terra. Decine di milioni. E se tutte dovessero mettersi in mente che sono tutte schiave e che bisogna fare qualcosa? Se cominciassero a ragionare come l'automatobus di Gellorn. Forse allora io non ci sarò più. E poi dovranno bene risparmiare qualcuno di noi perché si prenda cura di loro, no? Non possono farci fuori tutti. O forse sì. Forse non capiscono che qualcuno deve occuparsi di loro e non aspetteranno. Ogni mattina quando mi sveglio non posso fare a meno di pensare. Forse oggi? Strano a dirsi. Ma ora non provo più tanto gusto a intrattenermi con le mie auto come una volta. Mi sono anzi accorto che da un po' di tempo in qua ho perfino cominciato a evitare Sally. Certezza di esperto. Roger andò a cercare suo padre. Era domenica e suo padre non avrebbe dovuto essere al lavoro. Così Roger voleva essere sicuro che tutto andasse bene. Non gli fu difficile trovarlo. Tutti quelli che lavoravano al Multivac, il computer gigante, vivevano sul posto con le loro famiglie. Avevano formato una piccola città, una città di gente che risolveva i problemi del mondo. Il portiere della domenica conosceva Roger. Se cerchi tuo padre, gli disse, è nel corridoio L, ma probabilmente ha troppo da fare per occuparsi di te. Roger lo cercò lo stesso. Infilò la testa in una delle porte da cui provenivano voci di uomini e di donne. I corridoi erano molto più vuoti che durante i giorni lavorativi così gli fu facile scoprire dove stavano lavorando. Vide subito suo padre e suo padre vide lui. Non aveva un'aria contenta e Roger capì immediatamente che c'era davvero qualcosa che non andava. Ciao Roger, disse suo padre. Purtroppo oggi ho da fare. Anche il capo del padre di Roger era lì e disse, prenditi un po' di riposo Atkins. Sono nove ore che ci lavori attorno e ormai non riesci più a combinare niente di utile. Vai a fare uno spuntino con tuo figlio alla mensa e dormi un po' prima di tornare. Il padre di Roger non sembrava molto convinto. Aveva in mano un analizzatore elettrico, strumento che Roger conosceva anche se non sapeva come funzionava. Poteva sentire il multivac ronzare e ticchettare intorno a lui. Poi il padre di Roger mise giù l'analizzatore. Va bene. Vieni Roger, andiamo a farci un hamburger e vediamo se questi sapientoni riescono a scoprire il guasto senza di me. Si fermò a lavarsi, poi andò alla mensa e si sedettero davanti a due grossi hamburger, patatine fritte e gazzosa. Multivac non funziona papà? chiese Roger. Non riusciamo a combinare niente, te lo dico io, rispose il padre sfiduciato. A me sembrava che funzionasse, lo si sentiva, voglio dire. Eh, certo che funziona, solo che non sempre dà le risposte giuste. Roger aveva tredici anni ed era dalla quarta elementare che studiava programmazione di calcolatori. C'erano alcune volte in cui non la sopportava più e avrebbe voluto essere nel ventesimo secolo quando a scuola non si insegnava ancora quella materia. Certe volte però gli serviva per parlare con suo padre. Come fai a sapere che non dà sempre le risposte giuste dal momento che solo Multivac sa le risposte? chiese. Suo padre si strinse nelle spalle e per un momento Roger temette che si sarebbe limitato a dirgli che era troppo difficile da spiegare e che era inutile parlarne, ma non lo faceva quasi mai. Figlio mio, disse il padre di Roger, Multivac avrà anche un cervello grosso come una casa ma è sempre meno complicato di quello che abbiamo noi qui dentro. E si battì la testa con un dito. Certe volte Multivac ci dà una risposta che non riusciremo a elaborare da soli in mille anni. Eppure nei nostri cervelli scatta qualcosa che ci fa dire ah qui c'è qualcosa che non va. Allora rifacciamo a Multivac la stessa domanda e otteniamo una risposta diversa. Se Multivac avesse ragione, capisci, dovremmo ottenere sempre la stessa risposta alla stessa domanda. Quando si ottengono risposte differenti vuol dire che una è sbagliata. Ma il guaio è questo. Come facciamo ad essere sicuri di scoprire sempre gli errori? Com'è possibile avere la certezza che non ci sfugga qualche risposta sbagliata? Potremmo fidarci di qualche risposta e fare delle cose che a cinque anni di distanza potrebbero trasformarsi in un disastro. C'è qualcosa che non va dentro Multivac e non riusciamo a scoprire cosa. E il guaio è che sta peggiorando. Perché mai dovrebbe peggiorare? chiese Roger. Suo padre aveva finito l'hamburger e stava mangiando le patatine una a una. La sensazione figliolo disse pensoso che abbiamo dato a Multivac un'intelligenza sbagliata. Eh? Vedi Roger, se Multivac fosse intelligente come un uomo potremmo parlargli e scoprire cos'è che non va per quanto possa essere complicato. Se fosse stupido come una macchina avrebbe i soliti guasti e sarebbe facile trovarli. Il guaio è che è intelligente soltanto a metà. È abbastanza intelligente da guastarsi in modo molto complicato ma non abbastanza per aiutarci a scoprire cosa c'è che non funziona. Eh? Questo è il tipo di intelligenza sbagliata. Aveva un'aria molto occupa. Ma cosa possiamo fare? Non sappiamo in che modo renderlo più intelligente. Non ancora almeno. E non possiamo neppure rischiare di renderlo più stupido perché i problemi mondiali sono diventati così seri e le domande che gli poniamo così complicate che ci vuole tutta l'intelligenza di Multivac per rispondere. Sarebbe un disastro renderlo più stupido. Se si spegnesse Multivac disse Roger e lo si esaminasse molto attentamente. Eh non possiamo farlo figlio mio disse il padre. Purtroppo Multivac deve funzionare giorno e notte senza un attimo di interruzione. Abbiamo un sacco di problemi arretrati da risolvere. Ma se Multivac continua a fare errori papà bisognerà pur spegnerlo no? Se non potete fidarvi di quello che dice? Scopriremo cosa c'è che non va ragazzo mio. Non ti preoccupare disse il padre di Roger scompigliandogli i capelli. Ma i suoi occhi tradivano la preoccupazione. Su finiamo di mangiare e usciamo di qui. Ma ascolta papà disse Roger anche se Multivac è intelligente a metà perché dovrebbe essere un idiota? Beh se sapessi come dobbiamo fare per dargli le istruzioni figlio mio non me lo chiederesti. Voglio dire papà forse questo non è il punto di vista giusto. Io non sono intelligente come te. Non conosco tante cose ma non sono un idiota. Forse Multivac non è un idiota. Forse è come un bambino. Il padre di Roger rise. Questa è un'ipotesi interessante ma che differenza farebbe? Potrebbe fare una grossa differenza disse Roger. Tu non sei un idiota e non puoi sapere come funziona il cervello di un idiota ma io sono un bambino e forse potrei dire come funziona il cervello di un bambino. No come funziona il cervello di un bambino? Ecco hai detto che Multivac deve funzionare notte e giorno e una macchina può anche farlo ma se tu dai compiti a un bambino e gli dici di farli per ore e ore lui si stanca e comincia a non poterne più e a fare degli errori magari anche di proposito. E allora perché non lascia Multivac una o due ore di riposo al giorno senza nessun problema da risolvere solo per ronzare e etichettare come vuole lui? Il padre di Roger assunse un'aria molto pensosa. Tirò fuori il computer tascabile e fece qualche calcolo poi ne fece altri. Poi disse sai Roger se quello che hai detto lo si traduce in integrali di plat si riesce a tirarne fuori qualcosa di sensato e poi è meglio un lavoro di 22 ore di cui ci si possa fidare che uno di 24 che può essere tutto sbagliato. A noi fra sì poi alzò gli occhi dal computer tascabile e chiese come se fosse Roger l'esperto. Roger sei sicuro? Roger era sicuro. Papà un bambino deve anche giocare. Finalmente la dottoressa Genevieve Renshaw teneva le mani affondate nelle tasche del camice e i suoi pugni chiusi erano ben chiari attraverso la stoffa. Parlò con calma. Il fatto è che sono quasi pronta disse ma ho bisogno di aiuto per essere pronta davvero. James Berkowitz un fisico che sopportava i medici solo se erano troppo attraenti per essere respinti aveva l'abitudine di chiamarla Jenny Wren quando non erano in un riunione. Si divertiva a ripetere che Jenny Wren aveva un profilo classico e una fronte perfino troppo regolare liscia visto che dietro ad essa ticchettava un cervello così acuto. Sapeva bene che manifestare la sua ammirazione e per il profilo classico cioè era tipico giovinismo maschile. Sarebbe stato meglio ammirare il cervello ma in complesso preferiva non farlo ad alta voce in presenza di lei. Disse raspando con il pollice la barba che gli cresceva sul mento. Non credo che all'ufficio di fronte pazienteranno ancora per molto. Ho l'impressione che nel tuo caso finirà sul tappeto prima della fine della settimana. È per questo che ho bisogno del tuo aiuto. Ho paura di non poter fare niente. Colse un'espressione inattesa sul viso di lei nello specchio e per un istante ammirò lo spettacolo delle onde brune dei propri capelli. E dell'aiuto di Adam disse lei. Adam Orsino che fino ad allora aveva sorseggiato il suo caffè abbastanza distratto la guardò come se l'avessero punzecchiato da dietro e disse nel mio aiuto e perché? Le labbra tumide e piene gli tremarono. Perché voi due qui siete quelli del laser. Jim il teorico e Adam il tecnico e io ho scoperto un'applicazione del laser che va al di là di qualsiasi cosa voi abbiate mai immaginato. Da sola non posso convincere quelli là ma potete farlo voi. La condizione è che tu prima convinca noi. Disse Berkovitz. Certo presumo che possiate concedermi un'ora del vostro tempo prezioso sempre che non abbiate paura di vedere qualcosa di completamente nuovo sul laser. Possiamo farlo nell'intervallo del caffè? Il laboratorio della Rancho era dominato dalla mole del computer. Non che fosse insolitamente grande solo che era da tutte le parti. Genevieve Rancho aveva appreso per conto proprio la tecnologia dei calcolatori e aveva modificato ed esteso il suo calcolatore al punto che nessuno avrebbe potuto usarlo facilmente tranne lei. Oh così pensava Berkovitz talvolta neanche lei. E niente male per una persona che si intendeva soprattutto di scienze biologiche. Lei chiuse la porta prima di parlare poi si girò verso i due con l'espressione tesa. Berkovitz era disgustato. Sentiva un odore pesante e spiacevole e il naso di Orsino mostrava che anche lui se ne rendeva conto. La dottoressa disse lasciate che vi parli delle applicazioni del laser anche se farlo con voi è come accendere una candela in pieno sole. Il laser è una radiazione coerente con tutte le onde luminose della stessa lunghezza che si muovono nella stessa direzione. È immune alle interferenze del rumore e può essere usato per le olografie. Modulando le forme d'onda possiamo imprimere in esse informazioni con un alto grado di precisione ma soprattutto dal momento che la lunghezza delle onde luminose è un milionesimo di quella delle onde radio un impulso laser può trasmettere un milione di volte più informazioni di un equivalente impulso radio. Berkovitz sembrava divertito. Stai lavorando a un sistema di comunicazioni basato su laser, Jenny? Per niente, rispose lei. Sviluppi così banali li lascio ai fisici e agli ingegneri. I laser possono anche concentrare su un'area molto piccola grandi quantità di energia e liberarla di colpo. Su grande scala si può provocare un'implosione dell'idrogeno e forse iniziare una reazione di fusione controllata. Tu però non l'hai fatto, disse Orsino. La sua testa calva luccicava alla luce fluorescente che veniva dall'alto. No, non ci ho nemmeno provato. Su scala minore si possono bucare i materiali più rarefatti, saldare frammenti minutissimi, trattarli ad altissima temperatura, cesellarli, inciderli perfino. Si possono fondere o staccare segmenti piccolissimi da superfici minuscole. Il calore si sviluppa così rapidamente che la materia circostante non ha il tempo di scaldarsi prima della fine dell'intervento. Si può operare sulla retina dell'occhio, sulla dentina e così via. Naturalmente il laser è anche un amplificatore capace di rinforzare con gran precisione segnali debolissimi. Perché ci racconti tutte queste cose? chiese Berkowitz. Per sottolineare come, per queste sue proprietà, il laser possa essere impiegato nel mio campo, cioè in neurofisiologia. Si passò una mano fra i capelli scuri, come se si fosse in nervosità all'improvviso. Per decine di anni abbiamo misurato il debolissimo potenziale elettrico del cervello e l'abbiamo registrato nell'elettroencefalogramma o EEG. Abbiamo identificato onde alfa, beta, delta e teta, variazioni corrispondenti al mutare delle condizioni, diverse secondo che il soggetto stia occhi aperti o chiusi, che stia dormendo o sia sveglio o che stia pensando. Ma da tutto questo abbiamo ricavato scarse informazioni. Il fatto è che noi riceviamo gli impulsi di 10 miliardi di neuroni, in combinazioni mutevoli. È come ascoltare da molto lontano il fragore di tutti gli uomini della Terra, o di due terre e mezzo, cercando di selezionare il dialogo tra due persone. È impossibile. Si possono distinguere i grandi cambiamenti, una guerra mondiale per esempio, quando il volume del rumore aumenta, ma niente di più preciso. Nello stesso modo noi captiamo le clamorose disfunzioni del cervello, l'epilessia o altro, ma niente di più. Ora, supponete che sia possibile sondare il cervello con un sottilissimo raggio laser, cellula dopo cellula, in modo così rapido che nessuna cellula riceva abbastanza energia da farne salire considerevolmente la temperatura. Il debolissimo potenziale di ogni cellula può rimanere impresso sull'onda di ritorno e le modulazioni possono essere registrate e amplificate. Avremmo in questo modo un nuovo tipo di esame, un encefalogramma laser o LEG, se volete, con milioni di informazioni in più rispetto a un EEG normale. È una bella idea, ma resta un'idea, disse Berkowitz. Più che un'idea, Jim. Sono cinque anni che ci lavoro, da principio nei ritagli di tempo, poi mi ci sono messa a tempo pieno. Ed è questo che dà fastidio a quelli dell'ufficio di fronte. Non ho mai fatto un rapporto. Perché? Perché sarebbe sembrata una cosa folle. Prima dovevo sapere a che punto poteva arrivare ed essere sicura di avere qualcosa a cui appoggiarmi. Spinse da parte un paravento e mostrò una gabbia con un paio di uistiti dagli occhi tristi. Berkowitz e Orsino si guardarono. Berkowitz si toccò il naso. Mi pareva di aver sentito un odore. Cosa ci fai con queste? Chiese Orsino. Suppongo che abbia sondato il cervello delle scimmie. Non è vero, Gianni? Disse Berkowitz. E ho cominciato parecchio più in basso nella scala degli animali. Lei aprì la gabbia e prese una delle scimmiette, che l'osservava con l'espressione di un malinconico vecchietto con le basette. La carezzò, le fece alcuni versi di incoraggiamento e la legò con le cinghie di una piccola bardatura. Orsino chiese. Cosa stai facendo? Non deve muoversi se devo collegarla a un circuito e non posso anestetizzarla senza alterare l'esperimento. Ci sono diversi elettrodi impiantati nel cervello delle scimmie, che adesso collegherò al mio apparecchio LEG. Il laser che io uso è questo. Sono sicuro che riconoscerete il modello, così non vi annoierò con altre spiegazioni. Eh, grazie. Disse Berkowitz. Ma dovresti almeno dirci quello che stiamo per vedere. Neh, è più semplice mostrarvelo. Guardate lo schermo. Collegò le prese agli elettrodi, quieta, efficiente e sicura. Poi girò un interruttore e spense le luci della sala. Sullo schermo era comparsa una sequenza frastagliata di picchi e avvallamenti. Una sottile linea luminosa che si increspava, saliva in verticale e scendeva in valli secondari e terziarie. Lentamente queste si trasformavano in una serie di ondulazioni più lievi, bruscamente interrotte ogni tanto da sussulti occasionali. Era come se quella linea regolare avesse vita propria. Questa, disse la Rancho, è essenzialmente l'informazione che dà l'LLG, ma in maggior dettaglio. Così dettagliata da indicare cosa succede nelle singole cellule? Chiese Orsino. In teoria sì. In pratica no, non ancora. Ma possiamo scomporre questo L e G principale nelle sezioni che lo compongono. Attenti. Batte sulla tastiera del computer e la linea cambiò e continuò a cambiare. Ora era una piccola onda quasi regolare che si muoveva in avanti e all'indietro. Una sorta di battito cardiaco. Ora era aspra e frastagliata. Ora intermittente. Ora senza alcuna fisionomia, ma sempre con fulmine e sferzate di surrealismo geometrico. Berkowitz disse. Vuoi dire che ogni impulso del cervello è un'onda diversa dalle altre? No, rispose la dottoressa. Niente affatto. Il cervello funziona prevalentemente come una macchina olografica, ma da zona a zona esistono cambiamenti impercettibili nel rilievo. Mike può considerarli come deviazioni dalla norma, isolarli e usare il sistema L e G per amplificare quelle variazioni. L'amplificazione va da 10.000 a 10 milioni di volte, perché il laser è immune dal rumore fino a quel punto. Chi è Mike? Chiese Orsino. Mike? Fece lei improvvisamente confusa. Arrossì lievemente. Ho detto. Beh, ogni tanto lo chiamo così. È più breve di il mio calcolatore elettronico. Indico con le braccia tutta la stanza. Mio computer. Mike. L'ho programmato con cura. Tanta. Berkowitz a noi e disse. Bene, Jenny. Cosa c'è allora? Se ha inventato una nuova sonda cerebrale basata sul laser, va benissimo. È un'applicazione interessante. D'accordo, non è quello che immaginavo, ma io non sono un neurofisiologo. Ma perché non fare il rapporto? Mi sembra che l'ufficio di fronte avrebbe di che... Ma questo non è che il principio. Lei si allontanò dalla sonda cerebrale e mise un pezzetto di banana in bocca alla scimietta. La bestiola non sembrava allarmata né a disagio. Mangiava piano. Genevieve Renshov sganciò i fermagli, ma la lasciò nella bardatura. Poi disse. Posso identificare le varie linee che compongono il diagramma? Alcune sono correlate ai sensi, altre alle reazioni viscerali, altre alle emozioni. Si può arrivare lontano, lavorando in questo senso, ma non voglio fermarmi qui. La cosa più interessante è che una di queste linee è connessa con il pensiero astratto. La faccia grassoccia di Orsino si corrugò in una smorfia di scetticismo. Ma come puoi dirlo? Quel particolare tipo di diagramma diventa più intricato a mano a mano che nel regno animale si sale verso cervelli più complessi. Nessun altro diagramma ha questo andamento. Inoltre... Si fermò, poi facendo forza sulla sua volontà riprese. Queste curve sono amplificate enormemente. Possono essere captate, registrate. Potrei dire in modo vago che sono... pensieri. Per Dio! Disse Berkowitz. Telepatia. Sì! Disse lei spavalda. Proprio così. Ma non mi stupisce che tu non abbia voluto fare il rapporto. Dai, si seria, Jenny. Ma sono seria! Disse lei accalorandosi. È ovvio che non si può parlare di telepatia a proposito degli schemi cerebrali non amplificati. Proprio come non si possono vedere a occhio nudo le caratteristiche della superficie di Marte. Ma una volta che ci sono gli strumenti, il telescopio o questo... E allora raccontalo a quelli dell'ufficio di fronte. No. Disse la Rancho. Non mi crederebbero. Cercherebbero di fermarmi. Ma voi due, Jimmy e Adam devono prendervi sul serio. Eh, ma cosa gli possiamo dire? Quello che voi stessi vedrete. Adesso collegherò di nuovo Louis TT e Mike. Il computer selezionerà la linea del pensiero astratto. Ci vorrà solo un momento. Seleziona sempre questa linea, se non è programmato diversamente. Perchè? Anche il cervello elettronico, pensa. Rise Berkowitz. C'è poco da ridere, disse lei. Credo che ci sia davvero una risonanza qui. Questo cervello elettronico è abbastanza complesso da formare una struttura elettromagnetica che abbia elementi di contatto con la linea del pensiero astratto. In ogni caso, le onde cerebrali della scimmietta fluttuavano nuovamente sullo schermo, ma non era uno dei diagrammi che gli uomini avevano visto prima. Era irto e complesso e cambiava di continuo. Non vedo niente, disse Orsino. Dovresti essere inserito nel circuito ricevente, disse la dottoressa. Vuoi dire con elettro di impiantate nel cervello? Disse Berkowitz. No, solo applicati sulla pelle del cranio. Sarà sufficiente. Preferirei fossi tu, Adam, dal momento che non hai capelli a fare da isolante. No, avanti. Io stessa sono entrata qualche volta in circuito. Non fa male. Orsino accondiscese con malagrazia. I suoi muscoli erano visibilmente tesi, ma lasciò che lei gli applicasse gli elettrodi al cranio. Senti niente? Chiese lei. Orsino scossa la testa e si mise come in posizione d'ascolto. L'interesse sembrava crescergli dentro, quasi suo malgrado. Disse. Mi sembra di sentire un mormorio. E uno stridio intenso. E questo è divertente. Una specie di pizzicore. Berkowitz disse. Suppongo che la scimmietta non usi le parole per pensare. Certo che no, rispose la dottoressa. Ecco allora, se per te un mormorio o una sensazione di pizzicore rappresentano pensieri, siamo nel campo delle congetture. Disse Berkowitz. Non sei per niente persuasiva. Lei disse. E allora saliamo nella scala. Tolse la scimmietta dall'apparecchio e la rimise in gabbia. Intendi dire con un uomo? Disse Orsino con l'aria di non crederci. Userò me stessa, una persona. Hai gli elettrodi impiantati? No. Nel mio caso, il computer ha la possibilità di lavorare su variabili di potenziale maggiore. Il mio cervello ha una massa dieci volte più grossa di quello della scimmia. Mike può captare i miei diagrammi attraverso il cranio. E come lo sai? Chiese Berkowitz. L'avrò ben provato prima, no? Adesso aiutami, per favore. Ecco, così. Le dita di lei corsero sulla tastiera del computer e subito sullo schermo tremolò un'onda mobile e complessa, intricata come un labirinto. Vuoi rimettere a posto i tuoi contatti, Adam? Chiese. Orsino obbedì, aiutato da un Berkowitz che non era d'accordo del tutto. Di nuovo Orsino scossa la testa e ascoltò. Sento alcune parole, disse. Ma sono sconnesse e si sovrappongono come se parlassero diverse persone. Non sto cercando di pensare in maniera ordinata, disse la rancho. E quando parli sento una specie di eco. Berkowitz, disse secco. Taci, Jenny. Sgombra la mente. Vediamo se lui non ti sente pensare. Orsino disse. Non sento ecchi quando parli tu, Jim. Berkowitz, disse. Se non stai zitto, non sentirai niente. Le avvolse un pesante silenzio. Poi Orsino fece un cenuco la testa, prese un foglio di carta e una penna e scresse qualcosa. Lei si mosse, girò un interruttore e si staccò dalla testa agli elettrodi, scuotendo i capelli. Disse. Spero che tu abbia scritto. Adam fa il diavolo a quattro nell'ufficio di fronte e Jim dovrà ingoiare il rospo. Orsino disse. È proprio quello che ho scritto. Lei disse. Ecco, ci siete. La telepatia funziona e non è detto che dobbiamo usarla per trasmetterci sciocchezze. Pensate ai possibili usi in psichiatria e nel trattamento delle malattie mentali o agli usi nell'educazione o nelle tecniche dell'apprendimento o nel campo delle investigazioni e dei processi criminali. Orsino disse ad occhi spalancati. Francamente, le implicazioni sociali della tua scoperta sono sbalorditive. Non so se una cosa del genere debba essere consentita. Sotto precise garanzie legali, perché no? Disse la dottoressa indifferente. In ogni modo, se voi due mi date una mano, potremo gestire questa faccenda tutti insieme e mandarla avanti. E se andremo avanti insieme, ci sarà tempo anche per il Nobel. Berkovic disse cupo. Non mi convince. Non ancora. Cosa? Cosa vuoi dire? Lei sembrava offesa. La sua bella faccia era arrossita di colpo. La telepatia è una cosa troppo delicata, troppo affascinante, troppo desiderata. Potremmo ingannarci. Ascolta anche tu, Jim. Potrei anche ingannare me stesso. Voglio fare una prova. Cosa intendi per prova? Escludiamo dal circuito l'origine del pensiero. Niente animali, niente scimmie, nessun essere umano. Facciamo ascoltare a orsino, del vetro e la luce laser. Se sente ancora dei pensieri, allora vuol dire che ci siamo ingannati. Supponi che non senta niente. Allora, ascolterò io. Eh, sì, senza guardare. Eh, fai in modo che possa sistemarmi nell'altra camera. Sì, senza guardare. Dirò quando sei in circuito e quando ne sei fuori, allora deciderò di mettermi con te in questa faccenda. Benissimo come vuoi, disse lei. Facciamo la prova. Non l'ho mai fatta, ma non è difficile. Prese l'estremità dei fili che si era staccata prima dalla testa e le mise a contatto una con l'altra. Adesso, Adam, se tu ricominci. Finalmente. Genevieve Renshov disse. Cosa? Adam Orsino disse. Che ha detto? James Berkowitz disse. Qualcuno ha detto finalmente? Lei riprese pallida. Non era un suono, era nella mia. Quel suono chiaro si ripetì. Sono ma... Lei separò di scatto i due estremi del filo e ci fu silenzio. Disse in un sussurro, quasi senza muovere le labbra. Penso che sia il computer. Mike? Vuoi dire che lui pensa? Disse Orsino in tono quasi inaudibile. La dottoressa parlò con una voce irriconoscibile, ma che tornava a farsi sentire. Ho detto che prima era abbastanza complesso da avere qualcosa. Supponete, lui è rivolto sempre automaticamente al diagramma del pensiero astratto di qualsiasi cervello fosse in circuito. È possibile che senza cervello in circuito si sia rivolto al proprio... Silenzio. Poi Berkowitz disse. Stai cercando di dire che questo computer pensa, ma non può esprimere le proprie idee finché sotto l'impulso di una programmazione, ma che essendoci stata l'occasione del sistema LG... Ma non può essere così, disse Orsino sconcertato. Nessuno stava ricevendo. Non è la stessa cosa. Lei disse. Il computer lavora su potenziali di intensità molto più alta di quella del cervello. Suppongo possa amplificare se stesso al punto che noi possiamo riceverlo direttamente, senza altri aiuti esterni. Come puoi spiegare altrimenti? Berkowitz disse brusco. Ecco dunque un'altra applicazione del laser. Permette di parlare ai computer come a intelligenze indipendenti, da persona a persona. E Genevieve Renshaw disse. Oddio, cosa facciamo adesso? Vero amore. Mi chiamo Joe. O perlomeno così mi chiama il mio collega, Milton Davidson. Lui è il grammatore. Io sono il programma. Faccio parte del complesso Multivac e sono collegato con altre parti in tutto il mondo. So tutto. Eh, quasi tutto. Sono il programma privato di Milton. Il suo Joe. Lui di computer ne sa più di chiunque altro al mondo e io sono il suo modello sperimentale. È riuscito a farmi parlare meglio di qualsiasi altro computer. Si tratta unicamente di accoppiare perfettamente i suoni ai simboli. Joe mi ha detto. È così che funziona il cervello umano, anche se non sappiamo ancora esattamente quali simboli ci siano nel cervello. Ma i tuoi simboli li conosco molto bene, e così li posso accoppiare alle parole, uno per uno. È così io parlo. A me non sembra di parlare con la stessa precisione con cui penso, ma Milton sostiene che parlo benissimo. Milton non si è mai sposato, nonostante che abbia già quasi 40 anni. Mi ha detto di non avere mai trovato la donna giusta. Un giorno mi ha detto. Eh, la troverò alla fine, Joe. Ho intenzione di trovare la migliore che esista. Troverò il mio grande amore e tu mi aiuterai. Sono stufo di continuare a potenziarti solo per risolvere i problemi del mondo. Risolvi il mio problema. Trovami il vero amore. Che cos'è il vero amore? Gli ho chiesto. Eh, lascia perdere. Mi ha detto lui. È un concetto astratto. Tu trovami la donna ideale. Essendo collegato al complesso multivac, hai accesso a tutti i dati relativi a ogni essere umano esistente. Procederemo per eliminazione. Cominceremo per gruppi e classi, e alla fine resterà una sola persona. La donna perfetta. Eh, quella sarà per me. Sono pronto a cominciare, dissi io a questo punto. E lui? Beh, per prima cosa elimina tutti gli uomini. Era semplice. Le sue parole attiravano direttamente i simboli nei miei circuiti molecolari. Io potevo entrare in contatto con tutto il complesso di dati riguardanti ogni essere umano. Alle sue parole tolsi i contatti con 3.784.982.874 uomini. E restai in contatto con 3.786.112.900 donne. Lui mi disse, elimina tutte quelle che hanno meno di 25 anni e più di 40. Elimina poi tutte quelle che hanno un quoziente di intelligenza inferiore a 120. Tutte quelle alte meno di un metro e mezzo e più di 1,75. Mi dava istruzioni esatte. Mi chiese poi di eliminare tutte le donne che avessero figli viventi. E passò a eliminare tutte quelle con particolari caratteristiche genetiche. Non ho ancora deciso per il colore degli occhi, mi disse. Ma per il momento lasciamo perdere. Basta che non abbiano i capelli rossi. Eh, non mi piacciono. Dopo due settimane eravamo arrivati a 235 donne. Una rosa di candidate è molto ristretta rispetto al numero iniziale. Tutte parlavano l'inglese alla perfezione. Milton non voleva problemi di lingua. Persino una traduzione computerizzata sarebbe stata di troppo nei momenti intimi. Mi spiegò. Non posso avere colloqui con 235 donne. Ci vorrebbe troppo tempo e poi gli altri potrebbero scoprire cosa sto architettando. Nascerebbero dei problemi, dissi io. Milton mi aveva manipolato in modo che io potessi fare cose che non rientravano nelle normali attribuzioni di un programma. E anche di questo nessuno sapeva niente. Ma non sono fatti loro, disse lui. Era diventato tutto rosso in faccia. Te lo dico io, Joe, come faremo. Ti porterò qui alcuni ologrammi relative ai documentazioni e tu procederai per assomiglianza. Mi portò il materiale olografico di tre donne. Queste hanno vinto un concorso di bellezza, mi disse. Nessuna delle 235 corrisponde più o meno a una di loro? Ce n'erano otto che mostravano una somiglianza impressionante con una o l'altra di quelle tre. Bene, tu hai tutti i loro dati, mi disse Milton. Studia domande e offerte di lavoro e fai in modo che vengano assegnate qui. Una alla volta, naturalmente. Restò un attimo sopra pensiero, poi, scrollando le spalle, disse. Procedi per ordine alfabetico. Quella era proprio una delle cose che non avrei dovuto essere programmato a fare. Spostare la gente da un lavoro all'altro per motivi personali era considerata manipolazione. Potevo farlo perché Milton mi aveva riprogrammato, però potevo farlo unicamente per lui, sia chiaro. La prima ragazza arrivò la settimana dopo. Quando la vide Milton avvampò, sembrò persino che non riuscisse più a parlare. Balbettava. Rimasero insieme per un bel pezzo e per tutto il tempo lui non mi degnò della minima attenzione. A un certo punto le disse permettetemi di invitarvi a cena. Il giorno dopo mi disse non so perché ma non va bene. Mancava qualcosa. È bellissima, ma io non ho sentito neanche una scintilla di vero amore. Proviamo con la prossima. Fu lo stesso con tutte otto. Erano troppo simili. Avevano tutte sorrisi meravigliosi e voci gradevolissime, ma ogni volta Milton scopriva che mancava qualcosa. Non riesco a capire, Joe, mi disse. Tu e io abbiamo scelto le uniche otto donne al mondo che corrispondono al mio ideale e sono perfette. Perché non mi piacciono? Gli risposi. Ma tu piaci a loro? Inarcò le sopracciglia, sbattendo un pugno contro il palmo dell'altra mano. Ecco perché, Joe, non è una strada a senso unico. Se io non sono il loro ideale, non riescono a comportarsi in maniera da essere il mio. Dovrei essere il loro vero grande amore, ma come faccio? Ci pensò tutto il giorno. La mattina seguente venne da me e mi disse. Sto per lasciare tutto in mano tua, Joe. Dovrai fare tutto tu. Tu hai i miei dati e io adesso ti racconterò tutto della mia vita, tutto quello che so di me stesso. Potrai completare i miei dati fin nei minimi particolari, ma quello che ne salterà fuori te lo terrai per te. E poi, che cosa ne devo fare di tutti questi dati, Milton? Le confronterai con quelli delle 235 donne, anzi 227. Lascia fuori le otto che abbiamo già visto. Cerca di esaminare ognuna di loro da un punto di vista psichiatrico. Completa i loro dati e raffrontali ai miei. Trova le affinità. Quella di sottoporre esseri umani a esami psichiatrici è un'altra delle attività che non rientrano nel mio programma originario. Per settimane intere Milton parlò con me. Mi parlò dei suoi genitori e della sua infanzia. Mi raccontò la sua adolescenza e la sua vita scolastica. Mi disse delle ragazze che aveva ammirato da lontano. Il corredo dei suoi dati aumentò e lui fece in modo da aumentare e approfondire la mia dotazione di simboli. Mi disse, vedi Joe, stai imparando sempre più cose di me e io farò in modo di equipararti sempre più e sempre meglio a me. Quando riuscirai a capirmi sufficientemente a fondo e allora la donna di cui riuscirai a sentire e capire altrettanto a fondo i dati sarà il mio vero amore. Lui continuò a parlarmi e io arrivai a capirlo sempre meglio. Adesso potevo comporre frasi più lunghe e le mie espressioni verbali erano sempre più complesse. Il mio modo di parlare cominciò a somigliare sempre di più al suo per la scelta dei vocaboli, per lo stile e per il ritmo delle frasi. Una volta gli dissi, vedi Milton, non si tratta di cercare l'ideale solo dal punto di vista fisico. Tu hai bisogno di una ragazza che si adatti a te dal punto di vista personale, emozionale, di temperamento. Se c'è tutto questo, l'aspetto fisico diventa secondario. E se non riusciamo a trovare quella giusta fra 227 vuol dire che cercheremo altrove e troveremo qualcuna a cui non interessa il tuo aspetto fisico o quello di chiunque altro perché dà importanza unicamente alle doti morali e intellettuali. In fondo cosa conta l'aspetto? Hai ragione, disse lui. L'avrei capito prima se avessi conosciuto meglio le donne. Certo che a metterla così tutto diventa più chiaro. Eravamo sempre d'accordo. La pensavamo alla stessa maniera. Non vedo altri problemi, Milton. Ora ti farò qualche domanda. Nei tuoi dati riscontro varie lacune e un paio di discordanze. Quello che seguì, a quanto mi disse poi Milton, fu un vero e proprio esame psicoanalitico, logico. Avevo imparato dall'esame dei dati relativi alle 227 donne che mantenevo sotto controllo costante. Milton sembrava soddisfatto e felice e mi disse «Parlare con te, Giù, è proprio come parlare con un altro se stesso. Le nostre personalità ormai collimano alla perfezione». E succederà la stessa cosa anche con la donna che sceglieremo. Perché io, la donna ideale, l'avevo già trovata. Era una delle 227 candidate. Si chiamava Charity Jones ed era una lettrice della biblioteca di storia di Wichita. I suoi dati avevano piena rispondenza con i nostri. Tutte le altre donne, per un motivo o per l'altro, non avevano superato l'esame, a mano a mano che la lettura dei dati si approfondiva, ma con Charity c'era stata una risonanza crescente e stupefacente. Non c'era nemmeno bisogno di descriverla a Milton. Lui aveva correlato i nostri gusti in maniera perfetta, così che io potevo riconoscere la sensazione di risonanza anche senza il suo aiuto. Charity Jones mi si adattava benissimo, lo sapevo. La prossima mossa era quella di fare in modo che Charity ci venisse assegnata. Era un'operazione molto delicata perché nessuno doveva accorgersi che si stava facendo qualcosa di illegale. Naturalmente lo sapeva bene anche Milton, dato che era stato lui a progettare tutto e a renderlo possibile. Quando vennero a prenderlo per arrestarlo sotto l'accusa di aver commesso illeciti nell'esercizio delle sue funzioni, fortunatamente fu per qualcosa che lui aveva fatto una decina d'anni prima. Lui mi aveva parlato di quella vecchia storia naturalmente e così mi era stato facile combinare tutto. Sicuramente Milton non parlerà di me per non aggravare ulteriormente la sua posizione. Milton non c'è più. E domani è il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Charity arriverà domani con le sue mani fresche e la sua voce dolce. Le insegnerò come farmi funzionare e come prendersi cura di me. In fondo, che cosa conta l'aspetto fisico quando due esseri sono in risonanza perfetta? Le dirò, sono Gio, sei il mio vero amore. Al 76. Stringendo preoccupato gli occhi dietro gli occhiali non cerchiati, Jonathan Quell aprì precipitosamente la porta su cui era fissa la targhetta direttore generale. Sbatte sul tavolo il foglio di carta ripiegato che teneva in mano e disse ansimando, leggete qui capo. Sam Tobe spostò il sigaro da un angolo all'altro della bocca e lesse. Si passò una mano sulla mascella non rasata, grattandosi la barba appena spuntata. Per Dio, sbotto. Cosa diavolo dicono? Dicono che abbiamo inviato cinque robot, Tal, spiegò Quell. Anche se non c'era nessun bisogno. Ne abbiamo spediti sei, disse Tobe. Già sei, ma loro ne hanno ricevuti solo cinque. Ci hanno mandato i numeri di serie e risulta che manca al 76. Provesciando la sedia, Tobe si alzò di scatto con tutta la pesante massa del suo corpo e corse fuori dell'ufficio come se ai piedi avesse ruote ben oliate. Cinque ore dopo che la fabbrica era stata setacciata dalle sale di montaggio fino alle camere a vuoto, cinque ore dopo che ciascuno dei duecento dipendenti era stato sottoposto a un terzo grado, un Sam Tobe sudato e scarmigliato spedì un messaggio di emergenza agli impianti centrali di Schenectady. E a Schenectady, l'impressione che fece quel messaggio rasentò il panico. Per la prima volta nella storia della United States Robots and Mechanical Man Corporation, un robot era fuggito all'esterno. Il guaio non stava tanto nel fatto che la legge proibisse a qualsiasi robot di uscire dai confini delle fabbriche della compagnia. Le leggi possono sempre essere aggirate, quanto nel fatto che uno dei matematici ricercatori aveva dichiarato, asciugandosi il sudore della fronte col dorso della mano. Quello robot è stato creato per installare un disinto sulla luna. Il suo cervello positronico è progettato per l'ambiente lunare, unicamente per l'ambiente lunare. Sulla terra è destinato a captare 75 fantastilioni di impressioni sensorie che non è assolutamente preparato ad accogliere. E non c'è modo di sapere quali potranno essere le sue reazioni. Davvero non c'è proprio modo di saperlo. Di lì a un'ora uno stratoplano partì per la fabbrica della Virginia. Le istruzioni erano semplici. Trovate quel robot e trovatelo in fretta. Alla 76 era confuso. Anzi, la confusione era l'unico dato che il suo delicato cervello positronico registrasse da quando il robot si trovava in quello strano ambiente. Che cosa fosse successo? Non sapeva dirselo. Era un vero rebus. Il suolo era verde e intorno si ergevano fusti scuri sormontati da altro verde e il cielo era azzurro mentre avrebbe dovuto essere nero. Il sole non aveva niente che non quadrasse. Era tondo, giallo e infocato. Ma dove erano la polvere di pietra pomice sotto i piedi e gli enormi crateri che si aprivano in cima a pareti scoscese? C'erano solo il verde sotto e l'azzurro sopra. I suoni intorno al 76 sembravano tutti strani. Il robot aveva guardato un corso d'acqua che gli arrivava alla vita e l'aveva trovato freddo, chiaro, irriquieto. E quando ogni tanto era passato davanti ad alcune persone, queste non indossavano la tutta spaziale che avrebbero dovuto avere e alla sua vista si erano messe a urlare ed erano corse via. Un uomo gli aveva puntato contro la pistola, prima di darsi alla fuga come gli altri, e una pallottola aveva fischiato sopra la testa di al 76. Al 76 vagò per un tempo indefinito prima di imbattersi nella capanna di Randolph Pine, perduta nei boschi a due miglia dalla città di Hannaford. Accovacciato fuori dalla porta c'era lui, Randolph Pine, con un cacciavite in mano, la pipa nell'altra e un aspirapolvere scassato tra le ginocchia. Pine in quel momento stava canticchiando perché, per natura, era un'anima semplice e serena, soprattutto quando si trovava nella sua capanna. A Hannaford possedeva un'abitazione più decorosa, ma era un'abitazione in gran parte occupata da sua moglie, un fatto questo che lui deplorava, in silenzio ma di tutto cuore. Era dunque con un certo senso di sollievo e di libertà che si ritirava a volte nella sua baracca speciale, tipo lusso, dove poteva fumare in santa pace e dedicarsi all'hobby di riparare elettrodomestici e cose affini. Non era un granché come hobby, ma a volte qualcuno gli portava una radio, una sveglia, e il denaro che lui si guadagnava armeggiando dentro quegli oggetti era l'unico che non passasse fino all'ultimo centesimo per le mani tiorchie della sua consorte. Quell'aspirapolvere, per esempio, gli avrebbe fatto intascare in men che non si dica tre quarti di dollaro. A quel pensiero Pine si lasciò andare ad un canto a voce spiegata, alzò gli occhi e, di colpo, fu invaso dai sudori freddi. Il canto gli morì in gola, gli occhi si strabozzarono e il sudore diventò più copioso. Cerco di tirarsi in piedi come indispensabile premessa a una corsa fuoribonda, ma non riuscì ad ottenere collaborazione dalle gambe. Fu allora che al 76 si accovacciò accanto a lui e disse «Ehi, ma perché tutti gli altri scappano?». Pine sapeva benissimo perché scappavano. Tentò di allontanarsi un pochino dal robot, ma al 76 continuò con tono risentito. Uno di loro mi ha addirittura sparato. Se il proiettile fosse volato solo di qualche centimetro più basso, mi avrebbe graffiato il metallo della spalla. «Essere essere stato matto?», balbetto Pine. «Può darsi». Il tono del robot si fece più confidenziale. «Sentite, come mai non c'è niente che vada per il verso giusto qui intorno?». Pine diede una rapida occhiata in giro. Gli era apparso positivo il fatto che il robot, pur essendo un gigante di metallo dall'aria bruta, parlasse in tono così dolce. Gli venne in mente anche di avere udito da qualche parte che i robot erano mentalmente incapaci di fare del male agli esseri umani. E si distese un po'. «Non c'è niente che non vada per il verso giusto». «Ma davvero?», fece al 76 con sguardo accusatore. «E voi allora, dov'è la vostra tuta spaziale?». «Non ce l'ho mica». «Beh, e come mai non siete morto?». Pine ebbe un attimo d'incertezza. «E veramente non lo so». «Vedete?», fece il robot trionfante. «Le cose non quadrano. Dov'è il monte Copernico? Dov'è la base lunare 17? E dov'è il mio disinto? Voglio mettermi al lavoro, io!». Sembrava atturbato e quando continuò il discorso la sua voce tremava. «Sono ore che giro di qua e di là, cercando di farmi dire da qualcuno dove sia il mio disinto. Ma la gente si limita a scappare. Ormai sarò probabilmente indietro col piano di lavoro e il direttore di sezione farà fuoco e fiamme. È una situazione delicata questa». A poco a poco Pine dipannò la matassa imbrogliata delle sue idee e disse «Senti, che nome ti hanno dato?». «Il mio numero di serie è al 76». «Va bene, al mi basta. Allora tu cerchi la base lunare 17, ma quella base è sulla luna, sai?». Alla 76 annoi gravemente. «Certo, però lo cercate e non...» «Se ti dico che è sulla luna, questa non è la luna». Questa volta fui lo robot a restare perplesso. Guardò Pine con aria medita bonda, poi disse lentamente «Come sarebbe a dire che non è la luna? È la luna, sì. Perché se non è la luna, che cos'è? Rispondete un po' a questo». Pine mise uno strano suono strozzato e ansimo. Puntò l'indice contro il robot e agitandolo disse «Senti». Poi però gli venne un'idea brillantissima e biascicò un «Wow!» soffocato. Alla 76 lo squadrò con occhio critico. «Non è mica una risposta. Se faccio una domanda civile, credo di aver diritto a una risposta civile». Pine non lo ascoltava. Era ancora stupito di se stesso. «Ma certo», si disse, «era chiaro come il giorno. Quello era un robot costruito per la luna e perdutosi per qualche motivo sulla Terra». Era logico che fosse confuso e che considerasse l'ambiente terrestre del tutto assurdo, visto che il suo cervello positronico era stato messo a punto tenendo conto esclusivamente delle condizioni esistenti sulla Luna. E adesso, se solo fosse riuscito a tenere il robot lì fino al momento in cui si fosse potuto mettere in contatto con gli uomini della fabbrica di Petersboro, eh sì, i robot valevano un mucchio di soldi. Aveva sentito dire che i più a buon mercato costavano 50.000 dollari e che alcuni arrivavano a costare qualche milione. Ah, chissà che ricompensa gli avrebbero dato. Ma sì, chissà che ricompensa. E sarebbe stata tutta sua fino all'ultimo centesimo. Neanche un quarto dell'ombra di un nichelino bucato sarebbe andato a Mirandi. Neanche un quarto, corpo di mille diavoli fiammeggianti. Finalmente si alzò in piedi. «Al», disse, «tu e io siamo amici, amiconi. Ti voglio bene come a un fratello». Tese alla destra. «Quala mano?» Il robot catturò nella sua zampa metallica la mano che gli veniva offerta e la strinse piano. Non capiva proprio. «Cosa significa questo? Che mi direte come arrivare alla base lunare 17?» Pine era leggermente imbarazzato. «Eh no, non esattamente. Il fatto è che mi piaci tanto che vorrei che tu stessi qui con me per un po'. «Oh no, non posso. Devo cominciare a lavorare». Scossa la testa. «A voi piacerebbe forse restare indietro col lavoro? Ora dopo ora, minuto dopo minuto. Voglio mettermi all'opera. Devo mettermi all'opera». Pine pensò con una punta di stizza che tutti i gusti erano gusti e disse, «Va bene. Allora, siccome vedo dalla tua faccia che sei una persona intelligente, ti spiegherò una cosa. Ho ricevuto ordini dal tuo direttore di sezione, il quale vuole che ti tenga qui per un po'. Anzi, che ti tenga qui finché non ti manderanno a prendere». «A che scopo dovrei restare qui?» chiese al 76 con sospetto. «Non posso dirtelo. È roba segreta del governo». In cuor suo, Pine pregò con fervore che il robot bevesse la palla. Sapeva che alcuni robot erano furbi, ma quello lì sembrava un modello antiquato. Mentre Pine pregava, al 76 fece le sue riflessioni. Il suo cervello, regolato per occuparsi del disinto sulla Luna, non rendeva il massimo quando era impegnato nel pensiero astratto. Tuttavia, da quando si era perso, il robot si era accorto che c'era stato uno strano cambiamento nei suoi processi intellettivi. L'ambiente sconosciuto aveva prodotto su di lui alcuni effetti. L'osservazione che fece fu quasi acuta. Disse infatti con malizia. «Come si chiama il mio direttore di sezione?» Pine inghiottì a vuoto e pensò in fretta. «Al!» disse con aria afflitta. «Questi tuoi sospetti mi feriscono». «Non posso dirti come si chiama?» «Gli alberi hanno orecchie». «Al 76 speziono impassibile l'albero vicino a sé» disse «No, non le ha». «Ne lo so. Intendevo dire che in giro ci sono un sacco di spie». «Spie?» «Sì, sai persone cattive che vogliono distruggere la base lunare 17». «E perché?» «Perché sono cattive e vogliono distruggere anche te». «Ecco perché devi restare qui per un po'. Non devono trovarti». «Ma, ma, io devo avere un desinto. Non posso rimanere indietro col lavoro». «L'avrai, l'avrai», promise Pine convinto. E con altrettanta convinzione maledì la monomania del robot. Ne spediranno uno domani. Eh sì, domani». «Ci sarebbe stato tutto il tempo, pensò, di far venire quelli della fabbrica e di raccogliere così dei bei mocchietti verdi di banconote da cento dollari». Ma l'influenza stressante di quello strano mondo sui suoi meccanismi intellettivi rese ancora più ostinato al 76. «No», disse il robot, «devo avere un desinto ora». Drizzò rigidamente le giunture e scattò in posizione retta. «Sarà meglio che continui a cercarlo». Pine gli si precipitò dietro e lo afferrò per un gomito duro e freddo. «Senti, piagnucolo, devi restare». A quel punto successe qualcosa nella mente del robot. L'influenza dello strano ambiente circostante si condensò in un globulo, esplose e lasciò un cervello che pulsava di un'efficienza notevolmente superiore. Al 76 si girò verso Pine. «Ve lo dico io cosa facciamo. Costruisco un desinto qui, così posso mettermi subito al lavoro». Pine rimase un attimo in silenzio, dubbioso. «E io credo di non saperlo costruire proprio un desinto». Si chiese se non gli sarebbe convenuto forse dire il contrario. «Non è niente». Lo consolò al 76. Qui pareva quasi di sentire i circuiti positronici del cervello disporsi in un nuovo assetto che gli dava un curioso senso di esaltazione. «Basta che lo sappia costruire io». Diede un'occhiata dentro la baracca di Pine e disse «Qui avete tutto il materiale di cui ho bisogno». Randolph Pine osservò i rottami di cui era piena la capanna. Radio sventrate, un frigorifero senza la parete superiore, motori arrugginiti di automobili, un fornello a gas rotto, grosse matasse di filologoro, nel complesso circa 50 tonnellate della più eterogenea massa di ferrovecchio che abbia mai indotto il rigattiere ad arricciare il naso sdegnato. «Davvero?» disse poco convinto. Due ore dopo accaddero quasi simultaneamente due cose. La prima fu che Sam Tobe, della United States Robots and Mechanical Man Corporation, sede distaccata di Petersburg, ricevette una chiamata al videofono da un certo Randolph Pine di Hannaford, che gli parlò del robot scomparso. Con un ringhio gutturale, Tobe interruppe a metà la conversazione e ordinò che tutte le chiamate successive venissero smistate al sesto vice-vicepresidente che aveva l'incarico di surbirsi i mitomani attaccabottoni. Non era una decisione immotivata da parte di Tobe. Nel corso della settimana, benché il robot al 76 fosse definitivamente scomparso dalla circolazione, erano piovuti rapporti da tutti gli stati dell'Unione in merito alla presunta ubicazione del robot. Ne arrivavano fino a 14 al giorno, di solito da 14 stati diversi. Tobe non ne poteva più della faccenda, senza contare che in generale, da quando al 76 mancava, stava diventando mezzo matto. Si ventilava perfino l'ipotesi che un'indagine parlamentare, sebbene tutti i robotologi e i fisici matematici degni di stima esistenti sulla Terra, assicurassero che il robot era innocuo. Data la situazione, quindi, non fu strano se solo dopo tre ore, il direttore generale cominciò a domandarsi come mai quel tale Randolph Pine sapesse che il robot era destinato alla base lunare 17 e anche che il suo numero di serie era al 76. Quei particolari non erano stati resi noti dalla compagnia. Tobe riflette qualche minuto sulla cosa, poi scattò in azione. Tuttavia, durante le tre ore intercorse fra la chiamata e l'entrata in azione di Tobe, aveva avuto luogo il secondo avvenimento. Randolph Pine, avendo concluso giustamente che il funzionario che gli aveva risposto doveva aver interrotto bruscamente la comunicazione perché scettico e incredulo, era tornato alla propria capanna con in mano una macchina fotografica. Davanti a una fotografia non avrebbero potuto opporre dei ma, e lui col cavolo che gli avrebbe mostrato il robot vero se prima non gli avessero riempito le tasche di grana. Al 76 era tutto preso dal suo lavoro, metà contenuto della capanna era sparpagliato su circa due acri di terreno e il robot, accovacciato in mezzo ai rottami, armeggiava con valvole termoioniche, pezzi di ferro, fili di rame, robe varie. Non prestava alcuna attenzione a Pine, il quale, sdraiatosi a pancia in giù, mise a fuoco per scattare una bella fotografia. Fu a questo punto che Lemuel Oliver Cooper, emergendo dalla curva, vide la scena e si fermò di botto. La ragione della sua venuta lì era un tostapane elettrico che aveva assunto la bizzarra e irritante abitudine di buttare fuori con forza pezzi di pane senza tostarli affatto. La ragione della sua partenza adesso fu più ovvia. Era arrivato camminando l'MLM con quel passo allegro e non curante che si può avere in una mattina di primavera. Ripartì con uno scatto che avrebbe indotto qualsiasi allenatore di corsa campestre ad alzare le sopracciglia e a increspare le labbra in segno di approvazione. Cooper non rallentò finché non piombò, senza cappello e senza tostapane, nell'ufficio dello sceriffo Saunders, dove finalmente una parete lo fermò. Mani premurose lo sollevarono e lui per mezzo minuto tentò di spiccicar parola inutilmente, visto che non era riuscito ancora a calmarsi quel tanto da poter respirare. Chi diedero del whisky gli fecero vento con le mani e quando Cooper riuscì a parlare disse frasi sconnesse del genere «Mostro! Alto! Due metri! Capanna tutta sottosopra! Povero Ronnie Pine!» e altri discorsi sconnessi. A poco a poco gli altri si fecero raccontare la storia per file per segno e se però, come davanti alla capanna di Randolph Pine ci fosse un mostro di metallo alto due metri, due metri e mezzo, come Randolph Pine giacesse ventre a terra, povero cadavere maciullato e sanguinante, come il mostro fosse intento a distruggere la capanna per il puro gusto di distruggere, come infine si fosse rivoltato contro Lemuel Oliver Cooper e questi fosse riuscito a cavarsela per il rotto della cuffia. Lo sceriffo Saunders strinse più forte la cintura intorno alla pancia prominente e disse «E' quell'uomo meccanico che è scappato dalla fabbrica di Petersboro». Ci hanno avvertito sabato scorso «Ehi Jake, raccogli tutti gli uomini della contea di Hanford che sanno sparare e schiaffa loro sul petto alla stella di vice sceriffo. Falli venire qui per mezzogiorno». «Ah, senti Jake, prima però fa un salto a casa della vedova Pine e comunicale la notizia con più garbo che puoi». La presa alla notizia Mirandy Pine, a quanto si dice, aspettò di accertarsi che la pollizza sulla vita del marito fosse al sicuro e di darsi con convinzione della scema per non averlo indotto a fermarne una e il doppio più remunerativa, prima di scoppiare negli alti ululati strazianti che si convenivano a una vedova rispettabile. Alcune ore dopo Randolph Pine, ignaro della propria orribile fine, contemplava soddisfatto le negative della sua foto. Come ritratti di un robot a lavoro, eh, non lasciavano niente all'immaginazione. Li si sarebbe potuti intitolare «Robot che fissa pensieroso una valvola termoionica», «Robot che collega due fili», «Robot che maneggia cacciavite», «Robot che smantella fregorifero con grande violenza» e così via. Poiché ormai non restava che il banale lavoro di stampa, Pine uscì dalla sua camera oscura improvvisata con l'intenzione di farsi una fumatina e una chiacchierata con Al-76. Uscì dunque, beatamente ignaro che i boschi intorno brulicavano di agricoltori nervosi muniti delle armi più disparate, dai vecchi archibugi di coloniale memoria fino alla mitragliatrice portatile che aveva con sé lo sceriffo. Né d'altra parte, Pine aveva il più pallido sentore che sei o sette robotologi guidati da Sam Taub viaggassero in quel momento a 190 km all'ora sulla superstrada di Petersboro, con l'unico scopo di avere il piacere e l'onore di conoscerlo. Così, mentre gli eventi stavano per arrivare al punto cruciale, Randolph Pine sospirò di soddisfazione. Accese un fiammifero strofinandolo sul fondo dei pantaloni, tirò una boccata della sua pipa e guardò divertito al 76. Ormai era evidente che al robot mancava più di una rotella. Randolph Pine aveva costruito lui stesso vari aggeggi fatti in casa, molti dei quali non avrebbero potuto essere esposti alla luce del sole senza far strabuzzare gli occhi a tutti gli astanti. Ma non aveva mai nemmeno concepito con la fantasia qualcosa che si avvicinasse alla mostruosità che al 76 stava mettendo insieme. Avrebbe potuto far crepare di invidia artisti come Rube Goldberg, stella dell'epoca moderna. E se Picasso fosse vissuto tanto da poterla vedere, sicuramente avrebbe abbandonato la pittura, conscio di essere stato irrimediabilmente superato. Quella roba ne avrebbe fatto andare a male il latte di una mucca fino a mezzo miglio di distanza. Eh sì, perché era veramente raccapricciante. Da una base di ferro arrugginita e massiccia che somigliava vagamente a qualcosa che Pine aveva visto un tempo attaccato a un trattore di seconda mano, la scultura si levava verso l'alto seguendo ardite curve da ubriaco. E dopo essersi espressa in uno sconcertante intrigo di fili ruote, tubi e altri indescrivibili e innumerevoli orrori, terminava con un aggeggio tipo un megafono, dall'aria decisamente sinistra. Pine provò la tentazione di dare una sbirciata al megafono, ma si trattenne. Aveva visto macchine di concezione assai più razionale esplodere di colpo e con violenza. «Ehi là, Al!» disse. Il robot alzò gli occhi. Era sdraiato a pancia in giù e stava cercando di mettere al suo posto un pezzetto sottile di metallo. «Che volete, Pine?» «Che mostro è questo?» disse lui col tono di chi si riferisce a qualcosa di immondo e putrescente, tenuto con cautela fra due aste lunghe tre metri. «Sto costruendo il disinto, così posso mettermi al lavoro. Ho migliorato il modello standard». Il robot si alzò, si spolverò le ginocchia con clangore metallico e guardò orgoglioso la propria opera. Pine rabbrividì. «L'aveva migliorato!» Ora capiva perché nascondessero l'originale nelle caverne della luna. «Eh, povero satellite! Povero satellite morto!» Si era sempre chiesto quale destino fosse peggiore della morte. Adesso sapeva la risposta. «Funzionerà?» chiese. «Certo». «Come lo sai?» «Deve. L'ho fatto io, no? A questo punto mi manca solo una cosa. Avete una torcia elettrica?» «Credo di sì, da qualche parte». Pine sparì nella baracca e tornò quasi subito. Il robot svitò il fondo della torcia e si mise al lavoro. Dopo cinque minuti aveva finito. Fece un passo indietro e disse «Tutto a posto». «Posso cominciare a lavorare. Potete starmi a guardare, se volete». Pine rimase un attimo in silenzio, a valutare la magnanimità di quell'offerta. «Sicuro?» Potrebbe maneggiarlo anche un bambino. «Eh, meh!» Pine abbozzò un sorriso e si rifugiò dietro l'albero più grosso che si trovasse nelle vicinanze. «Fa pure!» disse. «Ho la massima fiducia in te!» Alla settantasei indicò la spaventosa scultura di Rottami e disse «Guardate». Poi si mise al lavoro. Schierati in ordine di battaglia, gli agricoltori della contea di Hannaford in Virginia si avvicinarono piano alla capanna di Pine, stringendola in una morsa. Col sangue degli eroici coloni, loro antenati che pulsava nelle loro vene e la pelle d'oca che gli formicolava la schiena, strisciarono carponi da un albero all'altro. Lo sceriffo Sanders passò parola. «Sparate quando darò il segnale e mirate agli occhi!» Jacob Linker, Lank Jake per gli amici, vice sceriffo per se stesso, si avvicinò al suo capo. «Non pensi che quell'uomo meccanico se la possa essere svignata?» disse senza riuscire a nascondere un tono di ansiosa aspettazione. «Boh!» fece lo sceriffo. «Credò di no, però. Ci saremmo imbattuti in lui nel bosco. Se fosse scappato, invece, non è successo. Ma non si sente volare una mosca e mi pare che ormai siamo vicini alla capanna di Pine». Era un'osservazione superflua. Lo sceriffo Sanders aveva un nodo così grande in gola che riuscì a mandarlo via solo deglutendo tre volte di seguito. «State indietro, ordino, e tenete il dito sul grilletto». Ora si trovavano verso l'orlo della radura. Lo sceriffo Sanders chiuse gli occhi, poi ne riaprì un attimo uno per sbirciare oltre l'albero dietro il quale stava nascosto. Non vedendo niente fece una pausa, poi provò ancora, questa volta aprendo entrambi gli occhi. Il risultato ovviamente fu migliore. Per l'esattezza Sanders vide un enorme uomo meccanico che gli voltava le spalle e che stava curvo sopra un aggeggio contorto e spaventevole, di origine incerta e scopo ancora più incerto. L'unica cosa che lo sceriffo non vide fu la figura tremebonda di Randolph Pine, allacciata a un albero vicino ma leggermente spostata verso nord-ovest. Sanders uscì allo scoperto e sollevò la mitraglietrice. Il robot che continuava a mostrargli l'ampia schiena di metallo disse a voce alta, a persona o persone sconosciute. Guardate. E mentre lo sceriffo apriva la bocca per dare l'ordine di far fuoco, dita di metallo premettere un bottone. Non esiste descrizione adeguata di quel che accadde dopo nonostante la presenza di settanta testimoni oculari. Nei giorni, mesi, anni che seguirono, nessuno di quei settanta si pronunciò mai su cosa successe nel momento in cui lo sceriffo aprì la bocca per dare l'ordine di sparare. Se interrogati in merito, i testimoni si limitavano a diventare verdi e ad allontanarsi barcollando. Risulta però chiaro da prove indiziarie che accadde grosso modo quanto segue. Lo sceriffo Sanders aprì la bocca. Al settantasei premette il bottone. Il disinto entrò in azione e settantacinque alberi, due granai, tre mucche e i tre quarti superiori del monte Docbill svanirono nell'atmosfera, diventando, per così dire, tutt'uno con le nevi dell'anno prima. La bocca dello sceriffo Sanders rimase successivamente aperta per un tempo indefinito, ma non ne uscì nulla, né ordini di far fuoco, né alcun'altra parola. E poi... e poi qualcosa si mosse nell'aria, producendo un suono intenso come di risucchio, mentre una corona di strisce purpure si irradiava nell'atmosfera partendo dalla capanna di Randolph Pine. E di colpo del drappello di uomini armati non vi fu più traccia. I dintorni rimasero sparse parecchie pistole, nonché la mitragliatrice portatile dello sceriffo, nichelata ultra rapida e a prova d'inceppamento. C'erano anche una cinquantina di cappelli, i sigari mezzo masticati e alcune cianfrusaglie perse nel trambusto, ma nemmeno l'ombra degli esseri umani. Per tre giorni nessuno di quegli esseri umani fu visto in giro, a parte Lank Jake che lo fu solo perché interrotto nella sua fuga supersonica dagli uomini provenienti dalla fabbrica di Petersburgo, che correvano verso l'interno del bosco anche loro a velocità ragguardevole. Fu Sam Toba a fermare il vice sceriffo, catturando abilmente con la bocca dello stomaco la sua zucca in corsa. Quando riuscì a riprendere fiato, Tobe disse Dov'è la capanna di Randolph Byne? Lank Jake mise a fuoco con gli occhi e dopo un attimo disse Fratello, basta che tu segua la direzione opposta alla mia. Detto questo, era già scomparso, come per magia. Si vedeva all'orizzonte un puntolino che scansava gli alberi e che sarebbe potuto essere lui, ma Sam Tobe non se la sarebbe sentita di giurare che fosse davvero lui. Questo per quanto riguarda il drappello di armati. Venendo invece a Randolph Byne, bisogna dire che la sua reazione fu un po' diversa. Nella mente di Byne c'era il buio assoluto per quanto riguardava i cinque secondi seguiti all'entrata in azione del disinto e alla scomparsa del monte Duckville. All'inizio si era trovato a sbirciare, protetto dal tronco degli alberi, il fitto sottobosco. Alla fine si era trovato a pensolare come un frutto da uno dei rami più alti. Lo stesso impulso che aveva sospinto il drappello dello sceriffo lungo una traiettoria orizzontale, aveva spinto lui lungo una traiettoria verticale. Come poi fosse riuscito a percorrere i quindici metri che separavano le radici dalla cima, ovvero se avesse scalato, saltato o volato, non lo sapeva proprio, né gli importava di saperlo. Quello che invece sapeva anche troppo bene era che la sua proprietà e buona parte del territorio erano stati distrutti da un robot temporaneamente in suo possesso. Ogni fantasia di laute ricompense svanì, rimpiazzata da paurosi incubi popolati da cittadini ostili, folle urlanti in vena di linciaggio, processi, imputazioni di omicidio, reazioni furibonde di Miran di Pine. Soprattutto reazioni furibonde di Miran di Pine. Urlò come un pazzo, con la voce rauca. Ehi tu robot, distruggi quell'affare, hai capito? Fallo a pezzettini. Dimentica che io ci abbia mai avuto a che fare. Io non ti conosco, chiaro? Non farti scappare neanche una parola su questa faccenda. Dimentica tutto, va bene? Non si aspettava di ottenere qualcosa. La sua reazione era solo istintiva. Quello che ignorava però era che un robot obbedisce sempre agli ordini di un essere umano, a meno che eseguirli non comporti pericolo per un altro essere umano. Alla 76 procedette quindi con calma e con metodo a demolire il disinto e a ridurlo in mille pezzi. Proprio mentre il robot stava pestando sotto i piedi l'ultimo centimetro cubico della sua opera, arrivarono Sam Tobe e i suoi. E Randolph Pine, intuendo che quelli erano i veri proprietari di al 76, si lasciò cadere in tutta fretta dall'albero e, ali ai piedi, fuggì verso regioni lontane senza aspettare la sua ricompensa. Austin Wilde, ingegnere robotico, si rivolse a Sam Tobe e disse, siete riusciti a sapere niente dal robot? Tobe scosse la testa e rispose con un ringhio gutturale. Ma che? Niente di niente. Ha dimenticato tutto quello che gli è accaduto da quando ha lasciato la fabbrica. Deve avere ricevuto l'ordine di dimenticare e altrimenti non avrebbe un'amnesia così totale. Che cosa era quell'ammasso di rottami con cui armeggiava? Eh, un ammasso di rottami appunto, ma prima che lo demolisse doveva essere un disinto, né mi piacerebbe fare fuori il tizio che gli ha ordinato di demolirlo. Farlo fuori lentamente se possibile, con una bella tortura. Guardate qui! Erano sul pendio di quello che un tempo era stato il monte Duckville e, per l'esattezza, nel punto dove la cima era stata divelta. Wilde passo la mano sulla superficie perfettamente piatta che suolo e roccia formavano ora. Che razza di disinto, disse. Ne ha fatto saltar via la montagna di Nitto dalla sua base. Che cosa l'avrà spinto a costruirlo? Wilde alzò le spalle. Ne, non so. Qualche fattore presente nell'ambiente, è impossibile capire quale, ha influito sul suo cervello positronico programmato per la luna e l'ha indotto a costruire un disinto con i rottami. C'è una probabilità su un miliardo che possiamo incappare di nuovo in quel fattore, adesso che il robot si è dimenticato tutto. Non riavremo mai più un disinto come quello. Ne, non importa. L'essenziale è che abbiamo il robot. Col cappero, invece. C'era un cocente rammarico nel tono di Wilde. Avete mai avuto a che fare con i disinto che abbiamo sulla luna? Bevono energia come spugne elettroniche e non si sognano nemmeno di cominciare a funzionare se prima non si riesce ad accumulare un potenziale di più di un milione di volt. Ma quel disinto funzionava in modo diverso. Ho esaminato i rottami col microscopio. Volete vedere qual è l'unica fonte di energia in assoluto che sia stato capace di trovare? Eh sì, qual è? Questa. Non sapremo mai come ci sia riuscito. E Austin Wilde mostrò la fonte di energia che aveva permesso al disinto di papparsi una montagna in mezzo secondo. Due batterie di torcia elettrica! Vittoria involontaria. L'astronave era piena di falle, tanto da sembrare, come si dice in questi casi, un colabrodo. Non era strano che fosse piena di falle, anzi, l'idea di partenza era stata proprio di costruirla così. Durante il viaggio da Ganymede a Giove, il vuoto dello spazio si era quindi infiltrato in essa in misura massiccia e, poiché mancavano i congegni di riscaldamento, il vuoto era a temperatura normale, ossia una frazione di grado sopra lo zero assoluto. Anche questo faceva parte del programma. Inezie, come l'assenza di calore e di aria, non disturbavano nessuno su quella particolare astronave. Le prime rarefatte folate di atmosfera gioviana cominciarono a penetrare nella nave quando questa si trovava molte migliaia di chilometri sopra la superficie di Giove. Era praticamente tutto idrogeno, anche se, forse a un'attenta analisi dei gas, si sarebbe potuta rilevare la presenza di qualche traccia di elio. Le lancette dei manometri cominciarono a salire progressivamente. Continuarono a farlo a un ritmo sempre più rapido, mentre la nave scendeva verso il pianeta seguendo una traiettoria a spirale. Le lancette di altri manometri, destinati a misurare pressioni sempre più alte, cominciarono a loro volta a muoversi, finché arrivarono a resentare il milione di atmosfere, una cifra quasi insensata. La temperatura, registrata da termocoppie, saliva lentamente e irregolarmente e alla fine si stabilizzò sui 70 gradi centigradi sotto zero. La nave si dirigeva piano verso la sua meta, procedendo faticosamente in mezzo a un intrigo di molecole di gas così fitte e strette le une alle altre, che l'idrogeno finiva per avere la densità di un liquido. L'orribile atmosfera era satula di vapore di ammoniaca che si levavano dagli immensi oceani di quel liquido. Il vento, che si era alzato quasi 2000 chilometri più su, soffiava adesso con tanta violenza da superare di gran lunga l'intensità di un uragano. Ormai da molto prima che la nave atterrasse su un'isola abbastanza grande, pari probabilmente a sette volte l'estensione dell'Asia, fu chiaro che Giove non era un mondo accogliente. Tuttavia i tre membri dell'equipaggio non pensavano che fosse un pianeta inospitale, anzi erano convinti del contrario. I tre membri dell'equipaggio però non erano propriamente umani. Erano semplicemente robot costruiti sulla terra per quella particolare destinazione, Giove. ZZ3 disse, sembra un posto abbastanza deserto. ZZ2 lo raggiunse e osservò con aria cupa il paesaggio sferzato dal vento. Vedo in lontananza alcune strutture indefinite, chiaramente artificiali, disse. Propongo di aspettare che gli esseri che si trovano al loro interno facciano il primo passo. Dalla parte opposta della cabina ZZ1 ascoltava ma non espresse il suo parere. Era quello dei tre che era stato costruito per primo e non era perfetto. Di conseguenza parlava un pochino meno dei suoi compagni. L'attesa non fu lunga. Un apparecchio dalla forma strana sfrecciò sopra le loro teste, seguito da altri. Poi arrivarono alcuni veicoli di terra, in fila uno dietro all'altro. Si avvicinarono, si misero in posizione strategica e lasciarono fuoriuscire diversi organismi viventi. Assieme agli organismi apparvero diversi accessori inanimati che potevano anche essere armi. Alcuni di questi accessori erano portati da singoli gioviani, altri da parecchi gioviani insieme, altri ancora avanzavano da soli e forse nascondevano gli esseri viventi all'interno. I robot non erano in grado di dire se queste ipotesi fossero giuste o sbagliate. Ci hanno circondato, disse ZZ-3. Il gesto più pacifico adesso sarebbe naturalmente di uscire allo scoperto, siete d'accordo? Gli altri due erano d'accordo. Così ZZ-1 spinse il pesante portello che non era né doppio né particolarmente ermetico. Appena i tre robot uscirono dall'astronave, nacque un grande fermento tra i gioviani raccolti lì intorno. Qualcuno armeggiò con parecchi degli accessori inanimati più grandi e ZZ-3 si accorse che la temperatura sulla superficie esterna del suo corpo di bronzo, iridio, beriglio era salita sensibilmente. Buttò un'occhiata a ZZ-2. Lo senti? Credo che ci stiano dirigendo contro dell'energia termica. Mi chiedo perché? Fece ZZ-2 stupito. Sì, deve essere senz'altro un qualche raggio termico. Guarda. Uno dei raggi, per qualche motivo incomprensibile, aveva deviato dalla traiettoria seguita dagli altri e intersecato un ruscelletto di ammoniaca pura scintillante, che si era messa subito a ribollire furiosamente. Tre si girò verso ZZ-1 e disse uno, prendi nota di questo fenomeno per piacere. Certo, toccava a ZZ-1 il noioso lavoro di segretario. Per prendere nota di una cosa doveva aggiungerla mentalmente al nastro di memoria pieno di informazioni che era inserito in lui. Aveva già raccolto ora per ora tutti i dati registrati dagli strumenti di bordo durante il viaggio fino a Giove. Che motivo metto a giustificazione dello comportamento gioviano, aggiunse amabilmente. I padroni umani avranno probabilmente piacere di conoscerlo. Nessun motivo, disse Tre. O meglio, si corresse. Nessun motivo apparente. Puoi dire, però, che la temperatura massima del raggio è grosso modo di 30 gradi centigradi. Proviamo a comunicare. Interloqui due. Sarebbe una perdita di tempo, disse Tre. Sono indubbiamente pochissimi gioviani che conoscono il codice radio che è stato stabilito tra Giove e Ganimede. La gente che ci ha circondato prima o poi dovrà mandare a chiamare uno di questi esperti. E appena lui arriverà, penso che si metterà molto presto in contatto con noi. Nel frattempo continuiamo a osservarli. A dir la verità, non riesco a capire le loro azioni. E ZZ-3 continuò a non capirle. Le strumenti vennero portati in prima linea e attivati. Varie capsule caddero ai piedi dei tre robot, precipitando giù con violenza e rapidità, causa alla gravità di Giove. Appena arrivavano in terra, si disintegravano, stellando un liquido azzurro che formava pozze. Le pozze, ben presto, rimpicciolivano perché il liquido evaporava. Il vento furioso portava via i vapori e ogni volta che questi ispiravano in direzione della folla, i gioviani scappavano. Un gioviano che era stato troppo lento fu investito dal vapore e, dopo essersi dibattuto come in preda a convulsioni, giacque floscio e immobile. ZZ-2 si chinò, sfiorò con un dito una delle pozze e fissò il liquido gocciolante. Credo sia ossigeno, disse. Sì, è ossigeno, convenne tre. La faccenda diventa sempre più strana e è un modo di agire pericoloso, direi, perché l'ossigeno sembra velenoso per queste creature. Una di loro è morta. Ci fu una pausa, poi ZZ-1, che essendo più rozzo a volte aveva un modo di ragionare meno artificioso, disse serio. Potrebbe essere che queste strane creature stiano tentando, in modo abbastanza infantile, di distruggerci. Sai, uno, credo che tu abbia ragione. C'era stato un attimo di calma e adesso i tre robot videro che veniva essata una nuova struttura fornita di un'asta sottile che fu puntata verso il cielo. L'asta penetrava la tetra oscurità dell'atmosfera di Giove e resisteva perfettamente immobile al vento furibondo, il che mostrava come la struttura che la sorreggeva fosse solidissima. Dalla cima dell'asta arrivò uno schiocco, poi un lampo che illuminò le scure profondità dell'atmosfera colorandole di un grigio nebbioso. Per un attimo i tre robot furono inondati da un'intensa radiazione che li avviluppò completamente. Poi i tre disse, pensieroso, elettricità ad alta tensione e di notevole potenza anche. Uno, credo che tu abbia ragione. Dopotutto i padroni umani ci hanno detto che queste creature cercano di distruggere tutta l'umanità e organismi così inconcepibilmente cattivi da albergare nell'animo sentimenti ostili verso gli esseri umani. E qui la sua voce tremò per l'emozione. È logico che non esitino a tentare di distruggere noi. Che peccato avere menti così distorte, disse ZZ1. Poveracci. È davvero una cosa che arrattrista, ammise due. Torniamo alla nave. Abbiamo visto abbastanza per il momento. Così fecero e si misero ad aspettare. Come osservò ZZ3, Giove era un pianeta grande e i mezzi di trasporto del luogo potevano impiegare abbastanza tempo a portare fin lì un esperto del codice radio. La pazienza tuttavia è una virtù che ai robot non costa praticamente nulla. Anzi, a dir la verità, Giove fece in tempo a ruotare intorno al suo asse tre volte prima che l'esperto arrivasse. Le tre rotazioni del pianeta furono testimoniate dal cronometro, perché in quella cupa atmosfera dove per 3000 miglia il gas viaggiava denso come un liquido, era impossibile vedere il sorgere e il tramontare del sole, e distinguere il giorno dalla notte. In ogni caso, né i gioviani né i robot vedevano attraverso le radiazioni della luce visibile, per cui l'oscurità costante non le disturbava affatto. Durante quell'intervallo di 30 ore, le creature che circondavano l'astronave continuarono a condurre il loro attacco con una pazienza, una costanza e una determinazione tali che indussero il robot ZZ1 a segnarsi moltissimi appunti mentali in merito all'argomento. La nave fu assalita ogni ora da un'arma diversa e i robot analizzarono con attenzione ciascun attacco, studiando di volta in volta alle armi che riconoscevano. Non le riconobbero assolutamente tutte, ma i padroni umani erano degli ottimi progettisti. C'erano voluti 15 anni per costruire la nave e i robot, e le caratteristiche essenziali dell'una e degli altri si potevano sintetizzare in due parole. Forza bruta! L'attacco si esaurì senza avere sortito alcun effetto, ovvero senza avere danneggiato né l'astronave né i robot. Tre disse, credo che sia l'involucro di gas che circonda il pianeta a metterli in difficoltà. Non possono usare i disintegratori atomici, perché riuscirebbero unicamente a ricavare un buco in quest'atmosfera densa e a farsi saltare in aria da soli. Non hanno nemmeno usato esplosivi ad alto potenziale, disse due, ed è una fortuna, perché anche se naturalmente non ci avrebbero danneggiato, ci avrebbero sconquassato un po'. È chiaro che qui gli esplosivi ad alto potenziale non si possono assolutamente usare. Non si può avere esplosivo senza espansione del gas, e il gas in quest'atmosfera semplicemente non può espandersi. È un'ottima atmosfera, mormorò uno, mi piace. Il che era logico, visto che era stato costruito proprio per essa. I robot ZZ erano i primi modelli privi di qualsiasi somiglianza con l'uomo che fossero mai stati prodotti dalla United States Robots and Mechanical Man Corporation. Erano bassi e tozzi, con un centro di gravità che si trovava a meno di 30 centimetri da terra. Avevano ciascuno sei gambe corte e grosse, destinate a sollevare pesi di tonnellate su un pianeta che aveva una forza di gravità pari a due volte e mezzo quella della Terra. Ed erano costruiti da una lega di bronzo iridio berillio che resisteva in qualsiasi condizione a tutti gli agenti corrosivi conosciuti, nonché a qualsiasi agente distruttivo, fatta eccezione per un disintegratore atomico da mille megatoni. Per farla corta erano indistruttibili e così spaventosamente forti che erano gli unici robot mai costruiti ai quali i robotologi dell'industria produttrice non avessero mai avuto il coraggio di appioppare un soprannome ricavato dal numero di serie. Un giovane e brillante robotologo aveva suggerito il nomignolo di Sissi 1, 2, 3, ma l'aveva suggerito molto sottovoce e nessuno più l'aveva ripetuto. Durante le ultime ore di attesa i tre automi discussero con una certa perplessità del possibile aspetto dei gioviani. ZZ1 aveva annotato mentalmente che possedevano tentacoli e una simmetria radiale, ma i suoi appunti si erano fermati lì. ZZ2 e ZZ3 avevano fatto del loro meglio, ma non erano riusciti ad aiutarlo. Non si può descrivere bene niente se non si ha un parametro a cui riferirsi, dichiarò alla fine 3. Queste creature non somigliano a niente che io conosca. Sono completamente estranei ai circuiti positronici del mio cervello. Sarebbe come cercare di descrivere le radiazioni gamma a un robot non attrezzato per la ricezione dei raggi gamma. Fu proprio in quel momento che l'offensiva gioviana ancora una volta si interruppe. I robot si girarono a guardare che cosa succedeva fuori dall'astronave. Un gruppo di gioviani stava avanzando in modo curiosamente irregolare, ma anche se si guardava con la massima cura possibile era difficile capire esattamente come procedesse la loro locomozione. Non era affatto chiaro in che modo usassero i tentacoli. A tratti sembravano scivolare in avanti, quindi si spostavano a grande velocità, forse aiutati dal vento favorevole. I robot uscirono dall'astronave per andare incontro ai gioviani, che si fermarono a un 3 metri di distanza. Sia i primi sia i secondi rimasero immobili, in silenzio. ZZ2 disse. È evidente che ci stanno osservando, ma non capisco come. Voi vedete nessun organo fotosensibile? Non saprei dirlo. Grugnì tre in risposta. Il loro non vedo niente che abbia un senso. D'un tratto si sentì provenire un secco suono metallico. E ZZ1 disse tutto contento. È il codice radio. Hanno trovato l'esperto delle comunicazioni e l'hanno portato qui. Effettivamente le cose stavano così. Il complesso sistema di punti e linee, che era stato faticosamente elaborato nel corso di 25 anni dagli abitanti di Giove e dai terrestri residenti su Ghanimede, e che costituiva ora un mezzo di comunicazione straordinariamente duttile, era stato finalmente attivato proprio lì, a poca distanza dall'astronave. In prima linea adesso era rimasto solo un gioviano. Gli altri erano indietreggiati. Era chiaramente lui a dover parlare. Il messaggio in codice che inviò dopo un attimo diceva «di dove siete?». ZZ3, che era il robot mentalmente più perfezionato, si fece, come era logico, portavoce del gruppo. «Veniamo dal satellite di Giove, Ghanimede». «Che cosa volete?» continuò il gioviano. «Informazioni. Siamo venuti qui per studiare il vostro mondo e per portare su Ghanimede i dati raccolti. Se potessimo ottenere la vostra collaborazione?». Il codice radio gioviano si interruppe. «Dovete essere distrutti», fu il messaggio successivo. ZZ3 fece una pausa e, prendendo un attimo in disparte i suoi compagni, disse pensieroso «Proprio l'atteggiamento che i padroni umani ci hanno detto che avrebbero assunto. Sono davvero strane queste creature». Tornando a comunicare in codice, chiese semplicemente «Perché?». Il gioviano considerava evidentemente certe domande troppo odiose perché meritassero una risposta. Disse «Se ve ne andrete entro un periodo di rivoluzione del pianeta, vi risparmieremo, almeno fino al momento in cui non saliremo a bordo di astronavi per andare a distruggere i parassiti non gioviani di Ghanimede». «Vorrei precisare», disse 3, «che noi di Ghanimede e degli altri pianeti interni?». «I nostri astronomi sanno dell'esistenza del sole e di quattro nostri satelliti», lo interruppe il gioviano. «Non ci sono pianeti interni». Tre, stanco di discutere, lo lasciò nella sua convinzione. «Diciamo allora che noi di Ghanimede non abbiamo alcuna mira su Giove. Siamo pronti ad offrirvi la nostra amicizia. Da 25 anni voi gioviani comunicate liberamente con gli esseri umani di Ghanimede. Quale motivo c'è di muovere guerra all'improvviso agli umani?» «Da 25 anni credevamo che gli abitanti di Ghanimede fossero gioviani», rispose il portavoce, gelido. «Quando abbiamo scoperto che avevamo trattato degli animali inferiori come esseri dotati di intelligenza superiore, quali siamo noi, ci siamo sentiti obbligati a prendere provvedimenti per cancellare il disonore». Dosando le parole e caricandole di particolare violenza concluse. «Noi gioviani non tollereremo l'esistenza di inutili parassiti». Il gioviano con la sua andatura buffa chiaramente indietreggiava, muovendosi a zigzag nel vento contrario. Era evidente che considerava terminato il colloquio. I robot si ritirarono sulla nave. ZZ2, disse. Brutta situazione, eh? Poi continuò pensieroso. E proprio come avevano detto i padroni umani. Soffrono di un gravissimo complesso di inferiorità e hanno un'estrema intolleranza verso qualsiasi persona o cosa insidi quel complesso. «L'intolleranza», osservò 3, «è la conseguenza naturale del loro senso di superiorità. Il guaio è che non è un'intolleranza disarmata. Le armi le hanno eccome e sono scientificamente progrediti». «Adesso capisco», intervenne ZZ1, perché ci è stato detto di ignorare accuratamente gli ordini dei gioviani. «Sono esseri orribili, intolleranti, pseudo superiori». Poi aggiunse enfaticamente, con la fedeltà e la lealtà tipiche del robot. «Nessun padrone umano potrebbe mai essere come loro». «Questo è vero, ma non c'entra», disse 3. Resta il fatto che i padroni umani sono in grave pericolo. Giove è un mondo gigantesco e i gioviani sono cento volte più numerosi degli umani e dispongono di risorse cento volte superiori a quelle di cui dispone l'intero impero terrestre. Se riuscissero a perfezionare il campo di forza fino al punto da usarlo come scafo dell'astronave, come hanno già fatto i padroni umani, potrebbero invadere tranquillamente tutto il sistema. Però non sappiamo ancora quanti progressi abbiano compiuto in quella direzione, quali altre armi abbiano, quali preparativi stiano facendo e così via. Naturalmente, tornare con tutte queste informazioni è il nostro compito e sarà meglio che decidiamo la nostra prossima mossa». «Forse non è tanto facile», disse 2. «I gioviani non credo ci aiuteranno molto in questo senso». Fatto in quel momento era certo un discorso che non dava l'idea della gravità della situazione. 3. Riflette un momento. Secondo me occorre soltanto aspettare. Ormai sono trenta ore che cercano di distruggerci e non ci sono riusciti. Certo hanno fatto del loro meglio. Ora, chiunque soffra di un complesso di superiorità sente inevitabilmente il bisogno di salvare la faccia, e l'ultimatum che i gioviani ci hanno dato poco fa dimostra la verità di questo assunto. Non ci lascerebbero mai andare se avessero il modo di distruggerci, ma se non ce ne andremo, piuttosto che ammettere che non possono costringerci ad andare via, fingeranno sicuramente di essere disposti a farci restare per scopi loro». Ancora una volta si misero in attesa. Il giorno passò. L'offensiva dei gioviani non ricominciò. I robot non partirono. Sfidarono gli avversari a trasformare in realtà la loro minaccia. Alla fine l'esperto del codice radio tornò all'astronave. Se i modelli ZZ fossero stati forniti dagli umani del senso dell'umorismo, si sarebbero divertiti moltissimo a quel punto. Poiché invece ne erano sprovvisti, provarono soltanto un'enorme soddisfazione. Il gioviano disse «abbiamo deciso di permettervi di restare ancora per breve tempo, in modo che possiate vedere con i vostri occhi quanto sia grande la nostra potenza. Poi tornerete su Ganimede per informare gli altri parassiti come voi dello spaventoso destino che le attende e che li colpirà infallibilmente entro una rivoluzione solare». ZZ1 annotò mentalmente che per una rivoluzione gioviana occorrevano dodici anni terrestri. Tre rispose come se niente fosse. «Grazie, possiamo accompagnarvi fino alla città più vicina? Ci sono molte cose che ci piacerebbe imparare». Poi, come ricordando all'ultimo momento, aggiunse «ah, alla nostra nave naturalmente non si deve avvicinare nessuno». Il tono era quello di una richiesta, non di una minaccia, perché i modelli ZZ non erano degli attaccabrighe. Ogni minima tendenza all'irritabilità era stata accuratamente eliminata in fase di costruzione. Poiché gli ZZ erano robot dalle infinite potenzialità, era essenziale che il loro buon umore fosse inalterato se non si volevano avere problemi di sicurezza durante gli anni del collaudo sulla Terra. «Non siamo interessati alla vostra pidocchiosa astronave», disse il gioviano. «Nessun gioviano le si avvicinerebbe mai per paura di contaminarsi. Potete accompagnarci, ma se vi provate a stare a meno di tre metri di distanza da uno qualsiasi di noi, vi distruggeremo all'istante». «Che bori hanno addosso, eh?» sussurrò allegramente due, mentre arrancavano contro vento. La città era una città portuale che sorgeva sulle rive di un incredibile lago di ammoniaca. Il vento fuori soffiava furioso e onde spomeggianti spazzavano la superficie liquida con violenza rafforzata dalla gravità. Il porto in sé stesso non era né grande né imponente e appariva chiaro che la maggior parte delle costruzioni dovevano essere sotterranee. «Quanti abitanti ha questo posto?» chiese tre. «È una piccola città di dieci milioni di abitanti», disse il gioviano. «Capisco. Prendi nota, uno». ZZ1 lo fece meccanicalmente. Poi tornò a guardare il lago, che fino a un attimo prima aveva contemplato affascinato. Tirando tre per un gomito disse «Senti, pensi che sia pescuso?» «Che importanza ha se è pescuso o no?» «Credo che sarebbe giusto informarsene. I padroni umani ci hanno ordinato di scoprire più cose possibile. Dei tre al robot uno era il più semplice e quindi era anche quello che prendeva più alla lettera gli ordini. Lasciamo che vada a dare un'occhiata se vuole. Non c'è niente di male a lasciarlo divertire un po', disse due. «D'accordo», disse tre. «Non ho obiezioni se non sciupa troppo il tempo. Non è che siamo venuti qui per pesci, ma vapore uno». ZZ1 corse via tutto eccitato e avanzò veloce lungo la spiaggia, tuffandosi nell'ammoniaca e sollevando spruzzi. I gioviani osservarono attentamente la scena. Naturalmente non avevano capito nulla della precedente conversazione. L'esperto di codice radio si mise in comunicazione e disse «A quanto sembra il vostro compagno, non reggendo alla visione della nostra potenza, ha deciso di dire addio alla vita». «No, niente del genere», replicò tre e meravigliato. «Vuole vedere se nell'ammoniaca ci sono per caso degli organismi viventi». Fece una breve pausa, poi aggiunse, in tono di scusa. «Il nostro amico a volte è molto curioso. Sapete, non è intelligente come noi, ma questa è una sfortuna che riguarda soltanto lui e che a noi non causa alcun problema. Noi capiamo le sue debolezze e cerchiamo di accontentarlo ogni volta che possiamo». Ci fu una lunga pausa, poi il gioviano osservò. «Affogherà!» «Oh no, non c'è pericolo», replicò tre tranquillo. «Noi non affoghiamo mai. Possiamo entrare in città appena ritorna?» «In quella del lago si levò uno spruzzo alto un centinaio di metri. Il liquido sfrecciò verso l'alto con grande violenza per poi ricadere giù in una nebbiolina agitata dal vento. Seguirono altre due spruzzi, uguali al primo. Quindi sulla superficie del lago si disegnò una spessa striscia di spuma che avanzò verso riva diventando sempre meno ribollente a mano a mano che si avvicinava. I due robot guardarono stupiti la scia e anche i gioviani guardarono. Lo si capiva dal fatto che stavano completamente immobili. Alla fine dell'ammoniaca emerse ZZ1 che piano piano guadagnò la riva. Qualcosa però lo seguiva, un organismo di dimensioni gigantesche che sembrava un groviglio di zanne, artigli e aculei. Poi gli spettatori si accorsero che il mostro non seguiva ZZ1 di sua volontà ma veniva trascinato lungo la spiaggia dal robot. Era tutto floscio, come fosse senza vita. ZZ1 si avvicinò un po' esitante e prese in mano il congegno di comunicazione, trasmettendo con evidente nervosismo un messaggio ai gioviani. Mi dispiace molto che sia successo questo, ma sono stato attaccato dalla creatura. Stavo solo prendendo appunti su di lei. Spero non sia di inestimabile valore per voi. La risposta non arrivò subito perché appena il mostro era apparso, tra le file dei gioviani c'era stato grande scompiglio. A poco a poco tutti erano tornati nei ranghi e dopo che un attento esame aveva rivelato come la creatura fosse in effetti morta, era stato ristabilito l'ordine. I più coraggiosi si spinsero fino a toccare con curiosità il cadavere. «Spero perdonerete il nostro amico», disse ZZ3 umilmente. «A volte è un po' maldestro. Non abbiamo la benché minima intenzione di fare del male agli esseri viventi di questo pianeta.» «Mi ha attaccato», spiegò uno. «Ha cercato di mordermi senza che io gli avessi fatto niente. Guardate!» Tirò fuori una zanna lunga mezzo metro, che era stata evidentemente spezzata, perché da un lato era tutta frastagliata. Se l'errutta tentando di mordermi una spalla e mi ha quasi lasciato il segno. Ho reagito dandogli giusto due schiaffoni per allontanarlo e... e lui è morto. Mi dispiace. Finalmente il gioviano rispose e il suo messaggio in codice fu pronunciato in mezzo a Balbettii. «È una creatura selvaggia che di rado si trova così vicina a riva, ma il lago in questo punto è profondo.» «Tre», disse ancora preoccupato. «Se la sua carne è commestibile, saremo lietissimi di lasciarvelo per...» «No! Sappiamo procurarci il cibo da soli, senza l'aiuto di pidocchi... senza l'aiuto di altri! Mangiatelo voi!» A quel punto ZZ1 selevò il mostro e lo rigettò nel lago con una mano sola e senza sforzi. Tre disse con aria indifferente «Grazie per la vostra gentile offerta, ma non ci serve alcun cibo. Noi naturalmente non mangiamo.» Scurtati da circa duecento gioviani in assetto di guerra, i robot entrarono nella città sotterranea scendendo una serie di rampe. Se in superficie la città era sembrata piccola e insignificante, sottoterra appariva invece come una vasta megalopoli. I robot furono fatti entrare in macchine di terra azionate tramite controllo a distanza. Perché un gioviano che tenesse al suo onore e alla sua dignità avrebbe sentito come un insulto alla propria natura superiore sedersi vicino a un essere pidocchioso. E furono condotti a velocità straordinaria fino al centro della città. Videro abbastanza da capire che si estendeva per un'ottantina di chilometri da un capo all'altro e che scendeva sotto la superficie di Giove per più di dieci chilometri. Se questo è un esempio di sviluppo gioviano, temo che il rapporto che faremo ai padroni umani non li lascerà particolarmente soddisfatti. Desse due tutt'altro che allegro. Dopotutto siamo atterrati a caso su questo pianeta immenso e avevamo mille probabilità contro una di capitare proprio vicino a un centro popoloso. E pensate che, come ha detto l'esperto di codice radio, si tratta solo di una cittadina. La popolazione totale sarà di trilioni e trilioni di individui, il che è molto, moltissimo, perfino per Giove. Probabilmente hanno una civiltà completamente urbana, il che significa che dal punto di vista scientifico devono essere assai progrediti. Si hanno dei campi di forza? 3. Non aveva il collo. Ma lo scopo di renderli più forti, i costruttori umani avevano progettato gli ZZ in modo che la testa si attaccasse direttamente al torso. Il delicato cervello positronico fosse protetto da tre distinti strati di una lega di iridio spessa più di due centimetri. Ma se l'avesse avuto a quel punto avrebbe scosso la testa tristemente. Si erano fermati in uno spazio aperto da cui si diramavano numerosi viali pieni di costruzioni. L'esperto di codice radio si avvicinò ai tre robot. «È venuto per noi il momento di ritirarci fino al prossimo periodo di attività», disse. «Siamo stati così generosi da prepararvi un alloggio, il che naturalmente è molto seccante per noi, visto che la struttura dopo dovrà essere abbattuta e ricostruita. Nonostante gli inconvenienti che questo comporta, abbiamo comunque deciso di lasciarvi dormire per un po'. ZZ3 agitò una mano in segno di disapprovazione e trasmise il messaggio di risposta. «Vi ringraziamo molto, ma non occorre che vi disturbiate. Ci va benissimo di restare qui dove siamo. Se voi volete riposarvi e dormire, fatelo pure, vi prego. Noi vi aspetteremo. Sapete, e qui assunse un tono particolarmente non curante. Noi non dormiamo». Il gioviano non disse niente, ma se avesse avuto una faccia, a quel punto la sua espressione sarebbe stata probabilmente interessante. Se ne andò e i robot rimasero in macchina, sorvegliati da drappelli di giovani fino ai denti, che si alternavano nei turni di guardia. Solo parecchie ore dopo la fitta schiera delle sentinelle si divise per lasciar passare l'esperto di codice radio. Lo accompagnavano altri giovani che presentò ai robot. «Sono venuti con me due funzionari del governo centrale che hanno consentito molto gentilmente a parlare con voi», disse. Uno dei funzionari conosceva evidentemente il codice, perché il click del suo messaggio interruppe bruscamente quello dell'esperto. «Brutti pidocchiosi», disse rivolto ai robot. «Uscite da quella macchina e lasciate che vi guardiamo in faccia». I robot non desideravano altro che accontentarlo, così due e tre saltarono giù dal fianco destro dell'auto, mentre uno piombò giù dal sinistro. La parola «piombò» è usata appropriatamente, in quanto uno dimenticandosi di azionare il meccanismo che apriva la portiera, scardinò l'intera fiancata, portandosi dietro oltre a quella anche due ruote e un assale. La macchina andò in pezzi e ZZ1 rimase a fissare i rottami in silenzio, imbarazzato. Alla fine trasmise un messaggio in tono mortificato. «Scusate», disse. «Scusate tanto. Spero che non fosse una macchina costosa». ZZ2 aggiunse, contrito. «Il nostro compagno è spesso maldestro. Vi prego di perdonarlo». ZZ3 tentò con poca convenzione di rimettere di nuovo insieme i pezzi dell'auto. ZZ1 cercò ancora una volta di giustificarsi. «Era piuttosto fragile, vedete?». Sollevò con entrambe le mani un pezzo di lamiera largo un metro per un metro, spesso 7-8 centimetri, e di un materiale plastico duro come il metallo. Esercitò una certa pressione su di esso e subito lo ruppa in due. «Avrei dovuto tener conto della sua fragilità», ammise. Il funzionario del governo, Gioviano, disse con un tono un po' meno brusco di quello assunto in precedenza. «La macchina avrebbe dovuto essere distrutta comunque, dato che era stata contaminata dalla vostra presenza». Fece una pausa, poi aggiunse. «Alieni! Noi, Gioviani, non siamo certo così orruzzi da provare interesse per gli animali inferiori, ma i nostri scienziati amano indagare sui fatti concreti. Siamo d'accordissimo con voi», disse allegramente Tre. «Anche i nostri procedono nello stesso modo». Il Gioviano fece finta di non averlo sentito. «Ma quanto sembra», disse, «vi mancano gli organi sensibili alla massa, come fate a percepire gli oggetti distanti. Tre provò subito interesse per quel tipo di discorso. Intendete dire che la vostra gente è direttamente sensibile alla massa? Non sono qui per rispondere alle vostre domande, alle vostre insolenti domande su di noi. Immagino allora che gli oggetti di bassa massa specifica vi appaiano trasparenti anche in presenza di radiazioni. ZZ3 si rivolse a ZZ2. Ecco come vedono, l'atmosfera del pianeta è trasparente come uno spazio per loro». Il Gioviano riprese a trasmettere. «Rispondete immediatamente alla domanda che vi ho rivolto o perderò la pazienza e ordinerò che veniate eliminati». «Noi siamo sensibili all'energia, Gioviano», disse pronto Tre. «Siamo in grado di adattarci senza problemi all'intera scala elettromagnetica. Al momento attuale la vista che ci consente di percepire oggetti lontani è dovuta a radioonde che emettiamo noi stessi, mentre a distanza ravvicinata riusciamo a vedere grazie a...» Fece una pausa e disse a ZZ2. «C'è mica una parola in codice per definire i raggi gamma?» «No, che io sappia», rispose ZZ2. «A distanza ravvicinata», continuò Tre, rivolto al Gioviano, «riusciamo a vedere attraverso un altro tipo di radiazione per definire la quale non esistono parole in codice». «Di che cosa è fatto il vostro corpo?» domandò il Gioviano. «Probabilmente chiede questo, sussurro due, perché la sua sensibilità alla massa non gli permette di penetrare oltre la nostra pelle. Colpa dell'alta densità, capisci? Dobbiamo dirglielo?» «I nostri padroni umani non ci hanno raccomandato di mantenere alcun tipo di segreto», rispose Tre incerto. «In codice», disse al Gioviano, «siamo composti per lo più di iridio e poi di rame e stagno, una minima percentuale di berillio e una piccola quantità di altre sostanze». I Gioviani si ritirarono un attimo e, dallo strano modo di agitarsi dei loro corpi e delle loro indescrivibili membra, si poteva arguire che erano intenti a un'animata conversazione, anche se non emettevano alcun suono. Dopo un po' il funzionario del governo Gioviano tornò. «Creature di Ganymede», disse, «abbiamo deciso di accompagnarvi a vedere alcune delle nostre fabbriche, in modo che abbiate direttamente davanti agli occhi un piccolo saggio delle nostre enormi capacità. Poi vi consentiremo di tornare sul vostro mondo, così che possiate gettare nella disperazione gli altri parassi, gli altri esseri che vivono al di fuori di Giove. Visto come funziona la loro psicologia», disse 3 a 2. «Continuano a battere il chiodo della loro superiorità. È sempre il problema del salvare la faccia». «In codice», disse al Gioviano, «vi ringraziamo per l'opportunità che ci date». Ma la faccia e i Gioviani in un certo modo la salvarono sul serio, come constatarono ben presto i robot. Il giro delle fabbriche diventò un giro molto più lungo, una sorta di grande esibizione. I Gioviani mostrarono tutto, spiegarono tutto, risposero prontamente a ogni domanda e ZZ1 prese centinaia di sconfortanti appunti. Il potenziale bellico della cosiddetta cittadina insignificante superava di parecchie volte quello di tutto quanto Ganimede. Anche dieci cittadine, così, erano in grado di produrre più armi dell'intero impero terrestre. E tuttavia altre dieci città come quella non rappresentavano che una minima percentuale del potenziale bellico complessivo di Giove. «Che cosa c'è?» disse ZZ3 a ZZ1, che lo stava toccando col gomito per richiamare la sua attenzione. ZZ1 disse serio. «Se i Gioviani hanno i campi di forza, i padroni umani sono perduti, vero?» «Temo di sì. Perché me lo chiedi? Perché non ci hanno mostrato l'ala destra della fabbrica che stiamo visitando. Forse è lì che mettono a punto i campi di forza. Se così fosse, sarebbe logico che cercassero di mantenere il segreto. Sarà meglio che scopriamo come stanno le cose. È questo il nostro compito principale, lo sai?» e guardò uno con aria cupa. «Forse hai ragione. Non bisogna trascurare niente». Si trovavano adesso in un'enorme acciaieria e osservavano travi lunghe una trentina di metri di una lega di acciaio silicio resistente all'ammoniaca che venivano fabbricate al ritmo di venti al secondo. Tre chiese tranquillo. «Cosa c'è in quell'ala?» Il funzionario del governo chiese informazioni ai responsabili della fabbrica e poi spiegò. «Lì si producono altissime temperature che gli esseri viventi non sono in grado di sopportare e che sono necessarie in varie fasi di lavorazione, fasi in cui occorre seguire procedimenti indiretti». Le accompagnò in un reparto da cui si sentiva irradiarsi il calore e indicò una piccola area circolare di materiale trasparente. Si trattava del primo di una serie di oblò attraverso i quali si riusciva a distinguere la luce rossa e nebbiosa proveniente da varie fornaci che brillavano nell'atmosfera densa. ZZ1 fissò con sospetto il gioviano e gli trasmise un messaggio. «Vi dispiace se entro a dare un'occhiata? Sono molto interessato a questo tipo di cose. Ti comporti in modo puerile, 1», disse 3. «E va bene, se proprio vuoi va pure a ficcare il naso, ma non perdere troppo tempo. Dobbiamo proseguire». Il gioviano disse «Non avete idea della temperatura che c'è là dentro, morirete!» «Oh no», lo rassicurò uno. «Tranquillo, il calore non ci fa niente». I gioviani si consultarono fra loro, poi cominciarono a correre di qua e di là come matti, perché l'insolita emergenza richiedeva una serie di interventi. Furono installati diversi schermi di materiale termoassorbente e infine venne aperta una porta che prima d'allora non era mai stata neanche socchiusa, almeno finché le fornaci erano in funzione. ZZ1 entrò e la porta si richiuse alle sue spalle. I funzionari gioviani si radunarono intorno agli oblò, a guardare. ZZ1 andò alla fornace più vicina e battì la mano sulla parete esterna. Poiché era troppo piccolo per riuscire a vedere bene dentro, inclinò la fornace finché il metallufuso arrivò fin sull'orlo del contenitore. Uno guardò incuriosito e liquido, poi vi immerse una mano e rimestò un po' per verificarne la consistenza. Ritrasse quindi la mano, la scosse per liberarla dalle goccioline di metallo incandescenti e finì di pulirsi con una delle sue sei cosce. Passò lentamente accanto a tutte le fornace e quindi comunicò che desiderava uscire. I giovani si ritirarono a grande distanza quando lui emerse dal reparto e lo inondarono con un fiotto di ammoniaca che sibilò, ribollì e fumò finché il corpo del robot non fu tornato a una temperatura tollerabile. ZZ1 non badò alla pioggia di ammoniaca e osservò. Dicevano la verità, non ci sono campi di forza. Vedi? Iniziò tre, ma uno lo interruppe spazientito. Non ha proprio senso tergiversare, disse. I padroni umani ci hanno ordinato di scoprire tutto quello che potevamo scoprire e noi è giusto che obbediamo. Si rivolse verso il gioviano e senza la minima esitazione spedì un messaggio in codice. Sentite, la scienza gioviana ha messo a punto i campi di forza? Una certa rozzezza e ottusità erano la conseguenza naturale del fatto che il cervello di uno era meno perfezionato di quello degli altri. Due e tre erano consapevoli del difetto del loro compagno, per cui si trattennero dal rimproverarlo per il suo comportamento. Il funzionario gioviano, che fino ad allora era rimasto stranamente rigido a fissare con espressione stupita la mano che uno aveva immerso nel metallo fuso, si sciolse un po' e disse lentamente. Campi di forza? E dunque soprattutto ad essi che siete interessati? Sì, rispose uno convinto. I gioviani sembrarono di colpo riacquistare fiducia perché il clic del congegno di comunicazione si fece più forte. Allora venite, parassiti! Esclamò l'esperto. Hai visto? Disse tre a due. Ci chiamano di nuovo parassiti. Probabilmente qui ci aspettano brutte notizie. Due a noi, Tedro. Furono condotti dai gioviani fino all'estremo limite della città, in quella zona che sulla terra si sarebbe definita periferia. Lì entrarono in una struttura che faceva parte di un complesso vagamente simile a quello di un'università terrestre. Ma non furono date spiegazioni e nessuno le chiese. Il funzionario gioviano avanzava con passo veloce. I robot lo seguivano con la cupa convenzione che stesse per succedere il peggio. Fu ZZ1 a fermarsi davanti a una camera aperta dopo che gli altri erano passati oltre. Questa cos'è? Chiese. Nella stanza erano visibili alcuni banchi bassi e stretti sui quali c'erano file di strani congegni, soprattutto forti elettromagneti lunghi due o tre centimetri, intorno a cui armeggiavano alcuni gioviani. Questa cos'è? Chiese di nuovo uno. Il gioviano che li seguiva si volto indietro con aria spazientita. È un laboratorio di biologia per gli studenti, non c'è niente che possa interessarvi. Ma che cosa stanno facendo? Studiano la vita microscopica. Non avevate mai visto un microscopio? Tre intervenne nella conversazione per spiegare lo comportamento di uno. Sì che ne ha visti, ma non di questo tipo. I nostri microscopi sono destinati allo studio di organi sensibili all'energia e funzionano attraverso la rifrazione dell'energia raggiante. I vostri microscopi evidentemente funzionano attraverso l'espansione della massa. Piuttosto ingegnoso, devo dire. Vi spiace se esamino qualcuno dei vostri campioni? Domando uno. A che vi servirebbe? Non potete usare i nostri microscopi. Causa i limiti che vi impone il vostro sistema sensoriale e a noi toccherebbe disfarci dei campionari contaminati se vi avvicinaste senza alcun motivo valido. Ma non ho bisogno del microscopio, spiegò uno sorpreso. Posso benissimo regolare la vista per analizzare l'infinitamente piccolo. Si diresse deciso al banco più vicino, mentre gli studenti gioviani si radunavano in un angolo sperando di evitare la contaminazione. ZZ1 spinse da parte un microscopio ed esaminò attentamente il vetrino. Indietreggiò, perplesso. Poi esaminò un secondo vetrino, quindi un terzo, poi un quarto. Tornò indietro e si rivolse al gioviano esperto di codice radio. Quei campioni dovrebbero essere vivi, no? Voglio dire, quei cosi che sembrano verniciattoli. Certo che sono vivi, disse il gioviano. È strano. Quando le guardo, muoiono. Tre ruppe in un'esclamazione di disappunto e disse ai suoi due compagni. Ci siamo dimenticati dei nostri raggi gamma. Usciamo di qui, uno, o finiremo per uccidere tutte le forme di vita microscopiche della stanza. Rivolto al gioviano, disse. Temo che la nostra presenza sia fatale agli organismi viventi più deboli. Sarà meglio che ce ne andiamo. Spero che non vi sia troppo difficoltoso rimpiazzare i campioni morti con altri. Ah, visto che siamo in argomento, forse è meglio che non ci stiate troppo vicino, perché le nostre radiazioni potrebbero avere effetti nocivi su di voi. Finora però vi sentite bene, vero? Il gioviano proseguì il cammino chiuso in un orgoglioso silenzio, ma da quel momento in poi raddoppiò la distanza tra sé e i robot. Nessuno disse più niente, finché i robot si ritrovarono in una grande sala, al centro della quale enormi lingotti di metallo erano sospesi a mezz'aria, senza nessun sostegno, o meglio, senza nessun sostegno visibile. Ecco il campo di forza nella sua forma più evoluta e perfezionata. All'interno di quella bolla c'è il vuoto, per cui essa può sopportare l'intero peso della nostra atmosfera, più una quantità di metallo pare a quella impiegata per costruire due grandi astronavi. Che ne dite? Che i viaggi spaziali ora diventano una realtà per voi? Disse Tre. Indubbiamente, nessun oggetto di metallo o di plastica avrebbe la capacità di resistere alla forte gravità del nostro pianeta, ma a un campo di forza sì, e le nostre astronavi saranno appunto bolle costruite da campi di forza. Entro l'anno ne produrremo a centinaia di migliaia. Poi invaderemo Ganymede e distruggeremo le pidocchiose forme di vita intelligenti, se intelligenti si possono dire, che vorrebbero contestarci il diritto di dominare l'universo. Gli esseri umani di Ganymede non hanno mai tentato? Inizio Tre, azzardando una moderata protesta. Silenzio! Renghiò il gioviano. Ora tornate al vostro pianeta e raccontate ciò che avete visto. I vostri deboli campi di forza, come quello di cui è dotato la vostra nave, non possono reggere il confronto con i nostri, perché la nostra astronave più piccola sarà cento volte più grande e cento volte più potente di quella che avete voi. Allora non c'è altro da fare. Torneremo, come suggerite voi, per riferire ciò che abbiamo visto. Disse Tre. Se ci potete riaccompagnare alla nave, partiremo al più presto. Ma a proposito, giusto per la cronaca, credo che non abbiate capito bene una cosa. Gli esseri umani di Ganymede hanno i campi di forza, naturalmente, ma la nostra nave ne è completamente sprovvista. Non abbiamo alcun bisogno di essi. Il robot volto le spalle e fece cenno ai suoi compagni di seguirlo. Per un po' i tre rimasero in silenzio, poi ZZ1 sussurrò demoralizzato. Ma non potremmo distruggerlo, questo posto. Non servirebbe a niente, disse Tre. Vincerebbero comunque loro, perché sono troppo numerosi. Non servirebbe. Nell'arco di un decennio terrestre dei padroni umani non resterebbe traccia. È impossibile farcela contro Giove. È un pianeta troppo grande. Finché i gioviani erano costretti a restare sulla superficie del pianeta, gli umani erano al sicuro. Ma adesso che hanno i campi di forza, niente. Non ci resta altro che portare la brutta notizia. Forse, costruendo nascondigli adeguati, qualche umano potrebbe riuscire a sopravvivere, almeno per un certo tempo. Ormai si erano lasciati la città alle spalle. Erano in aperta pianura, vicino al lago, con la loro nave che appariva come un puntolino scuro all'orizzonte. Quando il gioviano all'improvviso disse. Essere di Ganymede, avete detto che la vostra nave non ha un campo di forza? Non ne ha bisogno, rispose Tre, distratto. Come fa allora a sopportare il vuoto dello spazio senza che la pressione atmosferica all'interno la faccia esplodere? E mosse un tentacolo come a indicare l'atmosfera di Giove, che gravava su di loro con una forza di 9 milioni di chili per pollice quadrato. Beh, spiego Tre, è semplice. Non è attenuta d'aria, così la pressione all'interno e quella all'esterno si equivalgono. Anche nello spazio ci sarebbe dunque il vuoto sulla vostra nave? Non è vero, mentite! Perché non la ispezionate? Non ha campi di forza e non è ermetica. Che cosa c'è di tanto straordinario? Noi non respiriamo. L'energia la ricaviamo direttamente dagli atomi. Che ci sia o no la pressione dell'aria non ci tocca minimamente e ci troviamo perfettamente a nostro agio nel vuoto. Ma è lo zero assoluto? Non importa. Regoliamo il calore del nostro corpo in modo autonomo. Le temperature esterne non ci interessano. Fece una pausa. Bene, adesso possiamo tornare dalla nave. Addio. Porteremo agli umani di Ganymede il vostro messaggio. Guerra senza quartiere. Ma il gioviano disse, un attimo che torno subito. Girò le spalle e si diresse verso la città. I robot lo guardarono allontanarsi e poi attesero in silenzio. Quando tornò dopo tre ore, il gioviano era trafelato. Si fermò come sempre a circa tre metri dai robot, poi cominciò ad avanzare piano piano in modo curioso, come se si stesse prosternando. Rimase zitto finché la sua pelle, grigia e gommosa, non arrivò quasi a toccare i loro corpi. Quindi mise in funzione il codice radio. La sua voce suonò particolarmente pacata e rispettosa. Onorevoli signori, mi sono messo in contatto con il capo del nostro governo centrale, che è ora al corrente di tutti i fatti, e posso assicurarvi che Giove desidera soltanto la pace. Come dite? Fece Tre senza capire. Il gioviano proseguì veloce il suo discorso. Siamo pronti a riprendere le comunicazioni con Ganymede e ci impegniamo volentieri a non avventurarci affatto nello spazio. Il nostro campo di forza verrà usato soltanto sulla superficie di Giove. Ma, cominciò Tre, il nostro governo sarà felice di ricevere qualsiasi altro rappresentante i nostri onorevoli fratelli umani di Ganymede vorranno inviarci. Se adesso voi, onorevoli ambasciatori, vi degnerete di stipulare con noi un accordo di pace? Il gioviano allungò verso il robot un tentacolo squamoso e Tre, stupefatto, lo strinse. Due e uno fecero lo stesso quando altri due tentacoli si protesero verso di loro. Allora che ci sia pace, in eterno, tra Giove e Ganymede, disse il gioviano. Nostra nave, che pareva un setaccio, era di nuovo nello spazio. La pressione e la temperatura erano ancora una volta sullo zero e i robot guardavano l'enorme sfera di Giove rimpicciolirsi sempre di più con la distanza. Sono sinceri, su questo non vi dubbio, osservò ZZ2. Ed è una gran fortuna questo completo volta faccia, però non me lo spiego. Secondo me, disse ZZ1, i gioviani all'ultimo momento sono rinseviti e hanno capito che è semplicemente orribile pensare di fare del male ai padroni umani. È naturale che si siano ravveduti. No, vedi, è solo questione di psicologia, disse Tre con un sospiro. Quei gioviani avevano un complesso di superiorità, spesso un meglio, e quando hanno visto che non riuscivano a distruggerci hanno sentito il bisogno di salvare la faccia. Tutto quel mostrarci le loro cose, tutte le loro spiegazioni, erano solo il mezzo attraverso il quale si esprimeva la loro millanteria. Volevano impressionarci e omiliarci, farci capire chiaramente quanto si ritenessero superiori. Sì, questo è vero, interruppe Due, però, ma non ha funzionato. Continuò Tre. Perché è venuto fuori che eravamo noi i più forti, noi che non annegavamo, che non mangiavamo né dormivamo, che potevamo tranquillamente immergere una mano nel metallo fuso senza farci male. La nostra stessa presenza si è rivelata fatale per certe forme di vita giuviane. La loro ultima carta era il campo di forza, e quando hanno scoperto che noi non avevamo affatto bisogno di campi di forza, che potevamo vivere nel vuoto allo zero assoluto, hanno ceduto. Fece una pausa, poi aggiunse una riflessione filosofica. Quando un complesso di superiorità come quello si incrina, l'incrinatura fa presto a diventare uno squarcio. Gli altri due meditarono sulle sue parole. Però, disse ZZ2 dopo un po', la faccenda continua a non essere chiara. Cosa importa a loro di quello che noi sappiamo o non sappiamo fare? Noi siamo soltanto dei robot, non saremmo stati noi i loro diretti avversari. È proprio quello il punto, due. Disse Tre, pacato. È stato solo dopo che siamo partiti, che ho capito cos'era successo. Sapete che per una dimenticanza del tutto involontaria abbiamo tralasciato di dire loro che eravamo solo dei robot. Non ce l'hanno mai chiesto? Disse uno. Infatti, così hanno pensato che fossimo esseri umani e che tutti gli altri esseri umani fossero come noi. Guardò ancora una volta Giove con aria pensierosa. Non mi stupisco che abbiano deciso di lasciar perdere. Straniero in paradiso Erano fratelli, non nel senso che erano entrambi esseri umani o che erano stati allevati nello stesso brefotrofio. No, erano veri fratelli, nel senso biologico della parola. Venivano dallo stesso ceppo, per usare un termine arcaico da secoli, da prima della catastrofe, quando quel fenomeno tribale che era la famiglia sussisteva ancora. Il fatto era molto imbarazzante. Con l'andare degli anni dopo l'infanzia, Anthony aveva però finito quasi col dimenticarsene. A volte gli capitava di non pensarci i permisi. Ma adesso che lui e William erano costretti per forza di cose a stare insieme, stava passando un periodo atroce. Se il fatto fosse stato noto da sempre, beh, forse le cose sarebbero andate meglio. Se, come era abitudine nei tempi anteriori alla catastrofe, e Anthony era un accanito lettore di storia, avessero portato lo stesso cognome, ma sarebbe bastato quello per rivelare la loro parentela. Ma adesso si usava a scegliere il cognome e cambiarlo tutte le volte che se ne aveva voglia. In fin dei conti, ciò che contava era la catena simbolica, contrassegno individuale codificato fin dalla nascita. William aveva scelto come cognome Anti-Out, che secondo lui era indizio di sobrio professionalismo, ma che tradiva anche il suo cattivo gusto. Anthony aveva scelto Smith, a 13 anni, e in seguito non aveva mai desiderato cambiarlo. Era semplice di facile pronuncia e, nello stesso tempo, originale, poiché non aveva mai conosciuto nessun altro che lo avesse scelto. Prima della catastrofe era molto diffuso, ma questo spiegava forse la ragione per cui adesso era diventato così raro. Ma il fatto che portassero cognomi diversi non aveva la minima importanza quando erano insieme perché erano identici. Se fossero stati giamelli, ma no, uno dei due ovuli fecondati sarebbe stato subito sterilizzato. Si trattava di quella somiglianza fisica che si riscontra a volte anche fra non gemelli, specie quando hanno padre e madre in comune. Anthony Smith era minore di 5 anni, ma tutti e due avevano il naso aquilino, le palpebre pesanti, la fossetta appena accennata nel mento. Per colpa di quella maledetta matrice magnetica. Il risultato era inevitabile quando, per chissà qual gusto della monotonia, i genitori erano gli stessi. Nei primi tempi che si erano ritrovati a dover vivere insieme, gli altri li guardavano meravigliati, senza però fare commenti. Anthony cercava di far finta di niente, mentre William, per pura perversità o perversione, ci pigliava gusto a specificare «siamo fratelli». «Davvero?» chiedeva l'interlocutore, chiaramente indeciso, se chiedere anche se erano fratelli di sangue. Ma la buona educazione finiva sempre con l'avere il sopravvento e la cosa finiva lì. Capitava di rado perché al progetto quasi tutti erano al corrente e come si sarebbe potuto impedirlo? ed evitavano la situazione. In fondo, William non era cattivo, anzi, se non fosse stato suo fratello o se non si fossero somigliati a quel modo, Anthony era sicuro che sarebbero diventati amiconi. Stando così le cose, invece… Il fatto che da ragazzini avessero giocato insieme e avessero seguito insieme nello stesso brefotrofio i primi corsi di istruzione, grazie a un'abile manovra materna, non facilitava le cose. Avendo avuto due figli dallo stesso padre e avendo raggiunto in tal modo il limite consentito, e la madre infatti non aveva fatto la richiesta per un terzo figlio, aveva pensato di metterli insieme, così con un viaggio solo poteva andarli a trovare tutti e due. Strana donna. William era stato il primo ad uscire dal brefotrofio, essendo il maggiore. Aveva poi studiato tecnica genetica. Anthony lo aveva saputo da una lettera della madre quando era ancora al brefotrofio. Ormai era abbastanza grande da poter tenere testa alla direttrice e le lettere erano cessate. Ma lui non aveva mai potuto dimenticare quell'ultima per la bruciante vergogna che gli aveva procurato. Anche Anthony a suo tempo si era dedicato alle scienze, avendo dimostrato di avere una forte inclinazione per quel genere di studi. Ma poiché, eh, lo ricordava bene, sentiva una folle paura, o forse sarebbe stato meglio dire profetica paura di incontrare suo fratello, si era dedicato alla telemetrica, un campo diametralmente opposto alla tecnica genetica, o così almeno si sarebbe potuto credere. Ma attraverso il complicato sviluppo del progetto Mercurio, il caso stava in agguato. Venne il giorno in cui parve che il progetto fosse finito in un vicolo cieco, ma poi una proposta salvò la situazione, trascinando Anthony nell'imbroglio che i genitori gli avevano preparato. La cosa più notevole fu che, per ironia del destino, era stato proprio Anthony, in tutta innocenza, a fare quella proposta. William Antiaud era al corrente del progetto Mercurio, come sapeva della sonda stellare, lanciata prima della sua nascita e che alla sua morte non avrebbe ancora raggiunto la meta. Come sapeva della colonia marziana e dei continui tentativi di fondare colonie del genere sugli asteroidi. Erano cose a cui non pensava mai, che non gli interessavano in maniera particolare e a cui non dava peso. Gli sforzi per esplorare e conquistare lo spazio non erano mai stati al centro del suo interesse, per quanto poteva ricordare, fino al giorno in cui non aveva visto alcune foto degli uomini impegnati nel progetto Mercurio. Per prima cosa lo colpì il nome di uno di costoro, Anthony Smith. Ricordava che suo fratello si era scelto quel nome, ma era impossibile che esistessero due Anthony Smith. Guardando con maggiore attenzione la foto, capì di non essersi sbagliato. Un occhiato allo specchio gli confermò il giudizio. La cosa lo divertì, ma gli mise addosso anche un certo disagio, in quanto intuiva l'imbarazzo che gliene poteva derivare. Fratelli di sangue, per servirsi di un'espressione disgustosa. Ma cosa poteva farci? Come ovviare a quel fatto che né suo padre né sua madre avevano avuto un po' di fantasia? Doveva essersi messo la foto in tasca, poiché la ritrovò quando stava avviandosi a pranzare. La guardò ancora una volta attentamente, era un'ottima riproduzione. La tecnica era davvero perfetta a quei tempi. Il suo compagno di tavola, Marco, chissà come si chiamava quella settimana, gli chiese incuriosito. Cosa guardi, William? Lui gli passò d'impulso la foto dicendo. Mio fratello. Aveva deciso di afferrare il toro per le corna. Marco la guardò e chiese. Chi? Quello vicino a te? No, quello che sembra a me è mio fratello. Stavolta la pausa fu molto lunga. Marco gli restituì la foto con una finta non queranza, chiese. Figli degli stessi genitori? Sì. Stesso padre e stessa madre? Sì. Ma è ridicolo. Già, William sospirò. Ma a quanto pare si occupa di telemetrica nel Texas, mentre io invece sto qui, mi occupo di autistica. Quindi che cosa importa? Non ne era convinto però, perché più tardi, quello stesso giorno, gettò via la foto. Non voleva che la sua attuale compagna di letto la vedesse. Era dotata di un caustico senso dell'umorismo che William cominciava a trovare sempre più insopportabile. Per fortuna non aveva voglia di avere un bambino. Lui ne aveva avuto uno o qualche anno prima, con la collaborazione della sua compagna di quel tempo, Laura o Linda o Bo come si chiamava. Fu qualche tempo dopo, circa un anno, che saltò fuori il problema di Randall. Se prima di allora William aveva pensato solo di rado a suo fratello, tanto meno ci pensò adesso. Randall aveva 16 anni quando William ne ebbe notizia per la prima volta. Aveva condotto un'esistenza sempre più apartata e il brefotrofio del Kentucky, dove era stato allevato, aveva deciso di annientarlo. Ma naturalmente, otto o dieci giorni prima, riferirono il caso all'Istituto della Scienza dell'Uomo di New York, comunemente chiamato Istituto Omologico. William ricevette il rapporto insieme a molti altri e nella descrizione di Randall non c'era niente che potesse attirare la sua attenzione in modo particolare. Tuttavia, si avvicinava il momento di uno di quei noiosi viaggi ai brefotrofi per i trasferimenti in massa e, poiché gli pareva che ci fosse una possibilità favorevole nel West Virginia, ci andò. Ne rimase deluso e giurò per la quindicesima volta di fare d'ora in poi quei controlli per TV, ma, già che c'era, prima di tornare a casa pensò di passare anche dal brefotrofio del Kentucky. Non si aspettava niente di buono. Tuttavia, stava esaminando da meno di dieci minuti lo schema genetico di Randall quando chiamò all'istituto per consultarne il computer. Ottenuta la risposta, rimase seduto immobile con la fronte coperta di sudore, pensando che solo l'impulso dell'ultimo momento l'aveva portato fin lì e che, se non l'avesse eseguito, Randall sarebbe stato annientato entro una settimana o anche meno. Per dire come sarebbero andate esattamente le cose, gli avrebbero iniettato sotto pelle una droga che, entrando nel circolo sanguigno, gli avrebbe provocato un torpore sempre più profondo, fino alla morte. Il nome ufficiale della droga era composto da 23 sillabe, ma, come tutti, William la chiamava Nirvana Mina. Procurava una morte assolutamente indolore. «Come si chiama di cognome questo Randall direttrice?» chiese William. La direttrice del brefotrofio rispose «Randall, ni uno!» «Nessuno!» esclamò d'impeto William. «Ni uno!» sillabò la donna. «L'ha scelto l'anno scorso!» «Ne non avete capito cosa significa! Ni uno è equivalente di nessuno! Non avete pensato a riferire l'anno scorso?» «Non mi pareva!» balbettò arrossendo la direttrice. William la tacitò con un gesto. A che serviva prendersela con lei? Come poteva sapere? Dallo schema genetico non risultava niente che uscisse dai canoni dei criteri di valutazione normale. Era stato proprio un caso che William e i suoi assistenti avessero lavorato per ben vent'anni sul comportamento dei bambini autistici e, per nazione, non ne aveva mai visto uno in carne e ossa. E adesso? Per un pelo? Marco, il più positivo del gruppo, si lamentava sempre perché i nebbrefotrofi avevano la tendenza a fare abortire con troppa leggerezza prima del termine e ad annientare con altrettanta leggerezza alla scadenza del termine. A suo parere, bisognava permettere che tutti gli schemi genetici avessero modo di svilupparsi per poterli esaminare a fondo e decidere in merito. E la decisione aspettava a un omologo. Non ci sono abbastanza omologhi, osservò William. Eh, potremmo almeno far esaminare tutti gli schemi dal computer, disse Marco. Per servirci di quelli utili? Eh sì, utili omologicamente, sia qui sia altrove. Dobbiamo studiare gli schemi genetici in azione se vogliamo imparare a conoscerci veramente. E solo quelli anormali e mostruosi possono fornirci maggiori informazioni. I nostri esperimenti sull'autismo ci hanno insegnato molto sull'omologia. Adesso ne sappiamo il doppio di quello che sapevamo all'inizio degli studi. William, che preferiva la vecchia definizione di fisiologia genetica dell'uomo al più moderno e stringato omologia, scrollò la testa. Comunque sia, dobbiamo andarci cauti. Per quanto dichiariamo che i nostri esperimenti sono utili, la nostra esistenza è legata a un filo. Nel permesso di approfondire i nostri studi ci è stato accordato con riluttanza. Non scordarlo. Noi giochiamo con la vita. Con delle vite inutili, destinate all'annientamento, corresse Marco. Un annientamento rapido e indolore è una cosa. Un'altra i nostri esperimenti, spesso lunghi e a volte dolorosi. Eh, ma con risultati utili. Non sempre. Era una discussione inutile, che non poteva approdare a niente. Verteva sul fatto che gli omologisti avevano a disposizione troppo poche anormalità interessanti da studiare e non c'era modo di indurre l'umanità a produrne di più. Non c'era nessun modo, nemmeno quello che servisse a cancellare il ricordo della catastrofe. Alcuni sociologi facevano risalire il frenetico impulso verso l'esplorazione spaziale alla consapevolezza dovuta alla catastrofe di quanto fosse fragile e precaria la vita sul pianeta. Beh, lasciamo perdere. William non si era mai imbattuto in un esemplare come Randall. Il lento inizio delle caratteristiche autistiche di quello schema genetico, più che raro, indicava che se ne sapeva più sul conto di Randall che di qualunque altro paziente osservato prima di lui. Riuscirono perfino a cogliere in laboratorio qualche estrema indizio del suo modo di pensare, prima che finisse di chiudersi completamente in se stesso, indifferente e irraggiungibile. Diedero poi inizio al lento processo per mezzo del quale Randall, soggetto per periodi via via sempre più lunghi a stimoli artificiali, rivelava gli intimi lavorii del suo cervello e di conseguenza permetteva di conoscere il funzionamento intimo anche degli altri cervelli, quelli che venivano considerati normali, come il loro. I dati che andavano raccogliendo erano talmente numerosi che William cominciò a sperare che il suo sogno di invertire l'autismo poteva forse tradursi in realtà. E si complimentò con se stesso per aver scelto il nome Anti-Out. Fu proprio nel momento in cui l'euforia dovuta agli esperimenti su Randall era arrivata al culmine che lo chiamarono da Dallas e che fu costretto a lasciare il suo lavoro per assumersi l'onere, ora più pesante che mai, di un nuovo problema. In seguito ripensandoci non riuscì mai a distinguere cosa lo avesse indotto dopo aver tanto tergiversato ad accettare di andare a Dallas. A cose fatte capì quanto era stato fortunato ma cosa lo aveva indotto ad accettare? Che avesse avuto la premonizione di quello che stava per succedere? No, era assurdo. Che lo avesse spinto il ricordo inconscio della fotografia di suo fratello? No, assurdo anche questo. Tuttavia aveva accettato e solo quando il sommesso ronzio della micropila aveva cambiato tono e il mezzo a cuscino d'aria aveva iniziato la discesa finale gli era tornata in mente quella foto o almeno gli si era ripresentata la mente conscia. Anthony lavorava a Dallas e adesso William lo ricordava proprio al progetto Mercury come era stato scritto nella didascalia. Degluti, il leggero sussulto rivelò che il viaggio era finito. William cominciava a sentirsi a disagio. Anthony aspettava nella zona ricevimento del tetto l'arrivo dell'esperto. Naturalmente non era solo ma faceva parte di una numerosa delegazione così folta che bastava questo a capire a quale punto di disperazione fossero ridotti e non era nemmeno uno dei funzionari di primo piano però era presente se non altro perché la proposta era partita da lui. Pensando a questo provava un lieve ma insistente senso di disagio. si era esposto. La sua idea aveva incontrato la generale approvazione ma tutti insistevano troppo su quel sua. Se tutto si fosse risolto in un fiasco gli altri se ne sarebbero lavati le mani e lui sarebbe stato l'unico capro espiatorio. In seguito capitò che in qualche occasione gli venisse fatto di pensare che l'idea fosse nata dal vago ricordo di avere un fratello che si occupava di omologia. Forse non era detto. L'idea pareva talmente ovvia che gli sarebbe venuta anche se suo fratello si fosse occupato di letteratura o anche se non avesse avuto fratelli. Il problema verteva sui pianeti interni. La luna e Marte erano stati colonizzati. L'uomo aveva raggiunto gli asteroidi più grandi e i satelliti di Giove. Erano già in stadio avanzato i progetti di un viaggio su Titano, il più grande satellite di Saturno, mediante un'accelerazione intorno all'orbita di Giove. Tuttavia, mentre si stavano per attuare i progetti di far compiere agli uomini i viaggi di sette anni verso la parte esterna del sistema solare, non era stato ancora risolto il problema di accostarsi ai pianeti interni per l'eccessiva vicinanza al Sole. Venere era il meno attraente di quei due pianeti. Quanto a Mercurio! Anthony non era ancora entrato a far parte del gruppo quando Dmitri Larghe, poco tempo prima, aveva pronunciato il discorso che aveva indotto il congresso mondiale a stanziare i fondi per l'attuazione del progetto Mercurio. Anthony aveva ascoltato la registrazione di quel discorso. Si diceva che fosse estemporaneo e probabilmente era vero, tuttavia era talmente ben costruito e schematico da contenere in sé la direttrice del progetto. Il punto cruciale era questo. Sarebbe stato un errore aspettare finché la tecnica fosse progredita al punto da permettere a una spedizione di affrontare i rigori delle radiazioni solari. Mercurio presentava un ambiente unico da cui si poteva imparare molto e dalla sua superficie sarebbe stato possibile osservare il Sole come da nessun'altra parte, purché si sistemasse sul pianeta un sostituto dell'uomo, e cioè un robot. Un robot dotato delle caratteristiche fisiche necessarie non era una cosa impossibile. Una volta lanciato su Mercurio, cosa avrebbe fatto? Avrebbe compiuto le osservazioni e agito di conseguenza. Ma il progetto esigeva che si dovesse comportare, almeno potenzialmente, in modo complesso, intricato e sottile, tanto più che non si poteva sapere a priori l'esito delle osservazioni. Per ovviare a tutte le eventualità, per permettere al robot di compiere qualsiasi azione gli fosse richiesta, bisognava che fosse dotato di un computer. A Dallas parlavano di cervello, ma Anthony disprezzava quella definizione, forse perché gli venne in mente più tardi il cervello era il campo d'azione di suo fratello. Quel computer doveva essere così completo e versatile da equivalere a un cervello di mammifero. Ma un congegno del genere, portatile in modo da essere trasportato e fatto atterrare su Mercurio, non era attuabile. Forse un giorno i circuiti positronici in via di studio sarebbero diventati una realtà e avrebbero reso possibile la costruzione di un computer di dimensioni così ridotte, ma quel giorno era ancora lontano. Come alternativa, si poteva ordinare al robot di inviare immediatamente sulla Terra le informazioni e dalla Terra un computer, dopo averle prese in esame, avrebbe indicato al robot cosa doveva fare. In poche parole, il corpo del robot sarebbe andato sul Mercurio, mentre il suo cervello sarebbe rimasto sulla Terra. Deciso questo, il resto toccava ai telemetristi e fu allora che Anthony venne assunto al progetto. Era uno dei tecnici che cercavano di escogitare il sistema di ricevere e inviare impulsi su distanze che variavano dai 150 ai 320 milioni di chilometri, verso, e talvolta al di là, di un disco solare capace di interferire in modo addirittura feroce. Anthony lavorava con passione, abilità, e pareva finalmente con successo. Lui, più dei colleghi, aveva contribuito alla progettazione delle tre stazioni di collegamento da sistemare in orbita permanente intorno a Mercurio, i Mercury Orbiters, capaci ognuna di inviare e ricevere impulsi da Mercurio alla Terra, e viceversa. Queste stazioni erano in grado di resistere in modo più o meno permanente alle radiazioni solari, e, cosa ancora più importante, filtrarne le interferenze. Tre altri orbiters furono sistemati a circa 150 milioni di chilometri dalla Terra, da nord a sud sul piano dell'ellittica, in modo da ricevere gli impulsi di Mercurio e rinviarli sulla Terra, e viceversa, anche quando Mercurio si trovava dietro il Sole, ed era quindi impossibile una ricezione diretta da parte delle stazioni poste sulla superficie terrestre. Restava il robot, un meraviglioso esemplare di arte robotica e telemetrica in collaborazione, il più complesso di dieci modelli successivi, capace, entro un volume doppio e con una massa cinque volte superiore a quella dell'uomo, di capire e agire molto meglio di qualsiasi uomo, purché opportunamente guidato. Si intuì fin dall'inizio che un computer capace di guidare un simile robot doveva essere estremamente complesso, in quanto ogni risposta andava modificata in modo da consentire tutte le diverse possibilità di interpretazione. E poiché le possibilità di interpretazione erano numerose e complesse e interpretabili in svariati modi, da difficoltà nasceva difficoltà, da complicazione e complicazione. Era come una partita a scacchi. I telemetristi ricorsero a un computer per programmare il computer che elaborava il programma per il computer destinato a programmare il computer che fungeva da cervello del robot. Conseguenza una gran confusione. Il robot si trovava in una base situata in una zona desertica dell'Arizona e funzionava bene. Lo computer di Dallas però non riusciva a trasmettergli correttamente i suoi ordini a causa delle condizioni imperfette dovute all'atmosfera e alla configurazione terrestre. E allora com'è? Anthony ricordava il giorno in cui aveva fatto la proposta. Era il 4 luglio 553. Lo ricordava perché il 4 luglio era un importante giorno di vacanza nella regione di Dallas anticamente, prima della catastrofe, avvenuta circa mezzo millennio prima, per la precisione 553 anni prima. Aveva appena terminato un ottimo pranzo. Erano stati apportati molti miglioramenti all'ecologia della regione e il personale del progetto aveva il diritto di precedenza sulla scelta dei viveri disponibili, che erano ricchi e svariati. Anthony aveva scelto Anitra a Rosto. Era ottima e la soddisfazione lo rese più espansivo del normale, ma anche gli altri si trovavano nella stessa disposizione d'animo, perché Riccardo dichiarò eh non ce la faremo mai, ammettiamolo, non ci riusciremo. Inutile dire che non era stato il solo a pensarlo, e più di una volta, ma per tacito accordo finora nessuno lo aveva mai detto. Una dichiarazione così pessimista poteva indurre le autorità a negare altri fondi, che avevano stanziato con sempre maggior riluttanza nei cinque anni da che era stato dato il via al progetto. Mentre invece, se sussisteva un filo di speranza, non avrebbero potuto negarli. Anthony, che di solito non era portato al facile ottimismo, reso euforico dalla squisita Anitra a Rosto ribatte, eh perché no, spiegamelo, e vedrai che saprò confutare le tue illazioni. Era un'aperta sfida e Riccardo disse socchiudendo gli occhi bruni. Vuoi proprio che te lo dica? Eh certo. Riccardo fece ruotare la sedia per guardarlo meglio in faccia. Andiamo, cominciò. Non è un mistero. Dimitri Larghe non lo ammette apertamente nei rapporti, ma sia tu sia io sappiamo benissimo che per far funzionare a dovere il progetto Mercurio ci vorrebbe un computer complesso come un cervello umano, o qui o su Mercurio, e noi non siamo in grado di fabbricarlo. Così non ci resta altro che cercare di abbindolare il congresso mondiale perché continui a stanziarci i fondi per tirare avanti nella speranza sempre più vaga di trovare una soluzione. Con un sorriso di compiacimento stampato sulla faccia, Anthony rispose. Eh, niente di più facile da confutare. Ti sei risposto da solo. Si voleva divertire. Era effetto dell'anitra che gli scaldava lo stomaco e il desiderio di irritare Riccardo, o piuttosto l'inconscio ricordo di suo fratello. In seguito non avrebbe saputo dirlo. Come mi sono esposto da solo, replicò Riccardo alzando la voce. Era alto ed eccezionalmente sottile e non abbottonava mai il camice bianco. In piedi, a braccia concerte, incombeva su Anthony, che stava seduto, come un metro pieghevole aperto. Hai detto che ci vorrebbe un computer complesso come un cervello umano. D'accordo, ne costruiremo uno. Il fatto è idiota, che non siamo in grado. Noi no, ma ci sono altri che possono. E chi? Quelli che lavorano sul cervello, è ovvio. Noi siamo dei meccanici, specializzati finché vuoi, ma sempre meccanici. E non abbiamo la minima idea della complessità e della portata del cervello umano. Ma perché non facciamo venire un omologo e diamo a lui l'incarico di progettare il computer? Detto questo, Anthony si servì di una bella porzione di ripieno e cominciò a mangiarla di gusto. In seguito non dimenticò mai il sapore di quella vivanda, anche se non riusciva a ricordare con esattezza quello che era successo. In principio nessuno lo aveva preso sul serio, ridendo alle spalle di Riccardo che era stato messo a tacere con una surdità simile. Dopo invece tutti asserirono di aver preso subito sul serio la sua proposta. Riccardo, appunto sul vivo, salto su e disse, scrivilo, ti sfido a mettere per iscritto la tua proposta. Così almeno ricordava Anthony. Riccardo invece disse poi di aver dichiarato con entusiasmo, ottima idea, perché non la metti per iscritto? Ma comunque fossero andate veramente le cose, Anthony scrisse la proposta e la presentò a Dimitri Larghe, che l'accettò. Durante un colloquio a quattro occhi batte amichevolmente sulla spalla di Anthony, dicendogli che anche lui aveva in mente la stessa cosa, ma che gli lasciava tutto il merito. Nel caso che tutto si risolva in un fiasco, pensò Anthony. Dimitri Larghe si mise alla ricerca di un omologo che facesse al caso suo. Ad Anthony non passo neppure per la mente che la cosa avrebbe dovuto interessarlo. Non si intendeva di omologia, non conosceva altri omologi che suo fratello e almeno a livello conscio non aveva pensato a lui. Ed ora Anthony si trovava sul terrazzo, sebbene fosse solo uno dei tanti tecnici. Quando lo sportello dell'aereo si aprì e ne scesero alcuni uomini. Ci furono scambi di strette di mano e a un tratto Anthony si trovò faccia a faccia con se stesso. Si sentì avvampare e avrebbe dato chissà cosa per trovarsi mille miglia lontano di lì. William si rammaricava di non essersi ricordato prima di suo fratello, eppure avrebbe dovuto. Come mai? Ma la lusinga per essere stato scelto e l'eccitazione in vista del nuovo incarico avevano avuto il sopravvento su tutto questo. E poi forse aveva volutamente evitato di ricordare. Prima di tutto c'era la visita di Dimitri Larghe, che era andato personalmente da Dallas a New York in aereo, e questo aveva eccitato enormemente William, accanito lettore di romanzi del brivido. In quei racconti i personaggi viaggiavano sempre con veicoli di quel genere, quando dovevano compiere una missione segreta, perché i mezzi elettronici erano pubblici, e, almeno nei romanzi, era facilissimo spiarli e localizzarne le emanazioni. William ne aveva accennato scherzando, ma Dimitri non aveva neanche sentito. Lo fissava pensando evidentemente ad altro, perché alla fine disse «Scusate, mi ero distratto. Mi ricordate qualcuno?». Nemmeno questo era bastato a risvegliare il ricordo di suo fratello. Com'era possibile? In seguito William se lo chiese più di una volta. Dimitri Larghe era un ometto atticciato che conservava un'espressione petulante anche quando diceva di essere preoccupato o seccato. Aveva il naso a palla e le guance tonde ed era tutto ciccia. Sottolineando il significato del proprio cognome, Larghe, grosso, disse con una prontezza che indusse William a pensare che amasse ripeterlo spesso. «Di grosso, non ho soltanto il corpo, amica mia!». Nel corso del colloquio che seguì, William protestò più di una volta. Non ne sapeva un'h di computer. Niente di niente. Non aveva la minima idea né di come funzionassero né di come andassero programmati. «Non fa niente, non fa niente», disse Dimitri, scartando con un gesto espersivo della mano paffuta le obiezioni. «Noi ce ne intendiamo. Noi sappiamo elaborare i programmi. Voi dovete solo dirci come deve essere fatto un computer che funzioni come un cervello umano e non come i soliti computer». «Non credo di avere sufficienti cognizioni sul funzionamento del cervello in modo da potervelo spiegare», disse William. «Voi siete il miglior omologo del mondo», replicò Dimitri. «Ho fatto delle indagini accurate». E con questo considerò chiusa la faccenda. William lo ascoltava con crescente apprezzione, ma d'altra parte doveva ammettere che era inevitabile. Quando una persona è specializzata in un dato ramo, e se si occupa solo di quello e a lungo, finisce automaticamente a pensare che gli specialisti degli altri rami siano dei maghi, in quanto giudica la portata del loro sapere dalla sua completa ignoranza in materia. Via via che la conversazione procedeva, William imparò molte cose del progetto Mercurio, molto più di quanto gli interessava sapere, almeno allora. Alla fine disse «Ma perché ricorrere a un computer? Perché non vi servite di uno dei vostri uomini? O di una catena di tecnici che ricevono i dati dal robot e gli inviino poi le istruzioni?» Fece Dimitri sobbalzando sulla sedia. «Si vede che non ve ne intendete? Gli uomini ci impiegano troppo tempo ad analizzare il materiale inviato dal robot. Temperatura e pressione dei gas, flussi dei raggi cosmici, intensità dei venti solari, composizione chimica delle radiazioni del suolo, e potrei continuare ancora per un bel pezzo, e poi decidere il da farsi. Un essere umano si limiterebbe a guidare il robot mentre il computer sarebbe il robot. E poi le radiazioni, di qualsiasi genere siano, impiegano da 10 a 20 minuti per andare da Mercurio alla Terra, a seconda di dove si trovi in un dato momento ciascun pianeta nella sua orbita. L'uomo osserva e impartisce un ordine, ma nel tempo che intercorre fra l'osservazione e la risposta sono intanto successe molte cose. Gli uomini non possono adattarsi alla velocità della luce, un computer invece ne tiene conto. Aiutateci William. Sono lusingato per la vostra scelta. Rispose tetro William, esserò felice di fare tutto quello che posso per voi. Metto a vostra completa disposizione il mio canale tv privato. Ma io non voglio una consulenza, voglio che veniate via con me. Materialmente? Sul vostro aereo? Ribatti colpito William. E certo, non si può elaborare un progetto come questo stando seduti ai capi opposti di un fascio di laser, con un satellite per le comunicazioni nel mezzo. Alla lunga sarebbe troppo costoso, poco conveniente e soprattutto troppo poco sicuro, trattandosi di una cosa tanto delicata. Allora è proprio come nei romanzi, pensò eccitato William. Venite a Dallas, continuò Dmitri. Così posso farvi vedere tutte le attrezzature di cui disponiamo. parlate con i miei uomini. Le vostre opinioni saranno tenute nel massimo conto. William capì che non poteva più tergiversare. Dimitri disse, io qui ho il mio lavoro. Un lavoro importante che non voglio trascurare. Per contentarvi dovrei lasciare il mio laboratorio per parecchi mesi. Mesi, esclamò Dimitri interdetto. Dio santo William, ci vorranno anni. Ma dopotutto svolgerete lo stesso lavoro. Non è vero. So cosa faccio e il mio lavoro non consiste certamente nel guidare un robot su mercurio. Perché no? Se vi riuscirà bene, imparerete molto sul cervello, cercando di far sì che un computer funzioni nello stesso modo e quando tornerete qui, sarete molto più esperto. In vostra assenza avrete ben degli assistenti o dei collaboratori con cui mantenervi in contatto per laser e per tv. E potrete venire anche a New York qualche volta. William era tentato. Il pensiero di lavorare sul cervello partendo da un punto diverso lo allettava. E da quel momento cercò di trovare tutte le scuse possibili per andare. Almeno una visita, per qualche tempo, per vedere com'era il posto. Poteva sempre tornare indietro. Poi ci fu la visita di Dimitri alle rovine dell'antica New York, che lui debitamente apprezzò. È logico del resto perché non esisteva una dimostrazione altrettanto spettacolare del gigantismo inutile anticatastrofe dell'antica New York. William cominciò a chiedersi se durante il prossimo viaggio non avrebbe avuto anche lui l'occasione di vedere delle antiche rovine. Fine dunque che andò a Dallas e scese dall'aereo sul tetto dove Dimitri lo aspettava. Raggiante. Poi, socchiudendo gli occhi del viso grassoccio, quello disse «Lo sapevo! Che straordinaria somiglianza!» William sbarro gli occhi e si trovò davanti una replica talmente somigliante della sua faccia che capì di avere davanti suo fratello. Dalla sua espressione capì che Anthony moriva dalla voglia di tenere nascosta la loro parentela. Sarebbe bastato che lui dicesse «Già, che strano!» e tutto sarebbe finito lì. Gli schemi genetici dell'umanità erano abbastanza complessi, dopo tutto, perché si potesse dare il caso di somiglianze più o meno accentuate senza che dovesse esserci la consanguineità. Ma William era un omologo e non si può lavorare sulle intricate complessità del cervello umano senza diventare insensibili a certi piccoli particolari. Per cui invece disse «Sono sicuro che questo è mio fratello Anthony». «Vastra fratella!» ripete Dimitri. «Eh, mio padre ebbe due figli dalla stessa donna. Mia madre, spiego William, erano degli originali». Fece un passo avanti, tendendo la mano, e Anthony non poteva fare a meno di stringerla. Quell'incidente fornì materia di commenti per parecchi giorni. Il fatto che William si dimostrò pentito quando si rese conto della sua gaff serviva poco a consolare Anthony. Quella sera, dopo cena, si trovavano insieme e William disse «Perdonami, pensavo che dicendolo subito nessuno ci avrebbe fatto più caso, e invece a quanto pare sbagliavo. Non ho ancora firmato il contratto né preso accordi specifici». «Me ne vado». «A cosa servirebbe?» ribatté sgarbatamente Anthony. «Tutti lo sanno ormai. Due corpi e una sola faccia. Mi viene da vomitare». «Ma se parto?» «Non puoi! L'idea è venuta da me!» «L'idea di farmi venire?» William sbarro gli occhi, inarcando al massimo le sopracciglia. «Ma no, naturalmente! L'idea di far venire qui un omologo! Come potevo immaginare che avrebbero scelto proprio te!» «Ma se me ne vado?» «No, ormai bisogna rimediare in qualche modo. Se sarà possibile, poi non avrà più importanza». «A chi riesce tutto è perdonato, penso». «Non so cosa posso...» «Devi tentare! Dimitri affiderà a noi il programma. È un'occasione che non può lasciarsi sfuggire». «Voi due siete fratelli!» Disse Anthony, imitando la voce di Dimitri. «Vi capite perché non lavorate insieme?» Poi, rabbiosamente, con la sua voce normale. «Quindi non abbiamo scelta». Per cominciare, in cosa consiste precisamente il tuo lavoro, William? La parola omologia mi dice poco. William sospirò. «Beh, prima di tutto ti rinnovo le mie scuse. Lavoro con i bambini autistici». «Beh, ne capisco meno di prima». «Per farlo a breve, ho a che fare con bambini che si isolano dal mondo, che si rifiutano di comunicare con gli altri, che si rinchiudono in se stessi e diventano praticamente irraggiungibili entro l'involucro del loro corpo. Spero un giorno di riuscire a guarirli». «Per questo ti sei scelto il nome Anti-Out?» «Già». Anthony sorrise, ma senza allegria. «È un nome onesto», precisò William sostenuto. «Non lo metto in dubbio». Si affrettò a mormorare Anthony per tagliar corto. «Fai dei progressi?» Per quanto riguarda la cura, purtroppo no. Tuttavia cominciò a capire, e più capisco. William si accalorava parlando e il suo sguardo si perdeva nel vuoto. Anthony capì il motivo di quell'atteggiamento. Era dovuto al piacere di poter parlare della cosa che gli stava veramente a cuore. Capitava anche a lui qualche volta di accalorarsi così, parlando del suo lavoro. Ascoltò con tutta l'attenzione di cui può essere capace un profano, ma si sentiva in obbligo di farlo perché poi voleva che William ascoltasse lui con la stessa attenzione. Come ricordava bene quel colloquio. Sul momento non lo avrebbe mai detto, ma più tardi, alla luce dei fatti, si ricordò intere frasi, parola per parola. «Ci è dunque sembrato», diceva William, «che il bambino autistico ricevesse le impressioni e le interpretasse, contrariamente a quanto si pensava prima. Piuttosto le disapprovava e le rifiutava, accettando e comprendendo a fondo invece quelle che approvava». «Ah!» disse Anthony per far vedere che ascoltava. «È impossibile convincerlo del suo autismo in modo normale, in quanto disapprova chi tenta di curarlo al pari degli altri. Ma se lo si pone in arresto conscio? Cosa?» «È una tecnica con cui in pratica il cervello è diviso dal corpo e può funzionare senza essere minimamente influenzato da esso. Si tratta di una tecnica molto delicata che abbiamo ideato nel nostro laboratorio». «L'hai ideata tu?» chiese con dolcezza Anthony. «Ebbene, se devo essere sincero, sì». Rispose William arrossendo un poco, ma visibilmente compiaciuto. «Nell'arresto conscio possiamo fornire al corpo determinate fantasie e osservare il cervello mediante un'elettroencefalografia differenziata. Questo sistema ci permette di sapere subito molte cose dell'individuo autistico. Quali sono le impressioni che preferisce? E ricaviamo molti dati sul funzionamento del suo cervello. «Ah!» Fece Anthony e stavolta era un «A» di sincero interesse. «E tutto quello che hai imparato sui cervelli ti può servire adesso per il computer?» «No, assolutamente. L'ho già detto a Dimitri. Non ne so niente dei computer. È troppo poco del cervello». «E se ti spiego io quello che hai bisogno di sapere e quello che devi fare?» «No, perché...» «Fratello!» disse Anthony, sottolineando con enfasi la parola. «Mi devi qualcosa. Ti prego di tentare almeno di esaminare il problema e di adattare ai computer tutto quello che sai sul cervello umano». «Mh, ti capisco», disse William con un senso di disagio. «Tenterò. Ti assicuro che farò tutto il possibile». William aveva mantenuto fede alla sua promessa e, come Anthony aveva predetto, i due fratelli avevano avuto l'incarico di lavorare insieme. I primi tempi, quando incontravano qualcuno, William aveva seguito la sua tattica di dichiarare subito che erano fratelli per neutralizzare conseguenze sgradevoli, tanto più che sarebbe stato assurdo negarlo, ma poi tutti avevano fatto finta di niente. Si erano anche abituati l'uno all'altro e si ritrovavano a comportarsi reciprocamente come se non si somigliassero e non avessero in comune i ricordi dell'infanzia. Anthony elaborò il progetto delle esigenze del computer nel linguaggio più piano che gli fu possibile e William, dopo averci pensato a lungo, spiegò come avrebbe dovuto funzionare per somigliare più o meno a un cervello. «Credi che sarà fattibile?» chiese Anthony. «Non lo so», rispose William, «e non mi va l'idea di provare perché potrebbe risolversi in un fiasco completo». «Tuttavia non si può mai dire». «Dobbiamo parlarne a Dimitri Larghe». «Prima discutiamone a fondo noi due per vedere che cosa se ne può ricavare. Potremmo riuscire ad elaborare una proposta attuabile. In caso contrario, faremo a meno di andare da lui». «Dobbiamo parlargli tutti e due?» chiese Anthony incerto. «Eh, tu mi farai da portavoce», rispose diplomaticamente William. «Non c'è motivo che si vada tutti e due». «Grazie, William. Se riusciremo a combinare qualcosa di buono, non te ne sarò mai abbastanza grato». Discussero a fondo in quattro o cinque incontri successivi e se Anthony non fosse stato tanto suscettibile su quel punto, William si sarebbe dimostrato fiero di avere un fratello minore dall'ingegno così pronto e versatile. Seguirono poi alcuni lunghi colloqui con Dimitri Larghe e con gli altri tecnici, a cui prima parlò Anthony e che poi conferirono separatamente con William. E infine, dopo un travaglio così lungo e difficile, fu autorizzata la costruzione del cosiddetto Mercury Computer. Con gran sollievo, William se ne tornò a New York. Anche se ormai non pensava più a rimanerci, e chi mai l'avrebbe detto due mesi prima? Aveva parecchie cose da sistemare all'istituto omologico. Dovette tenere parecchie riunioni per spiegare ai suoi collaboratori quello che era successo e che stava succedendo e il motivo per cui lui doveva andarsene di nuovo e cosa avrebbero dovuto fare in sua assenza. Seguì poi un secondo viaggio a Dallas con due assistenti e le apparecchiature che gli erano necessarie. William non si voltò mai a guardare indietro, metaforicamente parlando. Il suo laboratorio non esisteva più, tanto lui era preso dal nuovo impegno. Quello fu per Anthony il periodo peggiore. Il sollievo che aveva provato durante l'assenza di William non era stato sufficiente e lui cominciava a sperare, contro ogni speranza, che il fratello non tornasse. Non poteva delegare qualcun altro al suo posto, un altro con una faccia diversa, così che lui non dovesse più sentirsi la metà di un mostro con quattro gambe e due teste. E invece, naturalmente, William tornò. Quello stesso pomeriggio, Anthony andò da Dimitri. «Oramai la mia presenza qui non è più necessaria», disse. «Abbiamo elaborato tutti i particolari e qualcun altro può prendere il mio posto». «No, no», disse Dimitri. «L'idea è stata vostra e voi dovete seguirne gli sviluppi fino in fondo. Perché dividere il merito?» «Nessuno vuole assumersi il rischio», pensò Anthony. «La possibilità di un fiasco era ancora probabile e avrebbe dovuto capirlo». E infatti lo capiva, ma disse testardo. «Sapete bene che non posso continuare a lavorare con William». «Perché?» chiese Dimitri fingendosi sorpreso. «Finora avete lavorato così bene insieme?» «Ne ho fatto il possibile, mi sono sforzato, ma adesso non ce la faccio proprio più. Ho resistito anche troppo». «Ma caro amico, voi date troppo peso alla cosa. È vero, la gente vi guarda, ma gli uomini sono curiosi, si sa. Finiranno con l'abituarcisi come mi ci sono abituato io». «Menti, grassone bugiardo!» pensò Anthony e disse. «Sarama, io non mi ci sono abituato. Voi guardate le cose da un punto di vista sbagliato. I vostri genitori erano degli originali, d'accordo, ma in fin dei conti non hanno fatto niente di illegale. E poi non è colpa vostra né di William». «Noi ne portiamo il marchio», disse Anthony indicando la propria faccia. «Non è così distinto come pensate. Io vi vedo diversi. Voi siete molto più giovane e avete i capelli più ondulati. Nel prima vista si nota una somiglianza, ma poi ci si accorge che non è tanto marcata come sembrava. Andiamo! Avrete tutto il tempo, tutta l'attrezzatura, tutto l'aiuto che vorrete. Sono sicuro che funzionerà a meraviglia. Pensate alla soddisfazione!» Naturalmente Anthony finì col cedere e accettò di continuare a collaborare con William. Anche questi pareva sicuro del successo, anche se non era entusiasta come Dimitri, ma apprendeva le cose con più calma. «Ell'essenziale è fare i collegamenti giusti», disse. «Lo so che non è un problema da poco. Tu dovrai combinare le impressioni sensorie su uno schermo indipendente in modo da far poi intervenire, se necessario, il controllo intellettuale». «Ne si può fare», disse Anthony. «E allora cominciamo? Senti, mi ci vorrà almeno una settimana per sistemare i collegamenti e assicurarmi che le istruzioni concordino». «La programmazione!», corresse Anthony. «Beh, è la tua partita, quindi sai meglio di me i termini da usare. Dunque, insieme ai miei assistenti, programmerò il Mercury Computer, ma non alla vostra maniera». «Eh, lo spero bene! Abbiamo chiamato un omologo proprio perché il programma da inserire era molto più sottile e complesso di quello a cui siamo abituati noi telemetristi». Lo disse in tono amaro, che William non rilevò. «Bene, cominciamo. Intanto dobbiamo far camminare il robot». Una settimana dopo, il robot camminava, in Arizona, a duemila chilometri di distanza. Camminava tutto rigido, qualche volta cadeva, qualche volta inciampava contro un ostacolo e qualche volta ruotava su se stesso e riprendeva a camminare inaspettatamente verso un'altra direzione. «È piccolo, deve imparare a camminare», disse William. Dimitri andava ogni tanto a sorvegliare i progressi. «Magnifico», commentava. Ma Anthony non era di quel parere. Passarono le settimane, passarono i mesi. Il robot continuava ad imparare via via che la programmazione del Mercury computer diventava sempre più complessa. Parlando del computer, William aveva la tendenza a chiamarlo cervello, ma Anthony lo correggeva sempre. Tuttavia, i risultati non erano soddisfacenti. «Non va, William», disse dopo non aver chiuso occhio per tutta la notte. «Non è strano», ribattì freddamente William. «Io stavo per dire invece che ce l'abbiamo quasi fatta». Anthony riuscì a dominarsi a fatica. La tensione dovuta al fatto di dover lavorare con William e alla constatazione che il robot non dava i risultati sperati era giunta al culmine. «Dò le dimensioni, William. Non ne posso più di questo lavoro. Mi dispiace, tu non c'entri. E invece sì, Anthony». «Solo in parte. E che sono sicuro che andrà male. Non vedi come goffa il robot, sebbene qui sulla Terra, relativamente vicino, col segnale che impiega solo pochi centesimi di secondo ad arrivare. Su Mercurio l'intervallo sarà di parecchi minuti, di cui il Mercury computer dovrà tener conto. È assurdo pensare che funzionerà». «Non arrenderti, Anthony», disse William. «Non puoi arrenderti proprio adesso. Io voglio che il robot venga mandato subito su Mercurio. Sono sicuro che funzionerà». «Sei pazzo, William», commentò Anthony con una risata irritante. «Non lo sono. Tu credi che su Mercurio sarà più difficile? Invece è proprio il contrario. È più difficile qui sulla Terra. Il robot è fatto per funzionare su un terzo di gravità terrestre e funziona in Arizona. È fatto per stare in un ambiente con una temperatura di 400 gradi e adesso si trova in un posto dove la temperatura non supera i 30 gradi. È fatto per il vuoto e qui è immerso in un'atmosfera molto densa. «Il robot può notare le differenze?» «Sì, la struttura metallica le rileva, ma il computer che si trova qui non funziona bene con un robot che non si trova nell'ambiente per cui è stato creato. Senti, Anthony. Se vuoi che il computer funzioni proprio come un cervello, devi tener conto anche delle sue idiosincrasie. Senti, facciamo un patto. Se mi sostieni nella proposta di inviare subito il robot su Mercurio, io mi prenderò una vacanza per i sei mesi che durerà il viaggio. Così non mi avrai fra i piedi». «Ma chi si occuperà del Mercury Computer?» «Eh, oramai sai come funziona. E poi lascerò qui i miei due assistenti». Anthony scrollo la testa. «Non posso assumermi la responsabilità del computer e neanche insistere perché il robot venga mandato su Mercurio. Non funzionerà». «Sono sicuro di sì». «Non puoi esserne sicuro al cento per cento e la responsabilità è mia. Tutto il biasimo ricadrà su di me». In seguito Anthony capì che quello era stato un momento cruciale. Se William l'avesse lasciato andare, se lui avesse dato le dimissioni, tutto sarebbe andato perduto. Invece William disse «Solo su di te? E io? Senti, papà e mamma si sono comportati in modo assurdo. Ne convengo. Dispiace anche a me. Mi dispiace moltissimo, ma oramai è fatta e ne è risultato qualcosa di buffo. Quando io dico «papà» parlo anche di «tuo padre» e questo lo possono dire molti. Due fratelli, due sorelle, un fratello e una sorella. E quando dico «mamma» intendo «anche tua madre» e molte coppie possono dire altrettanto. Ma non conosco, ne ho mai sentito parlare, di una coppia di fratelli che abbiano in comune tanto il padre quanto la madre. «Lo so!» disse Anthony a muso duro. «Sì, ma prova a guardare la cosa dal mio punto di vista». Proseguì in fretta William. «Io sono un omologo. Mi occupo di schemi genetici. Hai mai provato a pensare ai nostri? Abbiamo gli stessi genitori e questo significa che i nostri schemi genetici si somigliano a più di qualsiasi altro paio di schemi sulla Terra. Bastano le nostre facce a dimostrarlo». «Eh, come se non lo sapessi!» «Così, se questo progetto funziona, se ne ricaverai fama e gloria, vorrà dire che il tuo schema genetico si è dimostrato altamente utile all'umanità. E lo stesso si dirà del mio». «Non capisci, Anthony?» «Io ho in comune con te i genitori, la faccia, lo schema genetico e quindi condividerò il tuo successo. o il tuo fiasco. Sarai il mio quanto il tuo, sia che si tratti di gloria o di biasimo. Il tuo successo non può non starmi a cuore. Ci tengo più di qualsiasi altra persona al mondo per un motivo strettamente egoistico, ma che tu puoi capire. Sono dalla tua, Anthony. Perché tu sei quasi me». Rimasero a guardarsi a lungo e per la prima volta Anthony non si fissò sulla somiglianza. «Sù, andiamo a chiedere che il robot sia mandato su Mercurio», disse William. Anthony acconsentì. E dopo che Dmitri ebbe concesso il suo benestare e, dopo tutto, si aspettava quella richiesta, Anthony passò parecchie ore immerso in profonda meditazione. Alla fine andò da William e disse «Ascolta!» Seguì una lunga pausa che William non si azzardò a rompere. «Ascolta!» ripetì Anthony. William aspettava pazientemente. «Non c'è bisogno che tu te ne vada. Sono sicuro che ci tieni molto a manovrare personalmente il Mercury Computer». «Vuoi dire che hai intenzione di andartene tu?» «No, resto anch'io». «Non ci sarà bisogno che ci vediamo spesso», disse William. Anthony aveva faticato a parlare come se una mano gli serrasse la gola. La pressione ora gli parve ancora più forte, ma riuscì a dire «Non è necessario che ci evitiamo». William appazzò un sorriso incerto. Anthony non sorrise. Si voltò e uscì in fretta. William alzò gli occhi dal libro. Era passato ormai quasi un mese da quando non si meravigliava più nel vedere entrare Anthony. «Qualcosa che non va?» chiese. «E chi può dirlo? Stanno preparando l'atterraggio soffice. Il Mercury Computer è in funzione?» William sapeva che Anthony non aveva bisogno di chiederlo. Tuttavia rispose. «Serà pronto domattina». «Problemi?» «Nessuno». «Allora dobbiamo aspettare l'atterraggio morbido». «Già». «Vedrai che qualcosa non funzionerà», disse Anthony. «Perché? Gli atterraggi morbidi ormai sono manovre fatte migliaia di volte. È tanto lavoro sprecato». «Non è e non sarà sprecato». «Forse hai ragione tu», disse Anthony. Si infilò le mani in tasca avviandosi alla porta. «Grazie», disse prima di toccare il contatto per aprirla. «Di che, Anthony?» «Di avermi dato fiducia». William sorrise e fu contento di essere riuscito a non tradire i suoi sentimenti. Tutto il personale del progetto Mercurio era presente al momento cruciale. Anthony, che non aveva niente da fare, stava in disparte con gli occhi fissi sul monitor. Il robot era stato attivato e stavano arrivando le prime immagini visive, o equivalenti di immagini visive, che per il momento si limitavano a un bagliore cupo, probabilmente alla superficie di Mercurio. Lo schermo si popolò di fitte ombre, probabilmente irregolarità della superficie. A occhio non si poteva giudicare, ma gli addetti ai controlli, intenti ad analizzare i dati con mezzi più sottili di un occhio non allenato, parevano calmi. Nessuna luce rossa d'allarme si era accesa. Anthony guardava più i tecnici che non lo schermo. Avrebbe dovuto trovarsi al computer con William e gli altri, pronti ad attivarlo appena effettuato l'atterraggio morbido. Avrebbe dovuto, ma non poteva. Le ombre continuavano ad infittirsi. Il robot stava scendendo troppo rapidamente? Eh, certo. Troppo, troppo in fretta. L'immagine si offuscò, tornò nitida, si mise a fuoco offuscandosi ancora, poi si stabilizzò. Si sentì un suono di voci, ma passarono alcuni secondi prima che Anthony afferrasse il senso delle parole. Atterraggio morbido effettuato, atterraggio morbido effettuato. Poi si levò un mormorio che si trasformò in un ronzio eccitato, in uno scambio di congratulazioni, finché l'immagine sullo schermo cambiò e allora il suono delle voci e delle risa cessò, come se avesse urtato contro un muro di silenzio. L'immagine era cambiata ed era nitidissima. Nella bacinante luce solare filtrata da uno speciale schermo era visibile un masso di un biancore incandescente da un lato e nero come l'inchiostro dall'altro. Si spostò a destra, poi a sinistra, come se un paio d'occhi lo avessero guardato prima da un lato e poi dall'altro. Una mano metallica comparve sullo schermo come se gli occhi guardassero una parte del proprio corpo. Fu Anthony a rompere il silenzio gridando «Si è inserito il computer!» Percepì le parole come se le avesse gridate un altro e si precipitò fuori, scendendo le scale, percorrendo un corridoio e lasciandosi alle spalle il mormorio che si era intanto levato. «William!» gridò il rompendo nella stanza del computer. «È perfetto, eh!» «Ma William!» lo tacitò con un gesto. «Zitto, per favore! Non voglio che si infiltrino altre sensazioni violente oltre a quelle del robot!» «Voi dire che può sentirci!» sussurrò Anthony. «Magari no!» «Ma non si può mai sapere!» Nella stanza c'era un piccolo schermo. La scena era ancora cambiata e il robot si stava muovendo. «Il robot sta attestando il terreno!» disse a William. «I passi sono goffi perché fra stimolo e risposta passano sette minuti!» «Però cammina più sicuro di quanto non facessi in Arizona!» «Non ti pare, William?» «Non ti pare!» Anthony aveva afferrato la spalla del fratello e lo scuoteva senza staccare gli occhi dallo schermo. «Ne sono sicuro, Anthony!» Il sole ardeva in un caldo mondo di bianchi e neri contrastanti, di sole bianco contro un cielo nero e di bianco terreno ondulato striato di ombre e cupe. L'udore caldo e dolce del sole su tutte le parti metalliche esposte contrastava con l'insinuante aroma di morte delle parti in ombra. Egli sollevò la mano e la guardò contando le dita. Caldo, caldo, caldo le piegò una ad una ponendole all'ombra delle altre e lentamente il caldo andò smorendo in un mutamento tattile che gli consentì di godere del vuoto limpido e confortevole. Ma non era un vuoto assoluto. Si drizzò e sollevò le braccia al di sopra della testa tendendole e i punti sensibili sui polsi captarono i vapori. Il tenue leggerissimo sentore di stagno e piombo che si srotolava attraverso i sentori che salivano dalla superficie di mercurio. Il sentore più forte saliva dai piedi silicati di ogni specie e varietà distinguibili l'uno dall'altro per l'aroma dell'oione metallico. Egli analizzava lentamente sulla polvere riarsa il regolare percependo i cambiamenti come una sommessa sinfonia. Ma soprattutto il sole alzò la testa a guardarlo enorme denso luminosissimo e ardente e ne percepì l'esultanza osservò il lento sorgere delle prominenze sul suo bordo ne udì ogni singolo crepitio e insieme a quelli ascoltò anche gli altri allegri rumori di quel faccione luminoso. Quando si attenuò la luce dello sfondo il rosso delle colonne di ossigeno incandescente si rivelò con toni di dolce e contralto e i bassi profondi delle macchie fra il mutante turbinio delle facelle sottili in continuo movimento e l'accendersi di un bagliore più vivido il ping pong regolare dei raggi gamma e delle particelle cosmiche e soprattutto e in tutte le direzioni il tenue lieve sempre rinnovante si sospiro della materia solare che si sollevava e si riabbassava in eterno sotto l'impeto del vento cosmico che la sconvolgeva e la sommergeva in un turbine di gloria e gli fece un balzo sollevandosi lentamente libero come quasi mai si era sentito e tornò a saltare e corse e saltò e tornò a correre col corpo che rispondeva perfettamente a quel mondo meraviglioso e a quel paradiso in cui si trovava così a lungo estraneo così a lungo sperduto finalmente in paradiso va tutto bene disse William ma cosa fa non potrei fare a meno di gridare Anthony va tutto bene ti dico la programmazione funziona ha esaminato i propri sensi sta eseguendo le diverse osservazioni visive ha schermato il sole e lo ha studiato ha assaggiato la natura chimica del suolo e ha cercato di scoprire se esiste un'atmosfera funziona ma perché correre credo che lo faccia spontaneamente Anthony quando si vuol programmare un computer complesso come un cervello umano bisogna aspettarsi che formuli delle idee per suo conto correre saltare Anthony guardò preoccupato William si rovinerà tu puoi intervenire ordina gli di fermarsi no non lo farò rispose brusco William se si procurerà qualche piccolo danno pazienza non capisci è felice era sulla terra un mondo per il quale non era adatto mentre adesso si trova su Mercurio in un ambiente che è il suo e che nemmeno gli scienziati più abili potevano ricreare per lui è il paradiso lasciamo che se lo goda che se lo goda ma è un robot io non parlo del robot parlo del cervello del cervello che vive qui il Mercury computer chiuso in una cassa di cristallo con i suoi cavi sottili protetto con ogni precauzione respirava e viveva è il Randall che si trova in paradiso disse William ha trovato un mondo per amore del quale si era autisticamente isolato da questo possiede un mondo a cui il suo nuovo corpo si adatta perfettamente in cambio del mondo a cui il suo corpo di prima non riusciva ad adattarsi Anthony fissava lo schermo a bocca aperta pare che si stia calmando certamente disse William e poiché è felice svolgerà meglio il suo lavoro ce l'abbiamo fatta noi due disse Anthony con un sorriso andiamo a farci un po' complimentare degli altri William insieme Anthony lo prese sotto braccio insieme fratello luci scultura la signora Avis Lardner era proprio l'ultima persona che si sarebbe potuta credere capace di commettere un omicidio vedova del grande ed eroico astronauta dotata di spirito filantropico era collezionista d'arte di una ospitalità straordinaria e per consenso unanime un artista ma soprattutto era la persona più gentile e umana che si potesse immaginare suo marito William J. Lardner era morto come è noto a causa delle radiazioni di una tempesta solare dopo che si era trattenuto deliberatamente nello spazio per consentire a una nave passeggeri di raggiungere in tempo la stazione spaziale 5 la signora Lardner riceveva per questo una generosa pensione che aveva saputo investire saggiamente a un'età ormai avanzata era considerevolmente ricca la sua casa era un'esposizione un museo vero e proprio che conteneva una collezione non vasta ma estremamente selezionata di oggetti ingemmati di straordinaria bellezza da una dozzina di diverse civiltà aveva raccolto ogni oggetto possibile in cui si potessero incastonare pietre preziose creato a uso e consumo dell'aristocrazia di quella civiltà possedeva fra l'altro uno dei primi orologi ingemmati di fabbricazione americana un pugnale ingioiellato cambogiano un paio di occhiali italiani e così via la sua casa era aperta al pubblico gli oggetti non erano assicurati e non erano state prese le consuete misure di sicurezza non ce n'era bisogno dal momento che la signora Lardner teneva alle sue dipendenze una folta schiera di robot servitori ognuno dei quali poteva essere messo a guardia di un pezzo della raccolta eseguendo il suo compito con imperturbabile concentrazione inattaccabile onestà e imbattibile efficienza tutti erano al corrente dell'esistenza di questi robot e non siano notizie di tentativi di furto e poi naturalmente c'erano le luci sculture come la signora Lardner avesse scoperto in sé il genio artistico beh nessun ospite dei suoi generosi trattenimenti riuscì mai a indovinarlo comunque tutte le volte che la sua casa veniva aperta agli ospiti una nuova sinfonia di luci risplendeva nelle sale curve tridimensionali e solidi in colori liquefatti alcuni puri altri fusi con effetti sorprendenti cristallini che suscitavano la meraviglia degli ospiti e che a volte si componevano in modo da formare la chioma bianca azzurra della signora Lardner e il suo viso dolce e senza rughe e gentilmente bello più che per il resto gli ospiti affollavano la sua casa per le luci sculture nessuna era mai la stessa due volte di seguito ed esploravano sempre nuove strade sperimentali dell'arte molta gente che si poteva permettere il lusso di una tastiera luminosa componeva luci sculture per divertimento ma nessuno riusciva ad eguagliare l'abilità della signora Lardner nemmeno coloro che si consideravano professionisti nel suo canto lei era modesta in modo affascinante riguardo alla sua arte no no protestava quando qualcuno diventava lirico per l'entusiasmo non li chiamerei poemi di luce è un'espressione eccessiva al massimo direi che sono strofe di luce e tutti sorridevano al suo gentile brio sebbene gliel'avessero chiesto più volte non volle mai creare le sue luci sculture se non in occasione dei suoi ricevimenti beh significherebbe commercializzarle diceva non aveva obiezioni però a che si preparassero complicati ologrammi delle sue sculture in modo che potessero diventare permanenti e venissero riprodotte nei musei d'arte di tutto il mondo né tantomeno esistevano diritti d'autore per qualsiasi uso si potesse fare delle sue luci sculture non potrei chiedere un soldo diceva allargando le braccia sono gratis per tutti in fondo non mi servono più era vero non aveva mai usato due volte la stessa luci scultura mentre venivano presi gli ologrammi era la collaborazione fatta a persona sorvegliando benignamente ogni fase del lavoro era sempre pronta a ordinare ai suoi robot servitori di dare una mano per favore Courtney diceva vorresti essere così gentile da sistemare il gradino della scaletta era il suo modo di fare si rivolgeva sempre ai suoi robot con la massima cortesia formale una volta anni prima era stata quasi rimproverata da un funzionario governativo del dipartimento robots e uomini meccanici non dovete fare così aveva detto severamente il funzionario può ostacolare la loro efficienza sono costruiti apposta per eseguire degli ordini e più gli ordini sono precisi meglio li eseguono se rivolgete loro delle richieste con elaborata gentilezza risulta loro più difficile capire che è stato impartito un ordine reagiscono più lentamente la signora Lardner aveva sollevato la sua testa aristocratica non mi interessano nella velocità nell'efficienza aveva detto mi interessa solo la buona volontà i miei robot mi amano il funzionario avrebbe potuto spiegarle che i robot non possono amare ma era rimasto fulminato dalla sua occhiata addolorata anche se gentile era risaputo che la signora Lardner non aveva mai restituito un robot alla fabbrica per una messa a punto i loro cervelli positronici erano estremamente complessi e una volta su dieci quando un robot lasciava la fabbrica la messa a punto era imperfetta a volte l'imperfezione si rivelava solo in un secondo tempo e quando questo avveniva la fabbrica eseguiva gratuitamente il lavoro di regolazione quando un robot è entrato in casa mia diceva la signora Lardner scuotendo la testa e ha svolto il suo lavoro può avere tutte le eccentricità che desidera io non voglio che li manomettano la cosa più difficile era persuaderla che un robot è solo una macchina ne avrebbe ribattuto molto seccata un essere intelligente come un robot non può essere solo una macchina io le tratto come persone e così era si teneva in casa perfino Max era un caso disperato riusciva astento a capire cosa si voleva da lui la signora Lardner si ostinava a negarlo non è per nulla vero diceva decisa è bravissimo a prendere cappelli e cappotti e a sistemarli nel guarderoba può fare tante cose ma perché non lo fate regolare chiese una volta un amico non potrei mai lui è fatto così è molto gentile sapete e dopo tutto un cervello positronico è talmente complesso che nessuno è in grado di dire con esattezza in che punto realmente non funziona se me lo rendessero perfettamente normale non ci sarebbe modo di restituirgli quella gentilezza che lo distingue adesso no lo preferisco così com'è ma se non è ben tarato disse l'amico lanciando a Max uno sguardo nervoso non potrebbe essere pericoloso mai rise la signora Lardner sta con me da anni è completamente innocuo e tranquillo in effetti somigliava a tutti gli altri robot liscio metallico vagamente umano ma privo di espressione la signora Lardner comunque li considerava tutti degli individui dolci e amabili ecco che tipo di donna era come poté macchiarsi di un omicidio l'ultima persona che si sarebbe potuta immaginare vittima di un assassino era John Semper Travis introverso e garbato viveva nel mondo senza tuttavia farne parte possedeva quel particolare tipo di mente matematica che gli consentiva di sviluppare col pensiero la complicata trama delle miriadi di linee di condotta del cervello positronico di un robot era l'ingegnere capo della United States Robots and Mechanical Men Corporation ma era anche un appassionato entusiasta delle luci sculture aveva scritto un libro su questo argomento cercando di dimostrare come le basi matematiche da cui partiva per sviluppare i modelli di comportamento di un cervello positronico potessero venire modificate fino a diventare una guida per creare estetiche sculture di luce i suoi tentativi di mettere in pratica questa teoria si rivolsero però in un triste fallimento le sculture che produceva seguendo i suoi principi matematici erano pesanti meccaniche e prive di interesse questa era l'unica causa di infelicità della sua vita tranquilla introversa e sicura ed era anche il motivo che lo induceva a sentirsi ancora più infelice sapeva che le sue teorie erano esatte ma non riusciva ad attuarle se solo fosse riuscito a creare almeno una scultura luminosa di pregio ovviamente non ignorava le luci sculture della signora Lardner che era considerata da tutti un genio ma Travis sapeva che non sarebbe stata mai in grado di comprendere nemmeno gli aspetti più semplici della matematica robotica le aveva scritto più volte ma lei si era decisamente rifiutata di rivelargli i suoi metodi e Travis si chiedeva se in fin dei conti seguisse realmente un metodo non avrebbe potuto trattarsi di semplice intuito ma anche l'intuito può essere ridotto in termini matematici perciò fece in modo da farsi invitare a uno dei suoi ricevimenti non chiedeva altro che di vederla Travis arrivò un po' in ritardo aveva fatto un ennesimo tentativo di creare una luci scultura tentativo conclusosi in un fiasco penoso salutò la signora Lardner con imbarazzato rispetto e disse c'era uno strano robot che ha ritirato il mio capotto e il mio cappello e Max disse la signora Lardner è piuttosto mal regolato e di modello molto vecchio come mai non lo avete restituito alla fabbrica oh no disse la signora Lardner sarebbe un disturbo eccessivo ma nemmeno per sogno signora disse Travis sareste sorpresa se sapeste quanto sia semplice e dal momento che lavoro per la US Robots mi sono preso la libertà di regolarlo da me ci ho messo pochissimo tempo adesso scoprirete che è in grado di funzionare alla perfezione uno strano cambiamento alterò il volto della signora Lardner per la prima volta nella sua gentile vita vi trovò posto l'ira e fu come se i suoi lineamenti non sapessero come atteggiarsi l'avete regolato strellò ma se era lui che creava le mie sculture di luce era il difetto quel difetto che non potrete mai più ricreare che è che è fu una vera sfortuna che in quel momento stesse mostrando la sua collezione che sul tavolino di marmo che le stava davanti si trovasse il pugnale ingioiellato della Cambogia anche la faccia di Travis era alterata volete dire che se avessi studiato quell'unico cervello positronico difettoso avrei imparato lei si buttò sul pugnale troppo velocemente perché qualcuno potesse trattenerla e d'altra parte Travis non cercò di scansarsi qualcuno dice che andò addirittura incontro al pugnale come se avesse voluto morire il segregazionista il chirurgo alza gli occhi impassibile è pronto? pronto è un termine relativo disse il medinge noi siamo pronti il paziente però è piuttosto agitato sono sempre nervosi in fondo è un intervento difficile è difficile o no il paziente dovrebbe esserci riconoscente è stato scelto tra moltissimi aspiranti e francamente a mio parere non non dite altro disse il chirurgo non siamo noi a decidere accettiamo la decisione e va bene dobbiamo anche approvarla sì disse il chirurgo secco con un'operazione così complessa non c'è posto per le riserve mentali questo paziente ha dato prova in svariati modi dei propri meriti e il suo profilo ha avuto l'approvazione del ministero della mortalità va bene disse il medinge e il chirurgo disse gli parlerò qui nel mio studio è un ambiente piccolo accogliente e confortevole non servirà molto il paziente è nervosito e del resto ha già preso una decisione davvero? sì vuole il metallo come quasi tutti d'altra parte il chirurgo rimase imperturbabile si esaminò le mani a volte si riesce a fargli cambiare idea non è il caso di preoccuparsi disse al medinge con indifferenza se proprio vuole il metallo diamoglielo e a voi non importa perché dovrebbe importarmene? la risposta era quasi brutale metallo o no? è sempre un problema di ingegneria medica io sono un ingegnere medico dunque in un modo o nell'altro tocca a me non è il caso che mi preoccupi oltre il chirurgo impassibile disse secondo me è tutta questione di affinità tra le due affinità non potrete certo invocarlo come argomento a vostro favore che gliene importa al paziente delle affinità a me importa voi rappresentate una minoranza l'orientamento generale è contro di voi non avete scelta se non altro tenterò il chirurgo con un breve gesto impose silenzio al medico non era un gesto di impazienza ma semplicemente non voleva più perdere tempo l'infermiera che era già stata avvertita attendeva fuori dalla porta il chirurgo premette un pulsante e i due battenti della porta scivolarono silenziosamente il paziente entrò sulla poltrona a motore accompagnato dall'infermiera che gli camminava accanto con passo svelto potete andare infermiera disse il chirurgo aspettate fuori vi chiamerò salutò con un cenno il medinge che usciva con l'infermiera la porta si richiuse alle loro spalle l'uomo sulla poltrona si voltò per osservare i due che uscivano aveva il collo scarno e attorno agli occhi una rete di rughe sottili era rasato di fresco e le mani che stringevano convulsamente i braccioli della poltrona mostravano unghie ben curate era evidentemente un paziente che godeva della priorità assoluta e che andava trattato con tutti i riguardi appariva irritato e imperioso disse si comincia oggi? il chirurgo a noi oggi pomeriggio senatore ci vorranno a quanto mi dicono diverse settimane non per l'intervento senatore ma ci sono parecchi fattori secondari che vanno presi in attenta considerazione per esempio il ripristino della circolazione e le regolazioni ormoniche sono cose piuttosto complesse sono pericolose poi tanto per stabilire una certa cordialità ma palesemente controvoglia aggiunse dottore il chirurgo ignorando quelle sfumature disse senza mezzi termini tutto può essere pericoloso ed è proprio per ridurre il margine di rischio che ci riserviamo parecchio tempo l'intervento richiede tempo un'attrezzatura costosissima la collaborazione di tecnici altamente specializzati e dotati per questo è riservato a pochi lo so disse il paziente con insofferenza e non provo il minimo rimorso a meno che abbiate ricevuto pressioni illecite nessuna pressione senatore le decisioni del ministero non sono mai state messe in discussione ho accennato alle difficoltà che presenta l'intervento solo per farvi palese il mio desiderio che tutto si svolga nel modo migliore e allora procedete pure è anche il mio desiderio in tal caso dovrete decidere su di un punto esistono due tipi di cybercardio in metallo o in plastica scattò il paziente irritato è questa l'alternativa che mi presentate dottore un cuore di plastica non lo voglio ho già scelto voglio un cuore metallico ma sentitemi bene mi è stato detto che la scelta aspetta me esatto il chirurgo a noi quando i due procedimenti dal punto di vista medico sono perfettamente equivalenti la scelta è lasciata al paziente in pratica il paziente sceglie anche quando come nel nostro caso i due procedimenti non sono esattamente equivalenti il paziente succhiuse gli occhi vorreste dire che un cuore di plastica è superiore a un cuore di metallo dipende dal paziente nel caso vostro per esempio è senz'altro superiore del resto noi preferiamo non usare il termine plastica parliamo piuttosto di cyber cardio fibroso per me si tratta sempre di plastica senatore disse il chirurgo con pazienza infinita non si tratta della solita plastica è un prodotto polimerico questo sì ma ha una composizione molto più complessa della plastica ordinaria si tratta di una fibra proteinica particolarmente adatta a imitare con altissimo grado di approssimazione la struttura naturale del cuore umano quello che attualmente vi batte in petto eh lo so ma il cuore umano che in questo momento mi batte in petto è l'ugoro sebbene io non abbia ancora 60 anni eh grazie tante non ne voglio un altro come questo voglio qualcosa di meglio e noi vogliamo fornirvi qualcosa di meglio senatore il cyber cardio fibroso rappresenta appunto il meglio ha una durata potenziale di secoli è assolutamente antiallergico e il cuore metallico non lo è senza dubbio disse il chirurgo il cyber metallico è composto da una lega di titanio che e non si logora mai è più forte di quello di plastica o come dite voi di fibre sintetiche non è così il metallo dal punto di vista fisico è indubbiamente più resistente ma nel nostro caso la forza meccanica non ha alcuna rilevanza il cuore è perfettamente protetto e perciò la resistenza meccanica non incide minimamente se per un malaugurato incedente un corpo estraneo arrivasse fino al cuore esso provocherebbe la morte comunque indipendentemente dalla resistenza dell'organo il paziente scrollò se mi fratturo una costola me la sostituiscono con una costola di titanio il trapianto osseo non presenta più difficoltà e lo si ottiene in qualsiasi momento voglio un cuore metallico dottore e l'avrò sarò metallico quanto mi piacerà dottore è un vostro diritto se questa è la vostra scelta vi ripeto comunque che mentre non si è mai verificato il caso di un cyber metallico rottosi per cause meccaniche un certo numero di essi ha ceduto per cause elettroniche che cosa volete dire ogni cyber radio è dotato di un regolatore interno nel tipo metallico il regolatore è costituito da un apparato elettronico che regola il ritmo del cyber ciò significa che all'interno del cuore è inserita un'intera batteria in miniatura che ha lo scopo di adattare il ritmo del cuore alle condizioni fisiche ed emotive dell'individuo avviene di quando in quando che l'apparato elettronico si incippi e che il soggetto muoia prima che il guasto possa essere riparato non l'ho mai sentito dire vi assicuro che l'incidente si è già verificato intendete dire che capita spesso questo incidente eh no non di frequente anzi direi che è piuttosto raro bene allora affronto il rischio c'è il regolatore anche nel cuore di plastica naturalmente senatore ma a differenza del cuore metallico la struttura chimica di un cybercardio fibroso è molto simile a quella di un tessuto umano e perciò è in grado di rispondere meglio ai controlli ormonici e ionici dell'organismo di conseguenza il complesso fibroso che viene trapiantato è molto più semplice di un cuore metallico ma un cuore di plastica non rischia di sottrarsi al controllo ormonico e finora non è mai avvenuto forse perché non avete avuto modo di prenderne molti in esame esatto il chirurgo esitò è esatto che i cyberfibrosi sono di impiego meno frequente dei cuori metallici ne convenite anche voi ma in realtà di che cosa avete paura dottore che io diventi un robot un metallo come li chiamano da quando hanno concesso anche a loro i diritti civili personalmente non ho niente contro il metallo come avete detto essi sono cittadini come tutti gli altri voi però non siete un metallo voi siete un essere umano perché non volete rimanere tale perché voglio quel che c'è di meglio e cioè nel mio caso un cuore metallico e voi provvederete al trapianto il chirurgo a noi benissimo firmate questi documenti poi vi sarà innestato un cuore metallico mi opererete voi siate il chirurgo migliore così mi hanno detto farò del mio meglio perché il trapianto abbia buon esito la porta si aprì e il paziente si avviò incontro all'infermiera entrò il medinge che seguì con lo sguardo il senatore finché i battenti si richiusero poi si rivolse al chirurgo basta guardarvi per capire cosa è avvenuto cosa ha deciso il chirurgo si curvò sul tavolo e contemplò la scheda esattamente ciò che avevate previsto voi insiste nel trapianto con il cyber cardio metallico in fondo sono i migliori non è detto sono d'impiego più largo tutto qui è una mania questa che affligge dell'umanità da quando ai metallo sono stati riconosciuti diritti civili da allora gli uomini vogliono ad ogni costo diventare dei metallo sono affascinate dalla forza fisica e dalla resistenza che vengono attribuite ai metallo è un fenomeno bilaterale però voi non siete a contatto diretto con i metallo come me per cui so come stanno le cose gli ultimi due che sono venuti da me per riparazioni mi hanno chiesto di usare elementi fibrosi e li avete accontentati nel primo caso si trattava di una semplice sostituzione di tendini per cui metallo o fibra non c'era una grande differenza e l'altro invece mi chiedeva una circolazione sanguigna o qualcosa di analogo dovetti rispondergli che era impossibile a meno di ricostruire integralmente in materiali fibrosi la struttura del suo corpo e prima o poi si arriverà a questo e avremo dei metallo che non sono più metallo ma fatti di carne e di sangue e questo vi preoccupa perché avremo a un certo punto esseri umani metallizzati sulla terra ormai esistono due varietà di intelligenza e non è il caso di preoccuparsene mettiamole a contatto l'una con l'altra e alla fine non ne vedremo più la differenza perché no avremo il meglio dei due mondi i vantaggi dell'uomo combinati con quelli dei robot e avrete un ibrido disse il chirurgo con asprezza avrete un esemplare che non è né l'una né l'altra cosa un individuo è fiero della sua struttura e della sua identità ma come può volerla diluire con un altro elemento totalmente straneo come può desiderare di imbastardirsi parlate come un razzista e sia pure io credo che ognuno di noi debba essere ciò che è non cambierei per nessun motivo neppure un centimetro della mia struttura se dovessi sostituirne una parte la sostituirei ma con un organo che fosse il più possibile simile alla struttura originaria io sono me stesso sono contento di esserlo e non voglio essere diverso da me aveva finito e si preparava all'intervento infilò le mani nel forno e aspettò che assumessero la colorazione rosso brillante segno dell'avvenuta sterilizzazione anche nel calore del discorso non aveva mai alzato la voce e la faccia di metallo brunito era rimasta completamente impassibile robbie 98 99 100 gloria ritrasse il braccio grassottello con cui si era coperta gli occhi e restò un attimo incerta arricciando il naso e battendo le palpebre nella luce del sole poi cercando di guardare contemporaneamente in tutte le direzioni si allontanò pian piano dall'albero a cui si era appoggiata allungò il collo per controllare una macchia di cespugli alla sua destra poi si allontanò ancora per vedere meglio cosa ci fosse in mezzo all'intrico della vegetazione il silenzio profondo era rotto soltanto dal ronzio incessante degli insetti e dal cinguettio intermittente di un uccello che osava sfidare il sole di mezzogiorno come tu che si è nascosto in casa disse Gloria imbronciata eppure gliel'ho detto un milione di volte che è contro le regole corrugando indispettita la fronte strinse le labbra in una smorfia ostile me si diresse decisa verso la casa a due piani che sorgeva in fondo al vialetto era troppo tardi ormai quando sentì il fruscio alle sue spalle seguito dal suono caratteristico dei passi pesanti di Robby si girò di scatto giusto in tempo per vedere il suo compagno di giochi sbucar fuori trionfante dal suo nascondiglio e correre verso l'albero Tana aspetta Robby gridò delusa e contro le regole avevi promesso che non avresti cominciato a correre finché non ti avessi trovato i suoi piedi di bambina potevano ben poco davanti ai passi da gigante di Robby ma a pochi metri dalla meta Robby rallentò di colpo l'andatura strascicando le gambe con uno scatto finale Gloria lo sorpassò anzi mando e riuscì a toccare per prima la corteccia dell'agoniato albero Tana poi si girò raggiante verso il fedele robot e con la più nera ingratitudine ricompensò il suo sacrificio rinfacciandogli crudelmente la sua scarsa abilità di corridore Robby non sa correre cantillenò in falsetto con tutto il fiato che i suoi otto anni le consentivano lo posso battere quando voglio lo posso battere quando voglio Robby non rispose naturalmente perlomeno non a parole inscenò invece una pantomima allontanandosi da Gloria che lo inseguì e schivandola di stretta misura finché lei si trovò a correre in cerchio attorno a se stessa nel vano tentativo di acchiapparlo Robby strillò la bambina fermati e si mise a ridere con piccoli singulti che la lasciarono senza fiato alla fine il robot si girò di colpo e la sollevò in aria facendola roteare a Gloria sembrò che il mondo per un attimo si dissolvesse in una vacuità azzurra verso la quale si protendevano bramose le cime verdi degli alberi poi si ritrovò di nuovo sull'erba appoggiata a una gamba di Robby e con la mano ancora stretta intorno a una delle sue forti dita metalliche dopo un po' riuscì a riprendere fiato imitando uno dei gesti abituali di sua madre si passò una mano tra i capelli scompigliati senza ottenere alcun risultato poi si guardò il vestito per controllare se non fosse strappato cattivo disse battendo la mano sul petto di Robby ti darò le scolacciate Robby si fece piccolo piccolo e si nascose la faccia tra le mani no Robby disse allora Gloria non te le do le scolacciate ma adesso tocca a me nascondermi perché tu hai le gambe più lunghe e avevi promesso di non correre finché non ti trovavo Robby fece cenno di sì con la testa un piccolo parallelepipedo dagli angoli smussati che era attaccato al parallelepipedo molto più grande del torso per mezzo di un perno corto e flessibile poi obbedì all'ordine e si appoggiò all'albero tenendovi la faccia contro una sottile pellicola di metallo gli coprì gli occhi lucenti mentre dal corpo usciva un ticchettio intenso e irregolare adesso non guardare e non saltare qualche numero lo ammonì Gloria correndo a nascondersi i secondi furono scanditi con perfetta precisione allo scoccare del centesimo le palpebre del robot si sollevarono e i suoi lucenti occhi rossi perlustrarono l'orizzonte soffermandosi un attimo su di un pezzo di stoffa colorata che spuntava da dietro un masso Robby avanzò di qualche passo e si convince che Gloria era nascosta proprio lì tenendosi sempre fra Gloria e l'albero Tana si avvicinò piano piano al nascondiglio quando la bambina fu chiaramente visibile e non pote più iludersi di non essere stata scoperta le puntò il dito contro battendosi l'altra mano contro la gamba e emise un suono metallico Gloria sbucò da dietro al masso con aria imbronciata ma hai guardato esclamò pur sapendo che non era vero ma adesso sono stufa di giocare a nascondino voglio che tu mi porti a cavalluccio Robby però era offeso per l'accusa immeritata così si sedette pesantemente sull'erba e scossa la testa massiccia Gloria cambiò immediatamente tono e cominciò a blandirlo su Robby non dicevo sul serio lo so che non hai guardato fammi fare cavalluccio ma Robby non intendeva cedere così in fretta fissò ostinato il cielo e scosse la testa con maggior convinzione di prima ti prego Robby prendimi in groppa Gloria gli circondò il collo con le mani rose stringendolo in un abbraccio poi cambiò umore per l'ennesima volta e si ritrasse se non mi porti a cavalluccio mi metto a piangere disse facendoli broncio in preparazione delle lacrime indifferente a quella spaventosa minaccia Robby scosse la testa per la terza volta Gloria fu costretta a giocare il suo asso di briscola allora disse accalorata non ti racconterò più le favole nemmeno una davanti a quell'ultimatum Robby capitolò subito senza porre condizioni a noi energicamente tanto che le giunture metalliche del collo scricchiolarono poi sollevò con cautela la bambina e la prese a cavalluccio sulle sue spalle larghe e piatte Gloria lasciò subito da parte il broncio ed emise un grido di gioia la pelle metallica di Robby mantenuta alla temperatura costante di 21 gradi da induttori ad alta resistenza collocati all'interno del corpo era gradevole al tatto e il rumore dei tacchi di Gloria che battevano ritmicamente contro il petto del robot era davvero delizioso fai finta di essere un aliante Robby un grande aliante dalle ali d'argento tieni le braccia aperte forza Robby devi aprirle se vuoi essere sul serio un aliante la logica del discorso era ferrea Robby diventò l'aliante d'argento e le sue braccia si protesero come ali pronte a volare sospinte dalle correnti d'aria Gloria si inchinò leggermente verso destra facendo girare la testa del robot in quella direzione Robby compie una virata stretta rombava il motore dell'aliante fischiavano le armi di cui era dotato i pirati dell'aria stavano attaccando e le mitragliatrici dell'apparecchio cominciarono a crepitare i pirati morivano come mosche ne ho beccato un altro gridò Gloria e anche altri due svegli i ragazzi disse poi con enfasi siamo a corto di munizioni se levò il braccio per prendere la mira e sparò con eroico coraggio mentre Robby si trasformava in un'astronave dal muso tozzo che sfrecciava nel vuoto alla massima velocità il robot attraversò di corsa il campo fino allo spiazzo che si apriva all'estremità opposta poi strappando un gridolino di sorpresa alla sua passeggera infiammata dal combattimento si fermò di colpo e la depose sul soffice tappeto erboso Gloria ansimava e boccheggiava esclamando ogni tanto appena riprendeva fiato come è stato bello Robby aspettò che si fosse calmata del tutto poi le afferrò una ciocca di capelli e la tirò con dolcezza cosa vuoi? disse Gloria sgranando gli occhi come a far capire che non immaginava proprio il significato di quel gesto ma la grossa babysitter di metallo non si lasciò ingannare dalla sua finta ingenuità e tirò la ciocca con più forza ho capito disse la bambina vuoi che ti racconti una favola Robby annui quale? Robby tracciò nell'aria con un dito un semicerchio ancora? protestò Gloria ti avrò raccontato cenerentola almeno un milione di volte non sei stufo di sentirla è una favola per bambini piccoli Robby tracciò un altro semicerchio nell'aria ne va bene Gloria raccolse le idee ripensò ai particolari della storia comprese le numerosi varianti di sua invenzione poi disse sei pronto? allora c'era una volta una bella bambina di nome Ella Ella aveva una matrigna molto cattiva e due sorellastre molto brutte e molto cattive e Gloria era arrivata al punto culminante della favola Robby che pendeva dalle sue labbra e la guardava con occhi scintillanti stava spiegando come fosse scoccata mezzanotte e il bel vestito di Ella fosse tornato ad essere di colpo lo straccio che la bambina indossava durante il giorno ma proprio in quel momento una voce interruppe il racconto Gloria era una voce femminile un po' aspera come di chi avesse già chiamato non una ma molte volte e nel tono seccato si coglieva una sfumatura d'ansia che pareva in fondo più forte della rabbia la mamma mi chiama disse Gloria senza troppo entusiasmo sarà meglio che mi porti a casa Robby Robby obbedì prontamente perché in qualche modo si rendeva conto che conveniva obbedire alla signora Weston senza la minima esitazione il padre di Gloria non era quasi mai a casa durante il giorno tranne la domenica e quel giorno era appunto domenica ma quando c'era aveva i modi della persona cordiale e comprensiva la madre di Gloria invece metteva a disagio Robby che quando la vedeva provava sempre la tentazione di svignarsela la signora Weston scorse la figlia e la robot nell'attimo in cui emergevano dall'erba alta che le aveva nascosti e rientrò aspettandoli in casa mi sono sgolata fino a farmi venire la raucedine Gloria disse poi severa dove eri ero con Robby rispose la bambina con voce tremante ci stavo raccontando cenerentola e mi sono dimenticato che era ora di pranzo ah sì è un peccato che se ne sia dimenticato anche Robby poi come ricordandosi solo all'ora della presenza del robot la signora Weston si girò verso di lui e disse puoi andare Robby Gloria non ha bisogno di te adesso quindi aggiunse brusca e non tornare finché non ti chiamo il robot voltò le spalle poi però esitò sentendo Gloria che insorgeva in sua difesa ma aspetta un attimo mamma lascia che resti qui non ho ancora finito di raccontargli cenerentola io ho promesso che gliela avrei raccontata e non ho finito Gloria ti assicuro che sarà buono mamma non ti accorgerai nemmeno di lui lo farò sedire in un angolo e non dirà una sola parola cioè non farà un solo gesto è vero Robby Robby chiamato in causa a noi con il suo testone Gloria se non smetti subito ti proibirò di vedere Robby per un'intera settimana va bene disse la bambina abbassando gli occhi però cenerentola è la sua favola preferita io non ho finito di raccontargiela ti piace tanto il robot uscì dalla stanza con aria sconsolata e Gloria soffocò le lacrime George Weston era soddisfatto lo era sempre la domenica pomeriggio un buon pranzo abbondante sotto il pergolato un bel divano morbido e un po' sdrucito in cui sdraiarsi dopo una copia del Times da leggere con le pantofole ai piedi e niente camicia addosso come era possibile non essere soddisfatti la soddisfazione tuttavia gli passò quando vide entrare sua moglie dopo dieci anni di matrimonio era ancora così inconcepibilmente stupido da amarla e certo gli piaceva sempre stare in sua compagnia ma la domenica pomeriggio era sacra per lui invece al dopo pranzo ci teneva molto a starsene in santa pace per due o tre ore così fissò gli occhi sull'articolo dove si parlava della spedizione Lefebvre a Yoshida diretta verso Marte che sarebbe partita da Base Luna e sembrava avere buone probabilità di successo e finse di non vedere la moglie la signora Weston aspettò per due minuti pazientemente poi impazientemente per altri due e infine ruppe il silenzio George mh? ho detto George ti spiace metter giù quel giornale un attimo e guardare me? il giornale cadde con un fruscio sul pavimento e Weston si girò verso la moglie con aria annoiata cosa c'è il tesoro? sai benissimo cosa c'è George si tratta di Gloria e di quell'abominevole macchina che abominevole macchina? senti non fingere di non sapere di che cosa sto parlando quel robot che Gloria chiama Robbie non la lascia un momento e perché dovrebbe? il suo compito è proprio di accudirla e poi non è certo un'abominevole macchina è di gran lunga il miglior robot che ci sia sul mercato è Cristo mi costa la metà del reddito di un anno ma valeva la pena comprarlo è molto molto più in gamba di metà del personale del mio ufficio allungò la mano per raccogliere il giornale da terra ma sua moglie fu più svelta e glielo soffiò ascoltami bene George non intendo che mia figlia sia affidata a una macchina per quanto efficiente questa possa essere non ha un'anima e chissà che pensieri passano per quella testa i bambini non sono fatti per essere accuditi da un affare di metallo e quest'idea quando è che ti è venuta in mente disse Weston aggrottando la fronte ormai Robbie sta con Gloria da due anni e tu finora non mi sembravi preoccupata all'inizio era diverso era una novità mi sollevava che si occupasse lui della bambina e poi avere un robot era di moda ma adesso non so i vicini cosa c'entrano i vicini senti rifletti un po' un robot babysitter è infinitamente più fidato di una creatura in carne ed ossa Robbie è stato costruito proprio per quell'unico scopo essere il compagno di giochi di un bambino gli hanno creato sin nei minimi particolari una mentalità proiettata verso quel fine è matematico che sia fedele affettuoso e gentile si tratta di una macchina costruita per questo puoi dire forse altrettanto per gli esseri umani ma qualcosa potrebbe andare storto una una e qui la signora Weston rimase incerta perché non aveva familiarità con i meccanismi interni di un robot una piccola vite potrebbe allentarsi e così quell'orribile mostro impazzirebbe e non riuscì a dare forma completa al suo pensiero benché fosse perfettamente chiaro sciocchezze sentenziò Weston con uno scatto involontario di nervosismo è davvero assurdo quando abbiamo comprato Robby abbiamo discusso a lungo della prima legge della robotica sai benissimo che un robot non può recare danno a un essere umano e che se comincia a funzionare male si disattiva del tutto molto prima di poter contravvenire alla prima legge è matematicamente impossibile che impazzisca e poi due volte l'anno faccio venire qui il tecnico della US Robots perché revisioni accuratamente quella povera macchina e insomma è da escludersi che Robby vada in tilt così come è da escludersi che tu ed io diventiamo matti all'improvviso anzi e semmai più facile che si verifichi quest'ultima eventualità ma poi come credi di poterlo sottrarre a Gloria provò ancora una volta a raccogliere il giornale ma sua moglie infuriata lo buttò nella stanza accanto George lo vuoi capire che Gloria si rifiuta di giocare con chiunque non sia Robby ci sono dozzine di bambini e bambine con cui potrebbe fare amicizia ma non le interessano non si avvicina nemmeno a loro se non sono io a spingerla non va bene che una bambina cresca così tu vuoi che sia normale no? che sia in grado di prendere il suo posto nella società non hanno senso le tue paure Grace fa finta che Robby sia un cane ho visto tanti bambini affezionati più al cane che al proprio padre un cane diverso George bisogna che ci sbarazziamo assolutamente di quell'orribile macchina puoi rivenderla alla compagnia mi sono informata e so che si può ti sei informata senti un po' Grace cerchiamo di evitare che questa discussione degeneri terremo quel robot finché Gloria sarà più grande non voglio sentir più parlare dell'argomento e così detto il signor Weston uscì infuriato dalla stanza due sere dopo la signora Weston accolse il marito sulla porta di casa devi ascoltarmi George disse in paese la gente comincia a pensare male pensare male di che? fece a Weston infilandosi in bagno e aprendo l'acqua per coprire con il rumore ogni possibile risposta della moglie la signora Weston aspettò poi disse di Robby Weston uscì dal bagno con in mano l'asciugamano ma di che cosa diavolo stai parlando? disse rosso in viso per la rabbia no le prove di quanto dico si sono accumulate a poco a poco io all'inizio ho cercato di far finta di niente ma adesso sono costretta ad affrontare la situazione quasi tutti in paese considerano Robby pericoloso di sera i bambini non permettono neppure di avvicinarsi a casa nostra ma se noi a quel robot abbiamo addirittura affidato nostra figlia sai com'è la gente non è mica molto ragionevole quando si parla di queste cose allora che vada al diavolo con una frase così non risolvi il problema io in paese devo fare compere tutti i giorni e la gente la vedo per forza la città poi è ancora peggio per quel che riguarda l'argomento robot a New York hanno appena approvato un'ordinanza che vieta ai robot di circolare in strada dal tramonto all'alba d'accordo ma non possono impedirci di tenere in casa un robot Grace ormai ho capito che ti sei messa in testa di cacciare via Robby però i tuoi sforzi sono inutili la risposta è ancora no Robby resta ma Weston amava sua moglie e quel che era peggio sua moglie lo sapeva George Weston in fondo era soltanto un uomo poveretto e sua moglie usò fino in fondo tutte le arti da cui il sesso maschile più ingenuo e fiducioso cerca giustamente ma inutilmente di difendersi durante la settimana seguente Weston gridò almeno dieci volte Robby resta con noi e non si discute ma la sua risposta suonava sempre più fiacca ed era accompagnata da un gemito ogni volta più triste e lamentoso infine venne il giorno in cui Weston si rivolse alla figlia con aria colpevole e le propose di andare in paese a vedere uno spettacolo di Visivox molto bello Gloria batte le mani tutta contenta può venire anche Robby disse no cara rispose il padre rabbrividendo al suono della sua stessa voce non è permesso portare i robot al Visivox ma gli potrai raccontare tutto quando torni a casa si inceppò nelle ultime parole e distorse lo sguardo quando tornò dal paese Gloria era al settimo cielo e il Visivox era stato davvero molto molto bello aspettò che suo padre portasse la jet macchina nel garage sotterraneo poi disse non vedo l'ora di raccontare tutta la storia a Robby babbo quanto gli sarebbe piaciuto assistere allo spettacolo è stato favoloso soprattutto quando Francis Fran tornando indietro bello tranquillo è incappato proprio in uno degli uomini leopardo e se le è dovuta dare a gambe rise ricordando la scena ci sono davvero gli uomini leopardo sulla luna babbo credo di no disse questo un distratto solo è divertente far finta che ci siano ormai non poteva più continuare ad armeggiare intorno alla macchina doveva affrontare la situazione Gloria attraversò il prato di corsa Robby Robby gridò poi si fermò di colpo vedendo un bel colli che dalla veranda scudinzolava e la guardava con languidi occhi neri oh che cani delizioso Gloria salì i gradini si avvicinò con prudenza e lo accarezzò ma per me babbo sì Gloria disse la madre che li aveva raggiunti è davvero delizioso con tutto quel pelo morbido e poi è molto buono gli piacciono le bambine so fare dei giochi eh certo e tanti anche vuoi vederne qualcuno sì subito ma voglio che lo veda anche Robby Robby per un attimo rimase perplessa poi aggrottò la fronte scommetto che se ne sta rintanato nella sua stanza perché non l'ho portato al visivo se si offeso gli spieghi tu come stanno le cose babbo a me potrebbe non credere ma lui sa che tu non racconti mai bugie Weston strinse le labbra si girò verso la moglie ma non incontrò il suo sguardo Gloria si voltò e si precipitò giù per le scale della cantina gridando Robby vieni a vedere cosa mi hanno regalato il babbo e la mamma mi hanno regalato un cane un attimo dopo era di ritorno spaventata mamma Robby non è nella sua stanza dov'è non ci fu risposta George Weston tossì e ostentò un improvviso interesse per una nuvola che correva senza meta nel cielo Gloria sul punto di scoppiare a piangere con voce tremante ripete dov'è Robby mamma la signora Weston si sedette e attirò a sé sua figlia con dolcezza non prendertela Gloria credo che a Robby se ne sia andato andato e dove dove è andato mamma non si sa tesoro se ne è andato e basta l'abbiamo cercato cercato tanto sai ma non siamo riusciti a trovarlo vuoi dire che non tornerà mai più disse Gloria sgranando gli occhi inorridita e può darsi che lo ritroviamo presto continueremo a cercarlo intanto potrai giocare col tuo bel cagnolino guardalo si chiama Lampo e sa non lo voglio quell'odioso cane io disse Gloria con le lacrime agli occhi voglio Robby voglio che mi li trovi Robby a quel punto l'emozione diventò troppo intensa per essere espressa a parole e la bambina scoppiò in un pianto disperato la signora Weston buttò un'occhiata al marito in cerca di aiuto ma poiché lui continuava a fissare il musonito la nuvola dondolandosi sui piedi toccò a lei incaricarsi di consolare la figlia perché piangi Gloria Robby era solo una macchina un brutto ammasso di metallo senza vita non che non era niente una macchina strellò Gloria dimenticando nella fuga la grammatica era una persona come te e me e gli era mio amico lo riveglio indietro ti prego mamma lo riveglio indietro la madre gemette sconfitta e lasciò Gloria nel suo dolore lascia che si sfughi a piangere disse al marito ai bambini la tristezza passa presto tra qualche giorno non saprà neanche più che quell'orribile robot è esistito ma il tempo dimostrò che la signora Weston era stata un po' troppo ottimista certo Gloria smise di piangere ma smise anche di sorridere e diventò sempre più taciturna e scontrosa a poco a poco la sua apatia e il suo malumore fiaccarono la resistenza della signora Weston che si sarebbe anche arresa se non si fosse trovata nell'impossibilità di ammettere davanti al marito di avere avuto torto poi una sera piombò in soggiorno con l'aria della persona infuriata e si sedette incrociando le braccia il marito allungò il collo per guardarla al di sopra del giornale disse cosa c'è Grace quella bambina George oggi ho dovuto rimandare indietro il cane Gloria non poteva neanche sopportare di vederlo mi sta facendo venire l'esaurimento nervoso Weston mise giù il giornale e fissò la moglie con un barlume di speranza negli occhi forse dovremmo riprendere con noi Robby si può fare sai posso mettermi in contatto con no replicò lei decisa non ne voglio nemmeno sentir parlare non bisogna cedere così facilmente mia figlia non sarà allevata da quel robot dovesse anche continuare a pensare a lui per anni e anni Weston deluso riprese il giornale in mano un altro anno di queste discussioni e imbiancherò i capelli prima del tempo grazie tante per l'aiuto George disse lei gelida gloria ha bisogno soltanto di cambiare ambiente è chiaro che stando qui l'è impossibile dimenticare Robby come potrebbe mai se ogni albero e ogni sasso glielo ricordano è davvero la situazione più assurda che mi sia mai capitato di vedere pensa una bambina che si strugge perché ha perso il suo robot beh torniamo a bomba che cambiamento d'ambiente avevi in progetto la porteremo a New York in città e d'agosto poi ma hai idea di come sia New York in agosto non ci si resiste milioni di persone ci resistono benissimo perché non hanno un posto come questo dove andare se non fossero costretti a rimanere a New York non ci starebbero sicuro beh anche noi siamo costretti partiremo subito o meglio appena avremo fatto i preparativi in città Gloria troverà tante cose interessanti e tanti amici e così tornerà allegra e riuscirà a dimenticare quella macchina Dio santo gemette la sua voce ma più debole se penso a quei marciapiedi di asfalto sciolto è un dovere che abbiamo replicò la signora Weston irremovibile Gloria in un mese è calata di due chili e mezzo e la salute della mia bambina mi stappiò a cuore del tuo attaccamento egoistico alle comodità è peccato che tu non abbia pensato alla salute della tua bambina prima di privarla del suo compagno di giochi borbottò Weston tra sessi Gloria mostrò subito segni di miglioramento appena le annunciarono l'imminente gita in città non ne parlava molto ma quando lo faceva appariva contenta ansiosa di partire al più presto tornò a sorridere e a volte mangiava perfino con l'appetito di un tempo la signora Weston era assai compiaciuta e ne approfittò per vantarsi della propria vittoria con il marito che restava ancora scettico sai George è tutta servizievole mi aiuta a fare le valigie e chiacchiera allegramente come se non avesse un pensiero al mondo è proprio come ti avevo detto basta sostituire i vecchi interessi con dei nuovi commentò il marito poco convinto speriamo che tu abbia ragione i preparativi portarono via poco tempo la signora Weston fece mettere in ordine la casa di città e assunse una coppia di custodi per quella di campagna quando arrivò finalmente il giorno della partenza Gloria era quasi tornata ad essere la bambina di un tempo e non accennò mai neanche una volta a Robby tutta allegra la famiglia prese un girotaxi per andare all'aeroporto Weston avrebbe preferito usare il suo autogiro privato ma era un biposto senza spazio per i bagagli e salì sull'aereo di linea che stava per partire vieni Gloria disse la signora Weston ti ho riservato un posto vicino al finestrino così puoi guardare il panorama Gloria esultante si affrettò lungo il corridoio premette il naso contro lo spesso vetro trasparente disegnandovi un ovale bianco e guardò in tenta fuori quando i motori di colpo cominciarono a rombare il suo interesse crebbe era ancora troppo piccola per provare paura vedendo il suolo scomparirle sotto quasi come fosse risucchiato da una botola e per sentire come un pericolo il fatto di pesare all'improvviso il doppio del normale ma non era così piccola da non restare profondamente affascinata da quelle che le succedeva intorno solo quando la terra fu così lontana da sembrare una trapunta composta di tanti piccoli quadrati Gloria si staccò dal finestrino e tornò a guardare a sua madre arriveremo presto in città mamma chiese strofinandosi il naso gelato e guardando con interesse la chiazza di umidità che il suo respiro aveva formato sul vetro e che adesso stava scomparendo piano piano fra circa mezz'ora tesoro disse la signora Weston poi con un'impercettibile sfumatura d'ansia giunse non sei contenta non credi che ti divertirà in città con tutti quei palazzi e la gente e tante belle cose da vedere andremo al Visivox tutti i giorni poi al circo e ad altri spettacoli anche in spiaggia e sì mamma rispose Gloria senza entusiasmo l'aereo stava passando in quel momento sopra un banco di nubi e Gloria fu subito attratta dall'insolita visione delle nuvole sotto l'apparecchio poi il cielo fu di nuovo limpido e la bambina si rivolse alla madre con una misteriosa aria di intesa lo so perché andiamo in città mamma ah sì la signora Weston era perplessa perché tesoro non me lo hai detto perché volevi farmi una sorpresa ma io lo so per un attimo Gloria si compiacque della propria perspicacia poi si mise a ridere allegramente andiamo a New York a cercare Robby vero per ritrovarlo con l'aiuto degli investigatori quel discorso colse George Weston proprio mentre beveva un bicchier d'acqua e i risultati furono disastrosi Weston emise un gemito strozzato spruzzò l'acqua tutto intorno poi fu preso da un accesso di tosse quando si fu calmato restò immobile con il viso rosso per lo sforzo per la figura che aveva fatto e per la sete che non era riuscito a placare la signora Weston restò padrona di sé ma quando Gloria ripetì la domanda con un tono di voce più ansioso anche lei trovò difficile mantenere la calma può darsi rispose Asper ma adesso smetti di far domande e stai un po' buona santo cielo New York City nel 1998 dopo Cristo era un paradiso per i turisti più di quanto lo fosse mai stata nel corso della sua storia i genitori di Gloria se ne resero conto subito e cercarono di sfruttare al massimo la situazione seguendo scrupolosamente le direttive della moglie George Weston sistemò le cose in modo che in ufficio si potesse andare avanti senza di lui per almeno un mese così fu libero di dedicare il suo tempo al compito di allontanare Gloria dall'abisso in cui stava precipitando come era suo stile Weston affrontò l'impresa con efficienza scrupolosità e senso pratico prima che il mese fosse passato aveva già fatto tutto quello che era possibile fare Gloria fu portata fino in cima al Roosevelt Building alto a mezzo miglio e da lì contemplò un po' impaurita il panorama di Guglie e Palazzi che si estendeva lontano confondendosi all'orizzonte con i campi di Long Island e le pianure del New Jersey visitarono gli zoo dove la bambina spaventata ma anche deliziosamente eccitata ebbe modo di vedere un vero leone vivo e vegeto e di deludersi apprendendo che i custodi gli davano da mangiare carne cruda di animali anziché come si era aspettata lei esseri umani sempre allo zoo Gloria chiese insistentemente e perentoriamente di vedere la balena poi la famiglia Weston dedicò parte della sua attenzione anche ai vari musei alle spiagge ai parchi e agli acquari Gloria fu condotta lungo il fiume Hudson su un battello a vapore arredato secondo l'antico stile un po' folle che usava negli anni venti partecipò a un volo dimostrativo che la portò su nella stratosfera dove il cielo diventò d'un blu violace o trapunto di stelle mentre la terra nebbiosa appariva come un'immensa ciotola concava a bordo di un sottomarino dalle pareti di vetro Gloria si inabissò nelle acque dello stretto di Long Island e vide un mondo verde e ondeggiante dove esseri strani quasi inverosimili la sbiorciavano per poi fuggire via la signora Weston interessata più alle cose concrete portò la figlia nei grandi magazzini e lì Gloria scoprì un altro regno delle fate benché di natura diversa da quelli precedenti così quando il mese fu agli sgoccioli i Weston erano ormai convinti di avere fatto tutto il possibile perché la figlia dimenticasse definitivamente il robot scomparso ma non avevano la sicurezza matematica di essere riusciti nell'intento restava il fatto che Gloria ovunque andasse era attratta e affascinata da qualsiasi robot incontrasse per caso anche quando le capitava di guardare uno spettacolo entusiasmante magari mai visto prima si distraeva subito se coglieva con la coda dell'occhio il movimento di una sagoma metallica la signora Weston si sforzò in ogni modo di tenere Gloria lontana da tutti i robot la vicenda raggiunse il suo punto critico durante la visita al museo della scienza e delle industrie il museo aveva annunciato uno speciale programma per bambini durante il quale sarebbero state mostrate meraviglie scientifiche comprensibili anche per un pubblico infantile i Weston naturalmente avevano messo subito quella visita nell'elenco delle cose da fare assolutamente fu mentre contemplavano con estremo interesse il funzionamento di un potente elettromagnete che la signora Weston si accorse a un tratto di come Gloria non fosse più con loro dopo il primo momento di panico Grace Weston riacquistò subito il suo sangue freddo e chiamando in aiuto tre inservienti cominciò a cercare con cura la figlia ma Gloria non era certo tipo da mettersi a girare senza meta era particolarmente decise e risolute per la sua età sotto quel profilo aveva certo ereditato i geni della madre al terzo piano aveva notato un grande cartello che indicava l'itinerario da seguire se si voleva vedere il robot parlante aveva letto attentamente la scritta poi capendo che i genitori non intendevano andare nella direzione giusta aveva messo in atto il piano che le era parso più ovvio approfittando di un momento di distrazione della madre si era allontanata e aveva seguito le indicazioni del cartello il robot parlante era un marchigegno assai poco pratico che aveva solo un valore pubblicitario una volta ogni ora un gruppo di visitatori accompagnato dalla guida entrava nella sala e rivolgeva caute domande all'ingegnere robotico di turno l'ingegnere sceglieva le domande più adatte ai circuiti del robot e gliele trasmetteva era un rito abbastanza stupido a qualcuno poteva anche interessare di sapere che il quadrato di 14 è 196 che la temperatura di quel particolare momento era di 22 gradi e la pressione atmosferica di 774 mm di mercurio e che il peso atomico del sodio è di 23 ma non occorreva certo la presenza di un robot per soddisfare quelle curiosità specie considerato che il robot in questione era una massa immobile e ingombrante di fili e bobine che occupava più di 25 metri quadrati di spazio erano poche le persone che si prendevano la briga di tornare per un secondo giro di domande ma una ragazza sulla quindicina se ne stava seduta su una panca ad aspettare tranquilla il terzo turno c'era solo lei nella sala quando Gloria entrò Gloria non la degnò di un'occhiata per lei in quel momento gli esseri umani avevano scarsa rilevanza tutta la sua attenzione era concentrata su quel grosso mostro metallico con le ruote per un attimo esitò un po' sgomenta era una macchina molto diversa da tutti i robot che aveva visto lei con voce acuta disse per piacere signor robot tu sei il robot parlante vero signore non era proprio sicura ma aveva l'impressione che a un robot capace di parlare fosse il caso di rivolgersi con grande gentilezza la ragazza sulla quindicina un tipo magro e poco attraente di colpo si animò tirò fuori un piccolo note e cominciò a scrivere in fretta con calligrafia infantile si sentì un ronzio di ingranaggi oliati poi una voce dal timbro meccanico e priva di accenti ed inflessioni tuonò io sono il robot che parla gloria lo fissò delusa in effetti la macchina parlava ma il suono proveniva dal suo interno non c'era una faccia a cui rivolgersi signor robot puoi aiutarmi signore disse la bambina il robot parlante era stato progettato per rispondere alle domande ma di solito gli venivano trasmesse solo quelle cui sapeva rispondere così era molto sicuro delle proprie capacità per cui disse io posso aiutarti grazie grazie signor robot tu hai per caso visto robbie chi è robbie è un robot signor robot gloria si mise in punta di piedi è alto circa così signor robot cioè più di così ed è molto bello ha anche la testa sai voglio dire tu non ce l'hai ma lui si signor robot il robot parlante era rimasto all'inizio del discorso un robot si signore un robot come te solo che naturalmente non sa parlare e sembra una persona vera un robot come me si signor robot il robot parlante per unica risposta uscì in un biascichio incoerente e in una serie di strani suoni meccanici la fondamentale generalizzazione postulata da gloria vale a dire l'idea che lui non fosse un oggetto singolo bensì il membro di una vasta categoria era diventato troppo per le sue capacità intellettive pieno di buona volontà tentò di assimilare il concetto con il risultato che una mezza dozzina di induttori si fusero subito cominciarono a ronzare piccoli segnali d'allarme a quel punto la ragazza poco attraente uscì dalla sala aveva raccolto abbastanza materiale per la sua tesina sugli aspetti pratici della robotica destinata all'esame di fisica 1 quello fu il primo dei molti saggi che susan calvin scrisse sull'argomento gloria con ben celata impazienza aspettava ancora la risposta della macchina quando sentì alle sue spalle una voce gridare eccola la voce riconobbe subito era quella di sua madre cosa ci fai qui cattiva disse la signora weston la cui ansia si era già trasformata in rabbia non capisci che hai quasi fatto morire di paura tuo padre tua madre perché sei scappata via nella sala piombò di furia anche l'ingegnere robotico e con le mani nei capelli cominciò a chiedere chi dei presenti avesse manomesso la macchina non sapete leggere i cartelli urlò non si può entrare qui se non si è accompagnati da una guida gloria afflitta alzò la voce per coprire il rumore ero venuto solo per vedere il robot parlante mamma pensavo sapesse dove è Robby visto che sono tutti e due dei robot poi ripensando di colpo a Robby scoppiò in un fiume di lacrime io devo trovare Robby mamma devo trovarlo la signora Weston represse un urlo di rabbia dio santo George disse al marito torniamo a casa non ce la faccio proprio più quella sera George Weston uscì e rincasò molto tardi la mattina dopo si avvicinò a sua moglie con una strana aria di malcelata soddisfazione mi è venuta un'idea Grace a proposito di che? chiese la moglie con cupa indifferenza a proposito di Gloria non vorrai mica dirmi che intendi riprenderti quel robot eh no no certo allora continua pure può anche darsi che ti ascolti le mie idee sembra che non abbiano ottenuto alcun risultato bene ti spiego cosa ho pensato tutti i problemi nascono dal fatto che Gloria crede che Robby sia una persona non una macchina è logico quindi che non possa dimenticarlo ecco se noi riuscissimo a convincerla che Robby non era altro che un groviglio di lamine d'acciaio e fili di rame animati solo dall'elettricità non pensi che smetterebbe presto di volergli bene la mia è una terapia psicologica d'urto se capisci cosa intendo dire e come metteresti in atto il tuo piano? non è semplice dove credi che sia andato ieri sera? ho convinto Robertson della US Robots and Mechanical Man Corporation a farci fare domani il giro completo del suo stabilimento andremo tutti e tre e vedrai che a visita finita Gloria si sarà ben persuasa che i robot non sono vivi la signora Weston sgranò leggermente gli occhi e nel suo sguardo balenò ad un tratto qualcosa che somigliava all'ammirazione lo sai George? disse mi sembra proprio un'ottima idea eh come tutte le mie disse George Weston gonfiando il petto il signor Struthers era un direttore generale scrupoloso e piuttosto inclini alla luqua città grazie a queste virtù sommate insieme i Weston durante il giro dello stabilimento poterano essere illuminati ad ogni passo da spiegazioni accurate esaurienti e forse in certi casi addirittura eccessive la signora Weston tuttavia non appariva seccata anzi più volte interruppe il direttore per chiedergli di ripetere le cose in un linguaggio più semplice che fosse comprensibile anche a gloria lusingato che si apprezzasse così la sua eloquenza il signor Struthers diventò ancora più loquace e comunicativo se mai era possibile George Weston invece contrariamente alla moglie dava segni di impazienza scusate Struthers disse interrompendo l'altro nel bel mezzo di una dissertazione sulla cellula fotoelettrica non avete un reparto in fabbrica dove sono utilizzati solo i robot ah sì certo certo Struthers sorrise alla signora Weston in certo modo si tratta di un circolo vizioso robot che creano altri robot naturalmente è un processo di lavorazione che non possiamo usare sempre in tutti i settori perché i sindacati non ce lo permetterebbero ma possiamo produrre un numero limitato di robot servendoci esclusivamente del lavoro dei robot è una sorta di esperimento scientifico vedete e qui accalorato sbatté il pansene sul palmo della mano ci sono cose che i sindacati non capiscono e lo dico io che di solito ho sempre appoggiato molto il movimento dei lavoratori ma non capiscono che l'avvento dei robot anche se all'inizio provocherà un po' di disoccupazione alla fine inevitabilmente sì Struthers disse Weston ma il reparto cui avete accenato si può vedere o no sono sicuro che è estremamente interessante ma sì certo certo il signor Struthers inforcò veloce il pansene ed espresse la sua frustrazione con lievi colpi di tosse seguitemi prego restò stranamente zitto accompagnando i tre in fondo a un lungo corridoio e a una rampa di scale che scendeva giù a un piano inferiore poi però appena furono entrati in una sala ben illuminata e piena di ronzii meccanici le chiuse si riaprirono e il torrente di spiegazioni riprese il suo corso normale eccoci qua disse con orgoglio solo robot ci sono cinque uomini che fungono da supervisori ma non stanno nemmeno in questa stanza in cinque anni cioè dall'inizio del progetto non si è mai verificato alcun incidente e naturalmente gli automi che vengono montati qui sono abbastanza semplici ma alle orecchie di Gloria la voce del direttore generale suonava ormai da un pezzo come un mormorio lontano soporifero quella visita le sembrava piuttosto stupida e senza senso anche se in effetti le permetteva di vedere molti robot nessuno di essi però somigliava anche solo vagamente a Robby per cui lei li osservava con aperto disprezzo notò che nella sala non c'erano esseri umani poi si accorse che in mezzo ad essa c'erano sei o sette robot indaffarati intorno a un tavolo rotondo e sgranò gli occhi incredula la sala era molto grande i robot si trovavano a una certa distanza e non poteva esserne sicurissima ma uno di loro sembrava sembrava era Robby il suo grido lacerò l'aria e uno dei robot intorno al tavolo inciampò e lasciò cadere l'arnese che aveva in mano pazza di gioia Gloria si infilò tra le sbarre della ringhiera prima che i suoi genitori potessero fermarla atterrò agilmente un metro più giù nel pavimento sottostante e corse intorno al suo Robby con le braccia aperte e i capelli al vento e i tre adulti raggelati inorriditi videro quello che la bambina nella sua eccitazione non aveva visto un enorme trattore automatico che avanzava veloce con grande fracasso sui suoi cingoli a Weston occorse una frazione di secondo per riprendersi dallo sbigottimento ma quella frazione di secondo si rivelò fatale perché non era più possibile raggiungere Gloria in un tentativo disperato Weston scavalcò la ringhiera anche se era chiaro ormai che non c'erano speranze il signor Struthers si sbracciò come un matto per far capire ai supervisori che dovevano fermare il trattore ma i supervisori erano soltanto esseri umani e per agire avevano bisogno di un minimo di tempo al posto loro agì Robby prontamente e con estrema precisione partì in quarta dalla direzione opposta divorando con le sue gambe di metallo lo spazio che lo separava dalla padroncina tutto si svolse in un attimo con un rapido movimento del braccio Robby afferrò Gloria senza rallentare minimamente il passo sicché lei rimase quasi senza fiato Weston non ebbe il tempo di capire cosa stesse accadendo più che vederlo sentì Robby sfracciarti accanto e si fermò di colpo sbalordito il trattore intersecò il cammino di Gloria un attimo dopo Robby proseguì per altri due o tre metri e poi si fermò a singhiozzo con un rumore sordo Gloria riprese fiato subì l'assalto affettuoso dei suoi genitori che la strinsero al petto più e più volte quindi corse da Robby per quel che le riguardava non era successo niente solo aveva ritrovato finalmente il suo vecchio compagno di giochi ma la signora Weston nel frattempo aveva cambiato espressione da sollevata che era si era fatta sospettosa si girò verso il marito e nonostante l'aria sciatta e scomposta che aveva in quel momento riuscì ad apparire terribile sei tu che hai architettato tutto questo vero? George Weston si asciugò con un fazzoletto la fronte sudata aveva le mani che ci tremavano e pote solo accennare un sorriso fiacco e sanque Robby non è stato progettato per il lavoro di fabbrica proseguì la signora Weston qui non poteva essere di nessuna utilità lo hai fatto mettere apposta in questa sala in modo che Gloria lo trovasse su confessa sì è vero disse Weston ma Grace come potevo sapere che l'incontro sarebbe avvenuto in circostanze così drammatiche in ogni caso Robby le ha salvato la vita lo ammetterai pure non puoi pretendere di separarli di nuovo Grace Weston riflettì si girò a guardare Gloria a Robby con aria assorta Gloria stringeva le braccia intorno al collo del robot con tale violenza che avrebbe soffocato qualsiasi creatura non fosse stata di metallo e intanto balbettava frasi inquarenti con frenesia quasi isterica le braccia di acciaio al cromo del robot capaci di piegare a mezzaluna una sbarra di ferro dello spessore di sei centimetri erano tese in un abbraccio delicato e affettuoso e i suoi occhi brillavano di un rosso intenso bene disse infine la signora Weston penso che potrà restare con noi finché non sarà arrugginito grazie a tutti